Ciao, buonasera, ci sono? Allora, non lo so che cosa è successo in realtà, perché il modio mi ha dato proprio rosso, rosso, credo che hanno fatto qualcosa loro. Credo che hanno fatto qualcosa loro perché non è stato quello che succede di solito, cioè è stato che si è proprio studiata. Lino che ha combinato, mo' vediamo, c'è credo, visto che comunque ancora in, come si chiama, in fase di diagnostica, secondo me hanno fatto qualcosa loro perché hanno proprio spento, capito? Sì ragazzi, tanto, vediamo, vediamo, però è buono perché poi dopo li chiamo e gli dico, anzi, sapete, mo' lo facciamo insieme, in teoria se ancora, eh sì sì esatto. La chat in live è bloccata, sì sì, mo' cambiamo, non fa niente. Ciao, Solama, buonasera, io sono una sarda con padrone pauretano che abita in Vene in provincia di Padova, è proprio che io ho trovato un pizzerino pauretano che fa tutte queste cose che dici, ma no, che buono, se vieni in provincia di Padova li portiamo, ma qua, mo' vengo a mangiare, arrivo. Eh sì, teco, vabbè, è come se avessimo startato di nuovo tutto da capo. Ciao, Psycho, bentornato, vi vediamo che succede, dai, vediamo che succede. Vediamo che succede, ciao Mars, buonasera, vabbè, dobbiamo purtroppo abbracciarci un secondo sta croce. Fatemi controllare una cotta, è telefonata collettiva? No, no, mo' mando una segnalazione, dico, buonasera, guardo, lo facciamo insieme, poi iniziamo a giocare, eh, che ci siamo rotti i coglioni. Allora, caduta, connessione, e io che la sub l'ho fatta, dico, una settimana scorsa, sì, chiedo conferma. Allora, eh, sì, è questo, lo facciamo un secondino insieme, perché appunto era up da 30 ore, io spero solo che non hanno, boh, a 950 sub una 12 ore, si potrebbe pure fare. Allora, sì, sono con l'Ethernet, non mi sono nemmeno riconnesso col cellulare né niente, perché ho proprio voluto vedere che succedeva. Cioè, vi ripeto, i problemi che avevo prima era il modem che andavano letteralmente rosso, però si accendeva subito. Ciao, Balba, vediamo se ricapita, perché così magari intervengono. Ciao, Lino, stasera è stato molto facile trovare la tua live, saranno tutte quelle attive, in che senso? Elfritto è pesante anche per le connessioni, certo. Ciao, Step, buonasera, buonasera. Che ci vogliamo fare? Ciao, Marco, buonasera. Sì, è questo il mio modem. Vedi? Sa scritto? La tua linea è stabile nelle ultime 24 ore, ma mi è appena andata via la connessione. What? No, è un problema della team. Mi è appena andata via la connessione. È appena andata via. Non l'ho risolto. Cioè, è stata... A che ora si è andata la live, la connessione? Ciao, Cigno, tutto bene? Abbiamo appena avuto una disconnessione, cioè, in realtà, si è proprio riavviato il modem. Quindi, se hanno fatto un riavvio, di solito un riavvio lo fanno loro. C'è stata una disconnessione alle 16 e 23, va? Le 16 e 23. Allora... Ecco qua. Segnalo. Mannaggia loro. Eh, ma potrebbero anche essere stati loro. Potrebbero anche essere stati loro. Loro mi hanno detto di non inviare più segnalazioni. Perché tanto la controllano loro. Me ne frega un cazzo. Ma è invisibile con le pubblicità. Eh, ma fo. I'm sorry. Ti ricordo il punto di cercare di tipo Prime, in caso. Allora, fatemi vedere una roba. Fatemi vedere una roba. Allora, siamo pronti? Vogliamo un pochettino giocare? È l'unica che non sta streamando. Mi dispiace. Cioè, in realtà, penso che ti faccia piacere. Allora, allora. Secondo me sì. Comunque hanno fatto loro un riavvio. Allora. Siamo pronti. Siamo pronti. Non ce ne fotte proprio. Oggi sarà una giornata molto particolare. Proprio perché, appunto. Ciao Leira, buonasera. Faranno tutti Zelda. 77.000 persone online. Ma non ce ne fotte proprio. Let's show, ragazzi. Eccoci qua. Vediamo che succede, ragazzi. Se dovessimo avere di nuovo problemi. Ciao Runner. Buonasera. Buonasera. Poi vediamo che cosa fare. Per ora, noi ci divertiamo. Noi vogliamo il nostro canale. Ciao Tato. Buonasera. Sicuramente non ci poteva la dicondizione. Ma sti cazzi. Sti cazzi. Speriamo. Che non ricapiti. No, non questa. Questa. Dovete l'ho giocato? Ma lo giocheremo appena mi arriva. È che mi deve letteralmente arrivare ancora. Quindi quando mi arriverà, lo faremo. Cosa dovevo fare? Allora. Questo. Ecco qua. Ci siamo. Mi tolgo la cam. Che tanto utilizzeremo. La nostra. via sedia via arrivederci ciao marmotta buonasera va bene hero si riverta si riverta si riverta anche per noi allora allora non ho capito cosa deve ancora arrivare quando arriva lo giochiamo quando mi arriva una versione di pelle no runner potremmo fare quella di roblox se vuoi potremmo letteralmente giocare quella di roblox ciao cate buone se è il titolo che vuol dire ma che significa ma che domande mi stai facendo non ho capito che domande mi stai facendo ma puoi essere un po' più chiaro nel mentre meno uno è parte del treno in che senso grazie Chris pronto chi è vabbè metto qua che oggi non giochiamo Zelda quando mi arriva non mi arriva oggi ciao Alessandro grazie mille no Houston allora mo ti spiego allora non credo giocheremo quello lì con i film raga perché mi fa pop ansia mi fa pop ansia giocare quello se sto sincero allora allora ciao Saro abbiamo un bel po' di film da fare no 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 mori uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici uh ma no batti cuore batti cuore subito proprio grazie Neon per aver regalato un operamento a sexy bukei grazie di cuore sono a fuoco già mai male è perfetto perfetto detto un po' così ma rispetta si iniziamo con la dolcezza oggi audio basso mo alzo bene tu sposta la videocamera in su o in giù e poi eccoci eccoci nel cut out studio meglio qui è dove si separano le immagini dallo sfondo come esco da qui vabbè vai vai magnifico esci dall'inquadratura come esco digitalizziamo lo sfondo aiuto non va è finito lo spazio non riesco vabbè non serve ecco torna davanti alla videocamera e no è il momento di visitare cut out studio aspettate abbiamo un problema ciao cane eccoci nel cut out studio dobbiamo far vedere un pochettino di rosso vai è un bacino esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio concluso eccoci qui ma quanto verde c'è perché c'è tutto sto verde oggi cazzo però mi piacerebbe avere un po' più meno verde vediamo hai il pene ma mi sa bene avere il pene abbiamo veramente tanto tanto verde vabbè in realtà sti gran cazzi però sarebbe stato bello avere un po' meno verde è la mia aura ma vero affè rifacciamo riproviamo eccoci nel cut out studio vai qui è no sono anze ah tu dici ti metti un po' più avanti esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio concluso adesso torna davanti alla videocamera ma poco meglio dai sistema la luce non posso più illuminato di questo non si può ma si l'ombra è molto più è molto forte dietro eh ma non so perché è molto forte oggi non so perché è molto forte di solito cioè le altre volte era bello tranquillo sarebbe più luce nella stanza aspetta proviamo a fare una cosa ah no è impossibile eh sì la posizione interna va pochino in posto ragazzi tanto tanto più va schifo meglio è vai e purtroppo sono solo io scendi il numero corretto se mi metto un po' più avanti ma sì ma chi si è in posto vai se no tolgo i green screen entra in uno dei quattro con ordini per fare la foto ti verrà così aspetta ma chi sono cuore solitario migliore amico appunta appuntamento al buio o appuntamento al buio eh no io devo trovare l'amici cioè l'amore chi sono ma no stupisel chi sono sembra che c'ho il cuore solitario io farei appuntamento al buio chat proviamo appuntamento al buio e vediamo che succede perché secondo me con appuntamento al buio ci va a fare l'appuntamento se no no capi ma fa il protagonista e che cazzo è il protagonista che so io chi è è il cuore solitario vediamo vediamo se che foto so lo scopriamo lino voli entra in uno dei quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare ecco sono i rubacuori vai ma come lo vedo io andiamo vediamo che cazzo succede chi è la prima volta che vede sto gioco ma non c'ho proprio il pisello ma com'è possibile oggi è proprio una merda rispetto agli altri giorni e concentrati sulle tue energie colpisci i blocchi fino a spaccarli è illuminato al massimo ma c'ho un pistolone no di nuovo i blocchi di merda è il team of warbeams oh però si rompe meglio la roba ok vabbè oh ma sono un fantasma letteralmente ho scensurato il pisello però vedi che mo' si rompono le cose bastardi come quando vedi come ti permetti non lo sa eh non lo sa non lo sa non la fa in cura ho voglia di sushi anche io non è vero ragazzi ma stai zitto fino al riflesso di un panda vediamo che non lo so perché si vede di merda oggi oggi è proprio una merda vediamo tanto più sono brutti meglio è tocca a te sono a metà signore ma sono sono un fantasma sono un fantasma indica la videocamera e ridi azione un gradino guarda ecco non serve la bar balla balla una giga come? devo ballare che cos'è? una danza folk cosa sto facendo? rimani su se resta su se poco nevo festeggia una grande vittoria eh mamma bravo bravo la ditta mi ha disconnesso un'altra volta me l'ha messo in culo vai ecco quello è un ball ah no napole non c'ho la bandiera purtroppo sono triste vediamo magari è stato un riavvio continuiamo vado spot della vodafone come devo fare come devo fare amici miei cari ma guarda dragon bot suona i tamburi ti prego dopo sistemiamo per me va bene così vado più veloce fai così veloce 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 antivis sinistra a destra sinistra a destra a di più a di più hai dato il massimo sono un fico secondo me colpro bisel qua dopo vediamo un po' mi ricordo di clippare per diventare vip assolutamente sì assolutamente sì chi è? maestro sono pronto pronto a tutto anche se non ho più il pancio guarda 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 ma perché ma perché sono un invisibile posizionati nel contorno fingi imbarazzo fingi imbarazzo azione eh ci credo oh così bene e un'altra piangia di rotto perché non mi funziona in perché non lo so più è rotto con io perché non mi funziona sono piccolo è già un successo clamoroso stupendo vai siete bravi bravi in cui sono un campione l'aveva detto oggi su telegram che avrebbe pianto ma veramente veramente l'ho detto vai continuo sono qui ma dopo dobbiamo assolutamente sistemare tu anche oh no di nuovo per fortuna non mi si vedono i movimenti mi posso muovere ma non mi vedete è fatta po' è fatta po' ho censurato il mio bacino ho censurato il mio bacino non vale ma è impossibile di usare l'uva l'uva vedi in realtà non lo sto usando esattamente hai visto non ti vede manco la gamma per ora va bene così vediamo io lo so perché però strano giocatore 1 desiderato sul set ci sono cioè io addirittura ho messo in griskin perché dovrebbe aiutare e invece pare che non è così ah perché non è che l'ho fatto non c'è alcun punteggio segui solo le mie istruzioni e recita come una star mi si vedono almeno le braccia fissa la rana con sguardo dai da rana azione non fermarti facciamone un'altra ancora ciao veniti punta il dito in avanti come se avessi visto qualcosa di scioccante ma quello è un mammica no fammi vedere che sai fare è sempre un po' maniera certo non va di pari passi non va di pari passi letteralmente la roba sì ma infatti se non mi hai qualche impostazione ok balla a tempo di musica no no ragazzi dobbiamo ballare di nuovo ma perché ma sembra fine così è giusto io mi faccio non ballo ma perché mi censura il cazzo questo gioco non capisco basta un censurarmi ho un corpo non ho paura di farlo vedere guarda sono un contenitore non lo so sembra che sto per terra mi hanno tagliato il braccio ma bella cosa come si parla poi bo di stronzo così ah però questo me lo prendi in avvivo che poco di merda sì così il tuo sangue meglio te lo dico in possa dimenati dimenati la mia figura si sembra più piccola sono finto grazie sono diventato un giocattolino giocatore 1 sul set sì ho un buco nello stomaco muovi quel setelino oh 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 pronto chi è lino ma hai davigno qualcosa buonasera sembri avere un buco allo stomaco è il momento di metterti sotto il riflettore ci sono segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento prendimi no dammi un bacio forte azione rimani sul set guarda in aria come se avessi visto un maiale volante scusatemi azione stai andando bene stai andando bene c'è veramente stai rossendo scusami senti gli applausi ma che facce sono con la lingua no brutti che facce sono abbiamo abbiamo finito grazie a dio vediamo il film pronto in sala silenzio che dobbiamo essere pronti voglio proprio vedere che cosa è uscito da questa melma tutta rotta mia ma che cazzo il figlio di King Kong che cosa come si intitola il sequel giustamente ciao vediamo se abbiamo scelto bene trovare l'anima gemella non è una cosa semplice e se c'è di mezzo un'amicizia le cose si complicano romanticismo emozioni tranquillità è questo che cerchiamo e se i problemi non si risolvono si può riprovare senza fermarsi ma a volte la persona cercata è più vicina di quanto si possa immaginare batti cuore perché è San Valentino tutto l'anno ciao again questo era molto bello devo dire la verità era molto bello non lo voglio rivedere perché eh vabbè ma non fa niente vuoi salvare dai sì certo che lo salviamo certo che lo salviamo ciao insano peccato che eh vabbè è vero amore è rigigante oh rifallo con Allen ma veramente allora vai pronto sono commesso ma perché ci stava il salame sulla torta perché era buono ragazzi ma chi se ne importa le proporzioni dai su 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 ciao insano è la seconda volta che lo giochiamo ciao light buonasera buonasera è finita la stanza poi non è che posso andare dal mio vicino e gli dico se mi fa entrare a casa sua è finita ciao light buonasera ho imparato che sui siti di incontri trovi solo criminali infatti bisogna stare attentissimi mi raccomando ma dove l'ha trovato su sto gioco su ebay sicuro hai provato ma probabilmente mi farebbe anche entrare prova a chiedere ma vero è gentile su quello ci credo dai adesso risettiamo tutto e facciamo bene ciao light buonasera buonasera allora ve lo dico per chi è qui per la prima volta purtroppo quando devi salvare ci vuole un po' di tempo ciao craig lino vedi se riesce a risolvere per quei buchi sì ho appena detto oh ragazzi oh però ma che fate chi è che ha messo il suono del rutto ora ciao sere ciao andrea cioè dai però veramente togliete il suono del rutto subito ho capito ma qua sta diventando un porcille questa live dai però franco togli subito il suono togli subito il suono riscattabile vi banno se riscattate di nuovo il rutto solo piriti ciao chester buonasera come stai ma non lo so al vol è che purtroppo per salvare credo che è la prima volta che lo stai vedendo tu questo gioco per salvare ci vuole un po' di tempo e credo per non farti rompere i coglioni hanno messo ste domande per farti passare un po' di tempo capito che tu sia per questo eh ragazzi ragazzi speriamo addio che non ricavi di nulla ciao web buonasera ciao buonasera ok ragazzi prossimo film intercontinentale ciao malforma e bentornata per i 5 ciao buonasera come stai malforma di sottolineatura boxa sottolineatura legna di morbidi da città signore e signori benvenuti ai premi you're in the movies grazie ancora malforma e do adesso il momento che tutti aspettavamo le nomination per il migliore attore ma insomma ho avuto una disconnessione prima quindi non sto bene però dai si va avanti bello mio si va avanti sono però io secondo nominato miglior amico terzo nominato quarto nominato yeah ma solamente uno sarà il vincitore chi e il premio sempre ciao sempre ciao jobs per il migliore attore va al vieni sul palco e accetta questo prestigioso riconoscimento vuoi dire qualcosa non dimenticare di sorridere di nuovo più di due più di due più di due vai tanto di famo tutti l'attrezzatura funzioni a dovere l'immagine è a fuoco certo le luci sono ok qui per sicurezza verifica l'indicatore certo ora posizioniamo la videocamera assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare o troppo grandi eccoci nel cut out studio qui è dove magnifico esci dall'inquadratura così quattro per favore attendi ritaglio vediamo un po' adesso torno davanti alla videocamera sono io è il momento di rivisitare cut out studio è giusta la tua inquadratura con il filmato sullo sfondo? sì dai sì vai ci siamo chat ci siamo ora vediamo il pipo chiudilo il fantasma entra in uno dei quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato allora io vorrei fare uno dei freschi sposi e non il fantasma ma è la mia pelata allora no io vorrei fare vorrei fare allora chi facciamo? i freschi sposi e se poi il fantasma è più divertente allora fantasma o sposi? fantasma o sposi? dai fantasma o sposi? sposi o fantasma? fantasma o sposi? fantasma? vediamo sposi? e se facciamo tutte e due? facessimo tutte e due? eh? se facciamo tutte e due? guarda che è un casino po' dopo dura troppo dopo i fantasma o sposi? facciamo un fantasma e uno sposi? prendi i snorlax facciamo due? e dai proviamo questa volta la voglio provare aspettate aspettate un secondo è venuta un'idea fermi tutti però credo tutti no però mi sfondo ragazzi no dopo mi cioè dopo è troppo pesante no 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 facciamo uno perché dopo non ce la faccio dai facciamo uno dei fantasmi facciamo uno dei fantasmi ma dovete essere presenti nello stesso tempo nella scena non lo so dai faccio il fantasma entra in uno dei quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare sono proprio il fantasma pronto chi è? ok c'è una macchia bianca sullo schermo dove dovrebbe essere la tua faccia mi sa eh sì scamo no voglio fare il fantasma è più divertente sono un fantasma il brunellino vado maronna mi stupisella ma perché ho il buco? come? vado come si fa? vabbè c'è poco il buco dai vado ciao bleeding bleeding la scimmia si scatena ah io mi fanno malissimo dei bracci ora troppo veloce sono troppo veloce 99 scimmie sono state sul letto no troppe vai sono io dimmi l'audio un po' basso ok ma tu vedi un po' uno che cazzo devi fare nella vita basso pronto non c'è alcun punteggio segui solo le mie istruzioni e recita come una star pronto ma secondo me è veramente su microfono lo cazzo posizione del contorno babbo natale come? oh 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 mi c'è allegria vai e un'altra più allegro dico sì non si può avvicina le mani alla bocca e grida bu 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 azione bu vai forza coraggio bu bu ok di nuovo va bene anche quello allegria oh in imbarazzo azione ci siamo quasi imbarazzo di questo ragazzi fantastico imbarazzo di questo non so proprio vera star mi sento effettivamente in imbarazzo c'ho un po' di buchi nello stomaco ma dai va bene ciao Pirco buonasè da po' mi imbarazzo imbarazzo il mio imbarazzo è quello così cioè mi imbarazzo dentro capi o no ho guardato la luce ragazzi è un problema spacca i blocchi di pietra ora schiarisciti le idee e concentrati sulle tue energie colpisci i blocchi fino a spaccarli barro sono fortissimo rantumata qui finisce la pietra addio roccia guarda come sono diventato forte mi sono allenato anni la fesse mamma spacca la pietra anni e anni un'altra roccia fatta a pezzi bracciallo è a pezzi si è spaccata basta qui finisce la pietra basta rimettaci a me se si fasi rantumata boom si è spaccata addio roccia peccato solo che i giochi sono spesso ripetuti è l'unico peccato è veramente l'unico peccato se ci fossero più giochi comunque prossimo il microfono lo metto qui giù e vedo tanto come mi sentite così magari non si vede nello schermo che se non si vede nello schermo secondo me è meglio tocca a te non c'è alcun punteggio segui solo le mie funzioni sono più lontano però vabbè recita come una star perché vedete me ne ha proprio fastidio dopo dobbiamo fissa l'ape avvicinati alla camera pronto chi è bella lino se impari a spaccare bene i tuffi posso presentarti a mio nonno che lavora nei cantiere è sempre un lavoro alla fine bene continua così un po' più lontani ma meglio ero molto concentrato a fissare quest'ape ma con gli occhi e no muovo la testa anche è meglio giocatore 1 vieni subito sul set si che vuoi ancora romperò cazzo basta fammi riposare treno in corsa oh no come è una scena d'azione fingi di essere sul tetto di un treno circondato da banditi colpici cattivi e abbassati per evitare i cartelli mi sento male attenzione però non farti stendere ah azione ah no devo colpire chi l'abbivo chi va al lavoro socio ma io gli schiaffi sul culo e poi vanguno non ci riesco vai vanguno 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 ah ah ciao ma sono mosche ciao 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 via via mosche arrastali 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 ma tu arrastali arrastali ma com'è giusto arrastali quasi grazie grazie gentile arrastali restali i social sono le ombre credo è il momento di metterti sotto il riflettore non c'è alcun punteggio segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento ok tornando il pisello vabbè questo è un classico posizioni di metterti nel contorno ancora vai hai una cosa da padrone del mondo come azione su vai bene eccone un'altra fissami intensamente come ne fissi ancora mi piace più dire ma perché è così basso ecco azione dai forza coraggio mad di vanno 8 fantastico sei una vera star ma che già sono stanco che sguardi intensi stavo guardando tantissimo pare che ti stai facendo un po' è vero se ti devo guardare intensamente mi devo concentrare tantissimo da là mi devo concentrarlo sul set per favore si sono qui mi dica lancia il fango di nuovo il fango per tenerlo a bada sono pronto da marcus ci sono è una roba che non ha senso sto riflesso prendi il fango prendi maialo maialo gioca con l'argilla l'hai fatta ora è un maialino felice è un maialino è un maialino su questo siamo bravissimi su questo siamo bravissimi bel lavoro ragazzi abbiamo finito mo vediamo il film ora sei un maialino maialino felice non io lui è un maialino felice io non so un maial hai capito non ti permette cari amici del fango vediamo un pochettino che cosa è uscito da questo nuovo film incredibile ho un po' paura se devo essere sincero che cosa fai quando sei a casa e non sei da solo cosa succede quando qualcuno deve trasferirsi in casa e non hai ancora fatto le valigie paranoia ma ci sono due volte toilette stregate peccato non sono ucciso dal cesso sarebbe stato bellissimo uscire dal bagno cene molto pericolose terrore apparizioni notturne paura peccato veramente serate spaventose due più due questo era un po' una merda non vorrai mai più rimanere da solo questo qui era un po' una merda invece vorrei proprio restarci da solo ti dirò non mi è piaciuto non lo salvo nemmeno questo questo qui era un po' banalotto diciamo niente di eccezionale ciao simo buone sera come stai questo qui non lo voglio salvare deludente si rifa per il ceno no 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 si rifa andiamo avanti andiamo ne abbiamo tantissimi da fare ne abbiamo tanti 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 nell'ultimo slide vennero le morroide si oh no signore mi dica mi dica signore benvenuti ai premi you're in the movie tutti li facciamo meri tutti e adesso il momento che tutti aspettavamo mi dica e nomination per il migliore attore sono primo nominato chissà chissà gli ha vinto chissà secondo nominato terzo nominato e sono proprio io e il premio you're in the movies per il migliore attore purtroppo no va al fare effettivamente la dici è stata bravissima accetta questo prestigioso riconoscimento vuoi dire qualcosa non dimenticare di sorridere io vorrei capire perché mi si è sfondato il green screen questo vorrei capire però grazie a tutti per il discorso gentili gentili a tutti ma arrivederci guarda io per sfizio no un secondo ah ci sono vediamo senza il green screen com'è vediamo senza non so che il green screen com'è cioè proprio la mia roba è sfizio voglio vedere è sfizio voglio vedere come senza non mancano scopo un ignaro passante scompare come essere stato testimone di una ratina subito controlliamo che l'attrezzatura funzioni a dovere immagine a fuoco aspetta buono sì ora è a fuoco le luci sono ok qui per sicurezza verifica l'indicatore ok ora posizioniamo la videocamera assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare o troppo grandi oppure troppo piccoli se qualcuno è troppo basso o troppo alto bene tu sposta la videocamera sai che può essere la banana eccoci nel cut out studio ora spegne le luci magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo si fresco per favore attendi ritaglio concluso adesso torna davanti alla videocamera perché la banana sembra adesso male è giusta la tua inquadratura con il filmato sullo sfondo aspettate ripacciamo sì 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 poi ripacciamo infatti eccoci nel cut out studio ok ora posizioniamo la videocamera assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare eccoci nel cut out studio magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio concluso adesso torna davanti alla videocamera può essere meglio è il momento di rivisitare cut out studio è giusta la tua inquadratura con il filmato sul fondo meglio di questo non è meglio di questo è impossibile questa posizione si è perfetta tu tu non sono bugerellato almeno sembra però cioè sembra che non sono bugerellato vediamo metto uno vai quanti sono gli attori scegli il numero corretto rapina testimone quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare oh no ragazzi siamo il testimone no no ma più che altro è è la cam dell'xbox è questa questa non è la mia fotocamera è la cam dell'xbox quindi più di questo non si può fare oscar meritato grazie ho tolto il pisello dall'inquadratura quindi non ci dovrebbe essere più infatti sembra di no colpisci i bersagli finchè non scompaiono oh no sono un testimonial se non colpisci il bersaglio e beh eh vai vieni e pugni non so come si possano arrangere in piedi sono mortissimo tra posto sembri nato con i guantoni lo so troppo fantastico altro che il sei ma veramente ragazzi ma fatemi il piacere con quella sigaretta in mano sembro Rocky Tromboldi fortissimo vado pronti tocca a te non c'è alcun punteggio normale segui solo le mie istruzioni e recita come una star il nome dei padri figli spiritus nuota verso la superficie come si ruota ehi stai andando forte si ruota così si ruota non lo so cammina sul posto guardandoti intorno azione fammi vedere che sai fare e un'altra questo è un capolavoro aiuto mi girano la testa per far sta roba tantissimi che camminata da ganso hai visto ok vado scava più velocemente che puoi come scava come si scava è ora di scavare scuoti l'impugnatura del martello che sento tabbo non ho capito ma bellissimo bello mi piace però perché si è rirotta addio 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 mi girate continua così eccellente hai trovato ciao beppe fresco let's go voglio assolutamente vedere che succede ora per niente trash per niente proprio nemmeno un poco vedi come invece sta posto boh allora mi devo mettere un po' più di qua secondo me proprio lo faccio eh però vuole questo nel contorno come per chiedere aiuto di nuovo aiuto 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 mi prego aiuto dopo la spostiamo un po' per favore aiutatemi bene poi facciamo un po' di modifiche oh ottimo non andare via aiutatemi l'eroe azione più patos devi devi metterci più patos fantastico guarda lì che eroe l'eroe di gomma l'eroe di gomma come un'eroe è superman ciao henry è superman oh è basso portare sei chiappe portami le tue insetticida me lo vedo io vedi qua è molto meglio oh no ciao lora come stai e dove stanno si scifo ecco il tuo picnic guarda feste andate via sono superman e basta ah 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 dai via ben fatto grella boom come stai ripongo mi spiace mi spiace che stai ripongo giocatore 1 per favore vai no ma no pensavo fosse finito il film voglio vederlo voglio vedere il film voglio vedere il film vai vai non c'è alcun punteggio ciao posto il nome nemmeno troppo no fammi la faccia più scioccata che puoi sono un attore nato è morto subito che sudore dopo una grande fatica che sudore azione stai andando bene ciao saresti ci sta di nuovo il fisello non ci sta niente ne fa c'è sembra il fisello nei miei live ma ci spostiamo un po' più verso quella parte che secondo me è meglio secondo me è meglio ok oh si sono già qui mi dica tutto mi dica ciao neonna dopo roteo oh no vedi se sto qui non lo fa però mi devo mettere forse qua strano non sembra impossibile no è difficile non riesco a correre oggi sono lento sono lento sono diventato ansia è che c'ho il pipo dietro la schiena c'ho il pipo nel fianco eh si ce l'hai visto ciao cactus purtroppo è così lì non puoi fare dei versi anime su non ancora è un film intero questo come più veloce questo è il mio più veloce azione vallo su vai ascio mi fa male il pisello qua fantastico sei una vera star tu finito e ora possiamo andare al cinema eh finalmente vediamo vediamo sono super curioso secondo me questa è tanta roba eh ho molto hype per questo oh oh stavo corriendo velocissimo che dici tabù ero l'uomo più veloce al mondo no oh più veloce di quello scomodo testimone non esistono crimini perfetti quando sei l'unico testimone i pericoli sono sempre in agguato è un gioco mortale dove ogni minimo errore viene pagato con la vita in seguito pedinato suspense dall'inizio alla fine il pericolo è ovunque il rischio è continuo dove ti rifuggeresti se tu sì proprio tu fossi lo scomodo testimone questo è bellissimo lo scomodo testimone questo si salva questo è da salvare tutto questo è arte madonna mia nuovo trailer non ancora non ancora nuovo trailer no ciao della ok surstupendevole bello veramente bello veramente questo era bellissimo sì è stato molto molto bello mi sono proprio divertito è stato bello ma è questa roba bella di questo gioco ragazzi magari perdi 20 minuti con un trailer che non è incredibile però dopo ne trovi un assurdo e ce ne mancano ancora tanti siamo ancora a metà gioco e volete vedere che non troveremo mister figo 2 ma su via ma è ovvio che lo troveremo ovvio che lo troveremo piano piano questo qua ci vorrà un pochettino a salvarle ci vorrà un pochettino bello 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 l'unica cosa è che bisognerebbe un po' sistemare la qualità ma purtroppo non ci posso fare niente ah un'idea aspettate vediamo se così è meglio so mentre cerco di sistemare è che sapete che cosa è che ci sta ancora il sole ma nasce la miseria quello del sole purtroppo crea ombre sulle sponde con la qualità di pongo è meglio però non troppo pongo cioè il pongo si prova senza griskin no senza griskin è terribile è ancora peggio si vedono troppe almeno il griskin volendo cioè in post produzione si può togliere volendo perché letteralmente il griskin però vabbè ma che pelle che le grippe vengono massimo lunghe un minuto eh sì vuoi dei tuoi fianchi abbronzare attaccati a me come? ciao Maria Toa buonasera come va? spero tutto bene benvenuto benvenuto stiamo facendo un po' di pazzarie diventi un pezzo di emmental si alvor diventiamo letteralmente dei pezzi di fang questo qua è lunghetto eh ci sta mettendo un po' di lemma a salvare comunque dai speriamo che il resto della live prosegui bene chat e che quello veramente sia stato solo un riavvio fatto dalla team apposita vediamo 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 però appunto cioè quel tipo di disconnessione se loro mi stanno veramente esaminando la linea l'avranno vista no? vero chat? vero? metto a pianze che poi sapete che in realtà non ho mai avuto tutti questi problemi nel far venire qualcuno a casa mia a controllare di solito vengono subito cioè se te dico ma sì se veramente la stanno esaminando madonna mia no ma è serio è letteralmente come ce l'avevo l'altra volta e funzionava capito? cioè è che magari oggi ci sta qualche luce un po' diversa ma non c'è nessuno che lavora nella team qua signore e signori benvenuti ai premi your in the movie che mi viene fede fede mandami a un gira morto e adesso il momento che tutti aspettavamo le nomination per il migliore anche se ci fosse affitta di niente o o o domeni probabil sono proprio io il testimone secondo nominato ecco bravo non scondi il fede mamma mia mi rimò poi la chiappa mi sa nominato quinto nominato chi va chi va chi va va a me va il testimone non scomodo facciamo un piccolo discorso dai vieni sul palco e accetta questo prestigioso riconoscimento vuoi dire qualcosa non dimenticare di sorridere aspetti tocca a me un secondo mi scusi adesso mi viene ancora più strano perché ho fatto le gambe è stato molto bello grazie scusate mi stavo cercando di disegnare una cosa ho fatto un guaio alla prossima ciao ho fatto un casino ma come ho gibloccato altri film ancora è infinito non vi dirà mai questo gioco no no è che l'ho spostato un secondo la gamma l'ho fatto apposta ragno dallo spazio è certo araclidi aliene arrivano sulla terra seminando caos e devastazione siamo fuori fuoco ora siamo a fuoco mi metto qua le luci sono ok qui per sicurezza verifica l'indicatore ah ne si ora posizioniamo la videocamera no l'ha sposto la sicura che tutti si trovino nel contorno senza sembrare o troppo grandi oppure eh no così esagerando se qualcuno è troppo basso o troppo alto bene tu sposta la videocamera in su o in giù e poi riprova va bene così dai alziamo da un po' oh no drop vediamo ora ma non stiamo in serio ok 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 no 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 vabbè super giù eccoci nel vai cut out e mamita magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo vai digitalizzami tutto per favore attendi ritaglio concluso adesso torna davanti alla videocamera vedi non ci sono piselli vedete le piselli nel senso superiore che si mangiano perfetto proprio guarda guarda metto stile 2 stile 2 proviamo stile 2 quanti sono gli attori scegli il numero corretto così devo giocare solo uno grande maleravendo sono io quello vai uno oddio chi facciamo astronomo scienziato ufficiale della polizia o vittima quale facciamo l'astronomo guarda la foto di me scienziato o astronomo eh quello è casino capire chi è il protagonista diciamo di solito è il primo la vittima l'ufficial di polizia pure potrebbe essere carino il primo non dovrebbe essere il poliziotto cioè il protagonista di solito pare ma non è detto astronomo così mi leggi il loro dai facciamo l'astronomo però l'astronomo quanto può mai durare sono in dubbio cioè cazzo non si capisce chi è sono in dubbio che voglio fare la vittima no io farei l'ufficiale di polizia quasi guarda secondo me facciamo l'astronomo facciamo l'astronomo facciamo l'astronomo interpreto una barzelletta praticamente sì ciao hanno tutti lo stesso screentime standi la gang ma non le ragazze ma perché esce uno pisello già no 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 ragazzi mi sono rotti i coglioni ma prima non c'era il pisello inizia a camminare lo hai steso ma attento a non colpire le signore ciao barb sapete perché sei un vero duro colpo da capò oh quello è andato ma mi ha fastidio no lo rifarei ragazzi lo risistemerei un po' no aspetta ci stai fracassando le sagome sistemiamo in un secondo no avvia catauto studio ah ecco wait perché o pisello non ci stiamo così vedi ma ci stanno andando l'opisello ma non c'è di nuovo hai problemi con le ombre ah però vedi ma è a posto non colpire le pupe fai attenzione lo possiamo sistemare mentre stiamo giocando quindi a posto no signore no mi scusi c'è stato un problema ma attento a non colpire le signore no è capitato ciao scimmia chiedo scusa comunque si è quando mi muovo praticamente che si sminchia tutto ciao scimmia buonasera per favore non ci sono letteralmente tutti 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 che palle è arrivato il tuo momento non c'è alcun punteggio ma è bella segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento vai immaginati guardare giù in un pozzo azione bene continua così cioè non giochiamo col piccel bassi mi sfruttivo io ok di nuovo va bene così fingi sorpresa eh ah ma vedi si è sminchiato tutto azione bello grazie grazie tutto si è sminchiato fantastico sei una vera star che cristo fosse una cosa una volta che funzionasse tutto sempre impossibile ciao buonasera giocatore 1 desiderato sul set Dino che dita hai fatto sembra la metrata di prima è per colpa della telecamera afferra le bobine l'editore furioso sta lanciando oggetti dappertutto afferra le bobine donate e schiva gli altri oggetti ma lo vedo io ok le donate ciao ditta tu le donate le prendo il restante no ma fisse mamma dovresti schivarli no a questo lo prendo il resto lo schifo no a questo lo schifo ho preso e via guarda gli piselli di me grazie c'è bisogno di una barella qui se no c'è prova a fare agosto questo lascerà il segno eia grazie centrati ora no eh ma che mi concentro la mia è completa è buggata purtroppo c'è c'è è il mio bravo ne hai fatta cadere una devi afferrarle scusa ma mi stai lanciando delle cose incredibili oh non male hai salvato la maggior parte del film grazie il mio è completismo esatto il mio è completismo è diventato un titolo ma proviamo a fare dei change proviamo a fare dei change tocca a te segui solo le mie istruzioni e recita come una star piano piano sistemeremo dimmi tutto faccia più scioccata che puoi azione ah così bene bene ho messo fin dietro il vicino vediamo magari va meglio dopo ovviamente abbracciati con me per chiedere aiuto aaaah sono invisibile sono letteralmente invisibile non ho più un corpo ma va bene così che faccia sciocchina fantastico sei una vera star tu sei una star tu è un è un è sempre le stesse emozioni eh agame ma ovviamente è così no tu ciao città buonasera come stai giocatore 1 sì mi ricca ancora è basta tornato corri più veloce che puoi per sfuggire al tornato ma lo vedo io ormai non esistono più più veloce che puoi non ci sono più ma perché adesso c'è il senso il vento qui ci sono che sono queste macchie o meglio guadagno terreno si usa dire tira una brutta aria corpi più veloci per arrivato alla grotta ce l'abbiamo fatto vedi aveva ancora quattro secondi ciao beppe è il cinema dimagrente esatto ora vedremo vedremo secondo me mettendolo dietro ah basta che era un bossero con senso da due peni è il momento di metterti sotto il riflettore è solo sotto il riflettore fammi vedere se hai talento vai ormai guarda qui guardati gli occhi dal sole è perché vedi quella azione più patos devi metterci più patos più patè più patè bene un'altra chissà che cosa uscirà non ci sono ecco va bene questo è kung fu che poi è lontanissima la fotocamera professionista c'è appongio marino veramente manda a piedi ci devo andare perché non è così vero da del zelda a dire il famoso chi sto fu e questo fu giocatore uno sul set chi vuole vedere zelda si sono vedete fanno bene fanno bene allora se sono non fosse un cazzo di vantaggio ma no allora aspetta fammelo rifare un secondino che facciamo subito ecco perché minchia è solo un giro di dare un pisello porco non può ricalibrare sì lo rifaccio cioè mi sta smolecolando ero diventato una molecola perché non mi tiene sempre così esattamente almeno zelda non ha i pene al posto di metà è vero vanno ci prova magari moregge così deve essere esatto vanno eh niente possibile vivere come hai tirato ragazzi pepe già abbiamo giocato questo gioco è che si sarà buggato oggi non capisco perché sta succedendo sta roba cioè non l'abbiamo già giocato l'altra non abbiamo avuto sti problemi ragazzi abbiamo credito è che si sarà veramente no lo so cagato addosso corre il pipo tra le gambe mo' letteralmente il pipo tra le gambe la mica legale va vediamo che cosa è uscito da questo film mentre carico la sigaretta all'uva ragni dallo spazio eh magari si jaga nessuno avrebbe mai immaginato di assistere a un orrore simile qui sul pianeta chiamato terra guardati che buco sono arrivati sono affamati che schifo e hanno lanciato le loro ragnatele ma che cazzo è? mettiti in salvo sono mostruosi no sono dei giocattoli sono brutali e terribilmente pelosi terribilmente pelosi sono ragni dallo spazio proprio loro i ragni dallo spazio comunque si io riavvierei devo essere sincero vuoi rivedere il filmato? no no carino troppo lungo però vuoi salvare? no non mi è piaciuto si ragni pelosi sono estremamente pelosi sono sempre incredibili però i trailer ciao a tre signore e signori benvenuti so anche qual è il problema secondo me ma vi faccio vedere ragazzi risolviamo in un secondo ho capito qual è la luce automatica wait ciao Kira ah ho capito e nomination per il migliore attore sono primo nominato è vero Haka concordo ciao Kira topo secondo nominato terzo nominato chi vincerà? io spero non io secondo me posso non vincere in qualche modo solamente uno sarà il vincitore ci credo e il premio you're in the movies per il migliore attore va al a chi? grazie gentile vieni sul palco e accetta questo prestigioso riconoscimento vuoi dire qualcosa? non dimenticare di sorridere stavo guardando il telefono comunque ho capito qual è il problema è che c'è la luce automatica quindi ogni tanto cambia le cose e va tutta puttana ma ora risolveremo e torneremo quelli di prima ciao chi è che ha dubitato? ciao Nefro buonasera buonasera come stai? tapo? spero di sì spero di sì quindi era colpa tua colpa mia non è mai colpa mia posso ripartirà come si fa? cos'è? ah io luci diurna ah non era automatica allora era già così effettivamente ma se metto fluorescente com'è? giochami di che oddio aspetta che è sta roba? ah oddio sono tutti questi dragon bot l'avremmo fatto eh chissà quando l'abbiamo fatto no quello lì non è filmato allenamento l'audio va bene va bene vediamo così sì certo vediamo così magari sono più brutto ma è meglio non lo so ci si spera almeno non è automatico perché secondo me è automatico lo fotte per bene capito? fotte proprio tutto allora quale dobbiamo fare? no che senso il film ho sbagliato tutto nella vita dobbiamo fare il prossimo che quale vediamo quali abbiamo ragazzi vediamo un pochettino quali abbiamo sei un po' pallido meglio meglio Fox allora gira un film ricordo che questa qui è la telecamera dell'Xbox sguardo indiscreto un burbero detective deve ritrovare una persona scomparsa eh ragazzi come fai a non poter fare una roba del genere un giorno d'addio un eroe solitario naufraga su un'isola deserta scopri di non essere esattamente solo voglio fare questo voglio fare questo immagino a fuoco si è a fuoco no però devo sistemare le varie altezze no servono più luci qui puoi scegliere qualsiasi tipo di illuminazione eh riduzione sta fra l'io ah così sono buissimo la riduzione facciamo dio vediamo un po' se metto questa scende diurna automatico non fa niente ma sti pallini bianchi intorno che cosa incaldescente no secondo me va bene diurna se lo metto spento spento è perfetto così va bello alto sono a metà sono letteralmente a metà quindi non ci dovrebbe essere problema ma speriamo da zero un po' ecco qua lo metto così cioè sto a metà a posto devo stare qui e non mi devo muovere ora posizioniamo la videocamera cioè vedi che sono pure giusto quasi nel contorno il problema è che non c'entrano mai ciao bird buonasera cioè non entrerò mai non è la mia corporatura è un gioco contro gli obesi cioè contro gli obesi arrivato esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio vediamo un po' adesso torna davanti fa bo di sce guarda guarda qua che sa succedere ma vuoi devi ordinare un contro guarda qua guarda qua pazzito soffriggendo ma perché ma perché era così ma che poi in realtà guarda forse solo la parte sotto forse è la grana non mi piace il formaggio no non va bene eccoci nel cut out studio sembrano le ombre e l'abbiamo capito facciamo facciamo così seleziona avvia cut out studio per continuare non costa mai rius vai rifallo magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo se no veramente proverai senza gris fin ciao proviamo senza gris fin in un secondo per sfizio eh vai che magari ha meno ombre però ho tante cose capi guardate qua quanta roba che c'ho magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi no dice di stare al buio purtroppo adesso torna bestia cioè dice di stare al buio quindi cioè io ci provo pure ma dice di stare al buio vediamo oh madonna alziamo di nuovo i gris fin qui è dove si separano le immagini dallo sfondo seleziona avvia cutout studio per continuare ma è troppo ma proviamo per sfizio adesso sono morto esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo ma lei la posso ritaglio concluso no vedete devi stare al buio ciao vaki oh no sono diventato anch'io un pinguino è che riavvio l'app perché penso veramente si sia buggata ecco ciao buona se sono convinto si sia sfunedo ecco ragazzi senza luce frontale non puoi non si ascende nemmeno ma che sta succedendo minchia ho appena descritto vocalmente ok vai un secondo ok non ripeto solo di perdere no mi metto un pochettino più avanti sai mi metto un pochettino più avanti perché secondo me stare troppo indietro da troppe ombre al green skin infatti l'altra volta non ero così tanto indietro capi secondo me è quello ciao idas comunque l'altra volta non ero così tanto indietro e fare tutte quelle ombre è un problema quindi mi metterò un pochettino più avanti ciao luna buona se difatti l'altra volta ero enorme e vandava bene così andava bene così tanto basta che trovi l'impostazione una volta l'altra volta c'è andata buona ciao c'è mi un po' così ecco ci si ha vado così sto e vediamo che succede t'apposti semi giro il film vado quale abbiamo scelto sguardo indiscreto forse un giocatore addio controlliamo che l'attrezzatura funziona le luci sono ok qui per sicure ora posizioniamo la videocamera assicurati eccoci nel cut out studio vado magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ciao galli non dovrei essere rotto non dovrei vediamo scopriamolo vai 1 lasciamo madonna mia però l'xbox ok 1 scegli il numero corretto che il verde dietro non è un problema entra in uno uno dei quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare oh sti cazzi mi sono rotti coglioni quindi rotto no va bene così mi sono un po' rotti coglioni va bene così giocatore 1 ho bisogno di te sul set ha deciso che deve andare così vada così ha niente alle vespe aspetta fingi di essere circondato da vespe schiacciale prima che ti pongano dammi le vespe tutte le ammazziamo l'importante è che non si rompe troppo così è perfetto se gli è così siamo a posto abbattile ecco il tuo picnic guasta feste ma che feste io spero solo non mi abbia bastonato il tizio per per zelda perché se lo bianco lo volevo più è rotto meglio è no non troppo un poco un pochettino va bene un pochettino va bene tipo così va più che bene non è non è esagerato va diventando esagerato ero c'è mingga due cazzi attorno ci avevo ciao angelo buonasera buonasera felice di poterti fare un po' di compagnia ecco vedi il pizzellone segui le mie istruzioni e recita col cuore vai me lo vedo io fingi di spingere un carrello della spesa oh questo è bello l'altra cosa mi ha divertito vai azione non fermarti facciamone un'altra incredibile cosa devo fare? fingi sorpresa per me grazie gentile ragazzi ma non dovevate farmi questo bel regalo grazie bello ottimo resta lì come spingi bene? fingi di essere in ansia come come l'an come l'an non capisco questa è l'ansia bene continua così questo come si fa in ansia in ansia la senti la pressione senti è la pressione che sa dell'ansia più che altro pensa che hai perso 100 sub accadrà tra pochissimo blini dimostrarti po' che fa ma quello è meglio che far raccogliere le ciliegi in dei camp e lo va pulisci la pellicola delle bobine me lo vedo io oh no è quello vai no oh no divento piselloso togli la sporcizia dalle bobine quello è scomporto ci sei tu per dirmi cosa sono le emozioni per me quella è l'ansia ciao Trudy vado a vedere un po' le mie emozioni sono mie puliscono tutto ecco il pivo ce lo teniamo pulisci le bobine non ci deve essere puliscila e basta pulire ciao ciao c'è ancora c'è ancora dello sporco ciao no no quelle ansia non lo scomporto perché che scatole normale non ti puoi scomportare per quello non ti puoi scomportare hai pulito le bobine chiedere l'ansia a dire oh no e mo ciao ciao buonasera come lo vudisci bene ma perché lo faccio tutti i giorni giocatore 1 è il mio lavoro è il mio lavoro grazie tanto è arrivato il tuo momento sono di nuovo un pisello ma lui mi dice una roba e recita col cuore niente è proprio l'intelligenza artificiale che si rompe capì che è proprio l'intelligenza artificiale si rompe ho un buco nello sombano ci siamo quasi niente non è che sui cufi proviamone un'altra può essere girati verso la videocamera in preda allo shock ecco azione oh ottimo questo è shock se non è sporca ci sputo sopra dopo e vediamo che succede ma così viene a noi effettivamente non l'ho staccato e riattaccato ancora ah ok ti dovevi mettere una maglietta più colorata per favore sai che può essere anche Houston eh ma non ce l'ho mai il piccolo là guarda si sta disintegrando vabbè tanto contro la faccia dai forza metti in mostra le tue doti di ballerino danza al ritmo della musica e tocca le mani per la posa azione non sputare che finisci con il metro occo vero grande hai quella con il tizio sul collo eh non pensi a coprire sta merda come è la senti no freestyle faccia per me ballare eh ma è sporca muovi quel bel sellerino perché se no si avrei quella sei un ballerino favoloso guarda qua come sono bravo a ballare prova davvero superlativa sono bravissimo sei super è lava è il mo mi ho detto bagnato addosso che puzza di merda giocatore 1 desiderato sul set si lino ciao Deco tutta che puzza di bu 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 è arrivato il tuo momento non c'è alcun punteggio segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento ma capirà tanti devo asciugarmi con l'asciugatrice mi sono barchese panico con le mani in aria basta mi sono rotto il coglione avete capito va bene lo faccio sempre troppo presto aiuto aiuto lo faccio sempre troppo presto mannaggia mi sono di sé azione più pathos devi devi mettersi più pathos di questo tua madre padre dragha ecco fantastico perfetto sei una vera star ciao maleg puoi sì è vero che lo sono lo sono per davvero ci vuole essere una maglia nera una tra luce maraviglia mi metto il telefono con la torcia guarda mi metto il telefono con la torcia al dolo ecco vediamo forse servirà chi lo sa meglio di questo giocatore 1 vieni subito sul set non credo serva cioè a massimo mi servirà a farmi diventare cieco no però è vero ma a punto che succede si corre la maratona finisci il percorso nel minor tempo possibile no è proprio una roba di intelligenza che sei fatto dura e afferra le bottiglie per rinfrescarti oh no questa che sembrava che facevo i pomporsi vado oh sì sto andando forse un po' troppo a lento devo andare più veloce male perché saranno male un po' più veloce vado dammi l'acqua oh sì acqua volcati dove mi va vedo del vapore rallenta per rinfrescarti dove mi va una discreta prova di esserti allenato ho corso veramente nella vita ho corso veramente che schiappa non ti permetti da puttana rosa abbiamo finito vediamo il film prego che mentre putisco questa fotocamera disper 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 disperchio disperchio vai vediamo un po' questo film internazionale del che ci ha fatto a me io non lo dico vai prossimo di speranza sono super curioso secondo me è bello un giorno da dio un giorno da dio ti senti spossato sì 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 stanco della solita vita non ne puoi più dei vicini perché non lasciare tutto e andare lontano in paradiso ma che cazzo incontra nuovi amici balla con indigeni partecipa a banchetti di edizione bello e se dovessi avere nostalgia di casa ti aspetterà un caloroso benvenuto tipo ah me ne vado ciao come no me ne voglio andare che volete un giorno da dio perché essere una divinità paga addio bastardi ecco qua bellissimo questo ciao rosa questo era bello vuoi ridere il film no puoi salvare dai questo sì salviamo dio ok guarda poi dopo ce li rivediamo tutti dio vai è stato molto carino volevano solo mangiarti letteralmente sì volevano mangiarmi maledetti ma come si sono permessi questi qua io mi sono mi sono intanto impegnato per far di federe oh come hai fatto a scappare c'è un buco di trama c'erano un sacco di buchi padre non so se hai visto dobbiamo fare gli oscar è vero ci sarebbe una bella serata oscar però minchia dura 77 giorni no non è vero si potrebbe fare un eventino speciale volendo si può fare un eventino speciale però tanto lo so che vince mister figo raga chili chili ho problemi dobbiamo trovare più cose incredibili ciao lua se riusciamo a trovare più cose sia perché per ora vince mister figo cioè è inutile farlo vince ha già vinto ci sono i gemelli sì ma non sono alla pari di mister figo cioè mister figo è proprio meme infatti voglio sperare di trovare qualcosa di figo mo che picchia no puoi fare i pasta world banche i parts ciao bubangelo buonasera di non farlo avevo paura di aprire twitch dato che lo no 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 ciao georgia non c'è ancora arrivato tra l'altro legend of zelda quindi si può essere bello tranquillo se ne parlerà penso prossima settimana mister figo è imbattibile no non si può fare al massimo si andrebbe fatto a categorie ma vedremo mister figo sta salvando la roba e momento andiamo aspettate che salvo perché così appunto abbiamo il materiale per un'ipotetica serata degli oscar oddio quando ci sono gli oscar chat perché si potrebbe fare la serata degli oscar durante il giorno degli oscar quando li fanno già hanno fatto è troppo tardi sono arrivato oppure raga facciamo il il festival di can e facciamo finta che siamo in a fascine can in giamaica no scusatemi ci facciamo in giamaica il festival dei can tutti i drogati per terra con i bonghi e facciamo scusatemi non lo faccio più era una brutta idea sì però i pupù eh quella sì che era una bella idea dai big sì ma quando ci vuole salvare questo film internazionale il festival del dolce sì come ieri che bello ieri sera che palle e dai ma quando ci vuole eh sono pronto cambiate qualcosa salve salve signore e signori benvenuti ai premi You're in the movies chi avrà vinto? e adesso il momento che tutti aspettavamo le nomination per il migliore attore sono sì chi c'è? io me stesso primo nominato bello secondo nominato terzo nominato sono sempre io quarto nominato ma solamente uno sarà il vincitore chi chi? chi dimmelo e il premio You're in the movies per il migliore attore va al wow vieni sul palco e accetta questo prestigioso riconoscimento salve vuoi dire qualcosa? non dimenticare di sorridere io vorrei capire chi è che sta confabulando alle mie spese eh che mi fa questi poropocchi e non funziona più niente però vi ringrazio e arrivederci bravi 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 tutti bravi prossimo ragazzi prossimo film subito molto carino questo qua comunque questo qua mi ha fatto ridere ma perché ma perché ma voi siete fissati voi quello siete fissati allora ma perché sbaglio pure io sempre che è sempre un coglione guarda che mi ha combinato ho messo out premuto pure cioè non solo sbagliata categoria ma io ho detto sì pure continua mannaggia la miseria ok gira un film giriamo il film la forza di trea i tre protagonisti si allenano contro il loro acerimo rivale in questo adrenalinico film ragazzi it's the movie controlliamo che l'attrezzatura funzioni a dovere l'immagine è a fuoco eh sto contando può stare così sì no ci vuole troppo ci vuole troppo e dopo diventa noioso assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare o troppo grandi oppure troppo piccoli eh sono piccolo se uno è troppo basso o troppo alto eccoci nel cut out studio vanno dopo diventa lungo e ci rambiamo i coglioni e quello è il fatto magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi vai ritaglio concluso buonasera vedi deve essere esattamente così per tutto il film ma i zombie non hanno ancora eh sì direi di sì qua vedi non c'è problema vai speriamo gli attori uno scegli entra in uno dei quattro contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare il castiga criminali vai la mente è criminale non voglio fare il castiga criminale no la mente ma la mente sarà il cattivo capi sono tre castiga criminale voglio fare il castiga criminale un classico dei lunapark lancia la palla nel cerchio tre volte ma la vedo io per vincere un bel premio sì no ci vuole troppo pepper quello è il problema diventa non divertente poi dopo capi mezz'ora a fare questo dai vai concentrati di più sono un fico ci sei andato solo vicino sono un fico ecco come si tratta all'alanzo questo po per ti impegni puoi fare di meglio abbiamo un vincitore signore e signori va voloso sono proprio io un vero canso super tu un frigo effettivamente sembro più un frigo che un frigo non hai tutti i torti non hai tutti i torti potrei essere sia un fico che un frigo ma indovina quali sono eh chissà quanto durerà la soffinare tocca a te oggi sono molto meno stanco rispetto all'altra volta segui solo le mie istruzioni e recita come una star vai ciao Nico corri sul posto e più o meno c'è che poi non ti preoccupare quando vuoi noi siamo qui azione eh fammi vedere che sai fare porro facciamone un'altra accarezzati il mente con aria da intellettuale azione oh bene così è bene la canzonante guarda come prova a correre come no ciao Valè buon senso come va spero tutto bene come sono intellettuale sul set già mi sono allenato tanto tempo per essere così tanto intellettuale ok dai forza metti in mostra le tue doti di ballerino ma mi sono decomposto ma si invadì vai come è possibile che in un secondo mi sono decomposto di menati di menati allora ballo più di questo succede forza con quei passi immaginatevi un gioco così fatto ora però sarebbe stato incredibile fai parlare il divano prego non mi far ballare che faccio cacare sto mungendo una mucca va bene viva la musica muovi quel bel sederino prova davvero superlativa sei super tu giocatore 1 segui l'indicazione il regista vabbè che ci vuole che ci vuole ormai sono un professionista sono un professionista è arrivato il tuo momento non c'è alcun punteggio segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento vedi che cosa è ancora boh festeggia una grande vittoria boh boh d'altra volta buona vai gol ragazzi stai andando bene quante competenze si vai si fa un altro ancora hai un saluto azione su vai senti gli applausi tantissimi applausi grazie grazie a proposito no eh porca ah ok cosa è posto ci sono un po' di perdita di frame come è saluta bene lei la ringrazio devo controllare non è posto fatto la ghino muovi quel sederino no ma no meno male che non ho ben semmiato subito venghino signori metti alla prova la tua forza trovo fortissi vai forse è la partita un tanto sotto probabile perché non sto su steam azione azione meno uno altri due solo un altro attentivo preparati a colpire fortissimo su per giù ma non me ma non è vero che sono una pappamolla come si permette questo bastardo tocca a te non c'è alcun punteggio ok asciugati il sudore dopo una grande fatica che fatica azione che fatica veramente guarda guarda con la fatica let's go il pubblico ti ama non è vero voi mi amate dite la verità no dite la verità colpato è perché se lo posso poi mi devo muro un'altra volta quindi facciamo colpato in mano tanto non si vede no brava vale come ti permetti certo che no il weekend solo weekend basta fammi ballare metti in un film di danza vai ok facciamolo comunque azione sembra la mucca faccio fermo danza dei pro basta adesso rigiochiamo a a batterfi dobbiamo rigiocare a batterfi è un musico non muoverti che bello ti immagini deve essere incredibile un musico un fatto fatto è un balascio ciao distrutto buonasera mi fa un po' un po' male al cuore che sono un ballerino nato ma una pappamolla su su questo gioco vediamo questo film pronti finalmente l'ho fatto così tante volte che ormai per me just dance è fatta non ne vuole sapere più niente io l'ho fatto just dance sto ragionando come no ma non c'è paura no per quando pronti film silenzio insana shh zitti va a parlare sta vediamo un po' ma che bellissimo what la forza di tre in un mondo dominato dal male what non basta un solo eroe ma bella lei volevo fare io lei e non ne bastano due tre è il numero perfetto hanno combattuto contro un nemico hanno solo tre cose su cui contare una dose di ingenuità alcuni elicotteri e un deodorante bello e io so a piedi acrobazie mortali le uniche chance per la vittoria risse e tante pose ridicole ma sarà sufficiente non guardare un film non guardare un film quest'anno guardane tre la forza di tre giustamente però ero quello più sfigato sono triste vuoi rivedere il film? no vuoi salvarlo? ma ti dico no non mi ha emozionato tanto andiamo avanti bello ma non mi ha emozionato sì era carino perché era carino però non è emozionato quindi non perdiamo tempo a salvare andiamo andiamo lo sape come facevi a saperlo? eri con il suo dato in puzzola e Alex è bellissimo ecco perché ti sta piacendo ma lo scopriremo Angelo lo scopriremo e adesso il momento che tutti aspettavamo ovvero le nomination per il migliore attore sono dai dopo vi ascolto no il cattivo era brutto castiga criminale secondo nominato castiga criminale terzo nominato sempre castiga criminale sempre lui chi sarà chi sarà ragazzi non credo di essere io questa volta è ma strano che sia successo salve salve allora io vorrei dedicare questo premio di fango a tutti i miei cari con cittadini cugini a frango a mario a giacomo a filippo a lucia grazie arrivederci a fango a fango soprattutto allora ora ora ragazzi tocca delitto per cena sguardo indiscreto anche c'è allora abbiamo villa vampiria creature allo spazio l'isola digolia pianeta diverso incubo al museo ruba gli attimi disvitati zombie per fuoco minaccia tossica E poi niente abbiamo finito Ok li facciamo tutti eh Io direi di fare incubo al museo No tanto li facciamo tutti Qua tanto li facciamo tutti Disvitati Come si chiama questo gioco? You are in the movie Minaccia tossica Vabbè dovevamo fare delitto per cena Tanto li facciamo tutti Li facciamo tutti Li facciamo tutti Sì Ma sì Ah ok mi dobbiamo mettere qua Sì sì ci sono Tutti tutti li fanno Se fai lo sfondo Guità muore Io mi chiedo veramente Allora Vabbè vai Chi lo sa E che sfarfallano tanto Quello è il problema Cazzo Chat che sfarfallano È veramente un fottio Ma come posso fare Per evitare questo sfarfallio Cioè che qua pare bene Però dopo sicuramente Sfarfarleranno Come servesse forse Un'altra luce Ma non ce l'ho Non ce l'ho Un'altra luce È più facile dare luce A un green screen intero Vero Che a sto cesso Luci Eh Dove mi capisco Già sto pieno di luci E quello è il problema Il regista non si è accorto Che sta ascoltando Musica con gli auricolari Eh o è quello Anche volendo Ma non credo No non credo Avvicinati Eh guarda in realtà Cioè se mi metto qua È peggio Se mi avvicino È effettivamente meglio Cioè tipo sarebbe meglio Farlo così Che no Sarebbe quasi meglio Siamo uno Oddio Imbroglione Oddio Chi facciamo Ti verrà così Assegnato il ruolo Da interpretare Chi facciamo Ciao Andrew Io vorrei tanto fare L'imbroglione Sono proprio tentato Di fare l'imbroglione Raga Facciamo uno scammone Facciamo uno scammone Mi date solo un secondo Che voglio provare A fare una cosa Un secondino Che Devo controllare una roba Un secondo Arrivo eh Andiamo qui Andiamo qui Ecco qua Che foto No ma la facciamo per bene Una foto Cioè E cazzo Imbroglione Aspetta Mettiamo il microfono qua Così non da fastidio No Non mi piace Sono l'imbroglione Entra in uno dei quattro contorni Per fare la foto Ti verrà così assegnato Il ruolo da interpretare Ecco No Isaac Se ne parla Nei prossimi giorni Nei prossimi giorni Porta le chiappe sul set Sono io Mi tratta male Io mi merito di meglio Un classico dei Luna Park Lancia la palla nel cerchio Tre volte Per vincere un bel premio Vai Non fa niente C'ho il pistolino Dietro la schiena Azione Dai 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 Concentrati di più Oh Ci sei andato Ma mi prego Ma perché E che devo guardare lì Ma nel bende Devo tirare la mano Ma come si fa E che vuoi fare di meglio Dai dai Concentrati di più Cambioni eh No Oh Ci sei andato Solo vicino Odio Almeno uno l'ho fatto Ancora Ancora Goal Abbiamo un vincitore Signore e signori Favoloso Era ovvio Era ovvio L'opport Grazie Grazie 10 su 10 Ti ringrazio Sì ci sono Che bello Essere di imbruglione Ragazzi Che bello Ah che poi non l'avevo controllato Ma mi ha scelgato qualcosa È il momento di metterti sotto il riflettore Non c'è alcun punteggio Segui le mie istruzioni E fammi vedere se hai talento Oh che faccia Ehi Ridi come una iena Ah ah Come si fa Come ridono le iene Così Ah 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 Oh no perché ho riso veramente Ah 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 Oh mi viene da ridere se rido Allarga le braccia Dando il benvenuto Come Benvenuto Benvenuto Ciao palà Un'altra Tutto bene? Appoggia la testa sul tavolo Ma mi dove trappegola Azione Su vai Tutto bene dai Non c'è male Fantastico Che professionista C'è sì spero Non ci siamo Ci proviamo Sperare Dai sta andando bene questo qua Potrebbe essere molto interessante Secondo me l'imbroglione Fa finta di essere morto 100 100 Le facciamo finta di essere morto Stiamo a fare il morto nel film Vieni subito sul set Ci ci sono Ma mi pagheranno mai ragazzi Voglio essere pagato per fare l'attore Nessuno di voi mi sta pagando per fare l'attore Vi denuncerò Elastico Vai È colpa vostra se mi sfrutta Interpretare un clown Con la fune elastica Corri più lontano che vuoi E la fune ti trascini indietro Vado No fa cacare Un'azione Eh C'è Yostar Ma funziona La merda È un problema Poi ha problemi di copyright Ha problemi di copyright purtroppo Grazie Nel senso che sono scene di film veri E possono essere un problema Possono essere Yes Perché è proprio un'idea di merda Utilizzare le scene di film veri È arrivato il tuo momento Poi è fatto di merda Nel senso che rivedi le stesse scene Più e più volte Tipo Io devo doppiare uno che dice Franco Devo dire Franco E poi dopo potevo rivedermi Ha 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 Il tuo padre Hai capito? Non mi ha deciso di fare un cazzo Con il film Che risate Che risate Quante truffe che mi fate Grazie C'è il genere C'è il genere Che ridere tua madre Festeggia una grande vittoria E vai Che è andata forte L'abbiamo messo già Troppo è così Ma lo schiaffo Chi? Io a te o tu a me Chi deve dare lo schia? Cosa lo schiaffo? Perdonate C'è uno schiaffo da dare Non l'ho dato? Dopo guardo L'ultimo Batti il tamburo Per far danzare la scim Il mio preferito Lui all'altro È il mio preferito Questo Comunque ora non è più un pisello Ma un qualcosa che non ha senso Prove Tutti a ballare la conga Batti sul tamburo Più veloce che puoi Per far danzare la scimmia Fammi danzare Eh, dove? Ho lì dove ho metti Vai scimmia bella Danza scimmia Non male Non male Davvero una massa scimmiesca Grazie Voglio proprio vedere il suo film Vedi un po' che cazzo mi devo mettere a fa' A far ballare dei scimmie Giocatore 1 Sul set Eh, immaginavo Immaginavo di dove essere sul set Dove se no? Segui solo le mie istruzioni E recita Come una star Vai Fammi una risata Ma quanto sono in Ma quando devo rire? Perché? Perché tutte sei risate? Non ho mai riso così tanti In vita mia Basta fammi Sono sentito in merda Ciao ecco Io non c'è chi fa ballare le scimmie E chi fa ridere i polli Già Già Oh, dopo ci buppiamo D'altro 2 Che lo voglio provare Eh, babbuno Sarà un gigantesco Fangolavo È un colossal Balla di nuovo Porca puttana Vai Balla a tempo di musica E riproduci ogni posa Quando la musica si ferma Posizionati nel contorno Ricorda di non muoverti Quando sei in posa Ma se balla così? Azione Vai Ma io ho fatto così tanto Per non ballare In tutta la mia vita Guarda come devo Eh, ci vuole Ci vuole talento Warstick Muovi solo di fianco Ma rimane così È effettivamente quello che sto facendo C'è una che ti guarda Chi? Considero un provino per amici Mandatelo alla Celentano Sei un ballerino nato Grazie Ma andatelo alla Celentano Mi auguro sia un capolavoro Me lo auguro Finito Vai, vediamo Se non me lo sarà anche Una sorta di capolavoro Eh, ho questa impressione Ho questa impressione Fai vedere il ricordo Oh Ciao Michele Buonasera Tutto buono? Spero di sì Spero proprio di sì Silenzio in sala Iniziamo Dai che sarà un capolavoro Credo Quando il piatto del giorno È omicidio in salsa cremisi Servito caldo Dimentichi la fame E vieni assalito dal terrore Delitto per cena Tutti hanno un movente Ma sono una merda Bellissimo Tutti nascondono un segreto Tutti hanno un sospetto Chi si è macchiato le mani In questa sporca faccenda Ma nessuno parla Preparati a gustare Un delitto per cena È bellissimo questo Questo è un filmò Cioè praticamente Ti faccio gli scherzi Sono i rombi Perchè ad ammazzare Non ho ammazzato nessuno Ho solo rotto le palle Ho solo rotto le palle Capolavoro indiscusso Vuoi salvarlo? Questo sì Questo qui va salvato Questo qui è bello Risalte Tu morto negli spaghetti Che tra l'altro non mi piacciono nemmeno Non mi piacciono nemmeno Gli spaghetti Io lo vorrei un oscar Ma per davvero Hanno ammazzato te alla fine E dire che ne hanno fatto bene Eh io non morirò mai E chiaramente sì Hanno ammazzato me Perchè li ho rotti i coglioni Che senso truffa Truffa alla vita Mettilo di nuovo No no Bannati chi ha ruttato i ladri Ragazzi Basta fare gli scorreggioni No non mi piacciono là Sti spaghetti Dopo un po' mi mettono la nausea Perdonati ma ci vuole un po' di tempo Per fare quello che dobbiamo fare Salvare Sì teco Uai fedeli Uai fedeli Buo seba Amici nel mente ne manca uno Per gli 8 e 65 Facciamo un numero tondo tondo Come chi voleva essere Il più tondo del mondo Che era Un gocomero Se vi fa piacere Tra l'altro La cop domandi Domani è in dubbio Poi vi farò sapere Ovviamente Ci aggiorneremo Se si fa o no Però noi in ogni caso Vorremo le cose nostre E ci sarà anche la parte video Abbiamo capito Che è gradito il pranzo Ma in realtà no Ho mangiato Una matriciana di sugo pronto Ciao Piper Tutto bene Se no Prima è crashata la live Ma Penso perché mi hanno arrabbiato Il modem Non lo so I don't know I don't know Sì ho mangiato Un po' di fano Non è che l'ho gradito Sincero Forse per questo Lo faccio Oddio come si spende una torse Ecco Ci vuole tempo per salvarvi Perdonatevi Ciao Alex Buonasera Tutto bene Come stai Come stai Praticamente DST arriverà fino a dopo estate Che cos'è DST Ah Quello Sì Sì probabilmente sì Grazie che almeno tu non giochi al Zelda Effettivamente almeno ragazzi Chi non vuole spoiler O non gli interessa Ha qualcos'altro Da vedere Bello brutto che sia Non ci metto la bocca Però Almeno Signore e signori Benvenuti ai No quelle sì Okami Quelle sì Eccoci E adesso Il momento Che tutti Aspettavamo Le nomination Per il migliore attore Sono Ciao Alex Ancora Primo nominato No Alex Oggi Siamo andata La connessione Un secondo Quindi no Terzo nominato Siamo ancora In fase Di bestemmia Quarto Nominato Già Alex Che palle Veramente Che palle Chi è il vincitore Mi sa che sono Non io No non ho vinto io E invece No vive E invece Sono per io Vuoi dire qualcosa Non dimenticare Di sorridere Eeeh No non voglio niente Non voglio proprio dire niente Sono molto deluso Però posso dire una cosa Che se volete Ne manca uno Per arrivare ai 6 E 6 E 8 E 65 Quello sì Se no Avete rotto i coglioni Voi e Mussolini Ma si Cioè siete Spammate la stessa roba Ma abbiate un po' Di fantasia Già Lordazius Madonna mia Siete dei robot Siete dei robot Dei cazzo di robot Cioè Minchia E' come quando Contatti un bot E gli chiedi una cosa E ti rispondi Sempre alla stessa maniera Di scavito Di chi tu sia O nel mondo Eh Dio mio Ma un po' di fantasia Ho capito Che non fate i comici Nella vita Però di Spassim Non siete nemmeno Dei robot Della minchia Un po' Un po' Un po' di amor Proprio Un po' Un po' Proprio eh Chi vuole Ma letteralmente Bot Cioè Vita da NPC Vai dritto Cioè Ti scontri contro un muro Continui dritto Non puoi non andare indietro Ciao Marek Buonasera Madonna mia Mi dispiace eh Lì sono la di godia Pianè Incubo al museo Ciao Mare Bentornato Madonna Mamma mia Ragazzi Veramente Certe volte E' tremendo Almeno Sembri Eh Tre Beh Gli svita Non voglio fare Gli svitati Va Ma non c'è Ma Eh Madonna mia Eh E' molto a poco Ciao Deopi Ender Già Urno Non so Urla Per sicurezza Verifica l'indicatore Secondo me Si potrebbe fare Un lavoro No Che non posso guardare Le luci Mamma Mamma Veramente Ho capito Che magari Non è Quello Il vostro Ciao Barban Buonasera Botte Economiche Cristo Quelli La gratis Che trovi In giro Vai Ci sono Sono Quelli A prova Gratuita Prova Prova Gratuita Esci Dall'inquadratura Così Digitalizziamo Lo sfondo Anime Suspo Bravo Ci sono Vedi Sono un uccello Va bene Alziamo Insomma Non è vero Ma usiamo questo Almeno non mi taglia molto Secondo me Eh madonna mia Quanti sono gli attori Uno Scegli il numero Oddio Oddio E chi faccio? Chi faccio? Eh Eroe sfortunato Proprietario Io farei Uno degli eroi Eh ragazzi Faccio uno degli eroi Uno di quelli Per forza No Quello devo fare Sono obbligato A fare Cioè Con sta foto Per forza No Eroe sfortunato No Questo Eh ma Per forza Devo fare Quello Quello è veramente Una delle foto Che ti potrebbero fare Le persone Così sono Non come vengono Nelle foto Che ti fanno gli altri No ragazzi No Così è ma merda Totale Fai Fai un secondo Avvia Cutout studio Ti faccio No Così è ancora meglio Comunque Sono convinto Che sono anche cuffie Che mi sta dando Un po' di problemi Con le cuffie anche Perfetto Sì vorrei Ricambiare Sì Però vorrei fare Uno due Non si può fare Per la città Schiva gli ostacoli Ma colpisci le rampe Per ottenere Punti Che lo sia il gioco Di fango Che motorino piccolo Che micro motorino Fida di tech Che se arrivi alla fine Potrebbe valerne la pena Dopo tutti questi minigiochi Succederà una cosa È un film Quello che stiamo facendo Giuro Giuro che non siamo pazzi Ma è un film Sì però Sono una merda Io Guardi qua No Ma andagli La miseria Opla Ma Ma vuoi cosa La prossima volta Magari usiamo una bici La prossima volta È meglio che non usiamo Proprio niente Purtroppo Tutto rotto Giocatore 1 No andagli Per favore Merti il casco Che ti multa Ma chi mi multa Chi mi devi multare Sono io che faccio le multe qui Sono io È il momento di mettermi sotto il riflettore Segui le mie istruzioni E fammi vedere se hai talento Così Fingiti In imbarazzo No Aspetta Fermi No Perché fermi No Allora Usciamo un secondo No di si rifà Non è un problema Un secondo Lo voglio rifare Però aspetta Vuoi mettere Aspetta Sì Abbiamo un altro secondo Lo si rifà un secondo Ma non ci vuole niente Sì Sguardo indiscreto Oddio Che stavamo facendo L'incubo Gli svitati Stavamo facendo Ok Tre imbranati Programmonisti Combino il disastro Dopo L'altro In questa commedia Demenziale Ok Controlliamo Che l'attrezzatura Funzioni a dovere L'immagine È a fuoco Ok Un secondo Sono ok qui Per sicurezza Verifica l'indicatore Non mi vedo E prevedisco Sistemare un secondo Piuttosto che soffrire E che Sono un po' basse Queste luci Ma non è vero Vabbè Vabbò 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 Ora posizioniamo La videocamera Assicurati che tutti si trovino nel contorno A posto Eccoci nel capo Mi sposto Magnifico Esci dall'inquadratura Così digitalizziamo lo sfondo Per favore Attendi E che palle Eccoci qua Concluso Adesso torna davanti Alla videocamera Sì Lascio l'uno Eh sì Quanti sono gli attori Scegli il numero corretto Entra in uno dei quattro Voglio rifare qui Ti verrà così assegnato Il ruolo da interpretare Va bene lui sempre Vai Ci sto Mi sa che la luce non è troppo pala Vabbè Vabbè Non fa niente Ma però Devo smettere di azze calmi Se no È impossibile Giocatore uno desiderato sul set Ce l'avremo Che ci penso Una Però devo smontare Oh Bruno È che io l'ho provato E non abbiamo avuto problemi D'altra volta Ok Pronto Guida il tuo scooter Per la città Schiva la tattura E' sempre lui Va bene Sono pronto Appunto Avevamo fatto un gioco Quindi non è nessun problema Vai Vedi Così è perfetto Così deve essere Meno male che c'ho Grishin Se no Non avremmo mai potuto giocare Questo gioco Senza è terribile Ciao Odissea Ti sto evitando a posto Sti premi di mer Come stai Odissea Spero tutto bene Spero tutto bene Quartieri spagnoli touring No non ce l'ho leggendo Veramente Non ho il patentino Ho un gioco bianco Volendo anche Ma infatti Finché così è perfetto Finché così va benissimo Che almeno su per giù Ci sono Tutto a posto Ma sì Ma sì Ma con la patente E la macchina Può guidare lo scooter Non credo E' appavorato di Per i patentini Se lo fai Se non ricordo male Ok Ciao Henry Buonasera Tappò O forse era per le moto Non ricordo bene Azione Dai Forza Coraggio Ecco Fino a 50 Ti cazzo Ti ritiro può Il motorino di cip e ciop Esatto Copriti gli occhi Con le mani Anzi Vedo Ancora di più Ma è coperto Mi sono sporcato tutto Il pubblico ti ama Mi sono sporcato tutti gli occhiali Con quel pad Tra avanti al cazzo Ok Sono super curioso di questo Perché dovrebbe essere Tipo comico You are in the movie si chiama Il gioco Dovrebbe essere tipo comico Ero è sfortunato Vedremo quanto siamo sfortunati Gira la rotella Per chiudere la valvola Bello che qua Stiamo guidando La resta è il flusso dell'acqua Chiudi la valvola Se ci tieni alla tua vita Vai Chiudiamo tutto E poi in realtà Esce una mucca Sono una mucca Più veloce Dai dai Perfetto 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 Magnifico Hai fermato l'acqua E senza nemmeno specialità Sembra che sto a mucca Perché mi fa fare questo Mi fanno male i piatini Iniziano a farmi male Ma non fa niente Non resistiamo Giocatore 1 Perché lo voglio finire Più olio di gomito No Non esageriamo Dopo ci stanchiamo troppo Dopo diventiamo piccoli Non ho più le braccia Braccia Impazzisci in preda al panico Questo cazzo di ragni di merda Così va bene Ciao Sì lei Che si gioca You are in the movie Ringgi di cadere all'indietro Guarda che cade E muoio Eh Eh no Ma muoio Ma ho caduto nel vetro E muoio Eh Eh Sicuro Perché adesso c'è il vetro Un successo clamoroso Grazie Ma è impossibile Che la situazione migliore Nella vita Stiamo facendo I tre imbrananti Si chiama così E noi siamo uno degli eroi sfortunati A quanto pare Giocatore 1 Sul set per favore Basta chiamarmi Ma settimana scorsa Era il giorno di Don Marge È passata una settimana Questa scena di far avvincere Sì sì Il mondo è un grande palco O almeno la tua stanza Oh no Rimani sotto la luce mobile Del riflettore Oh cazzo E quando si blocca Resta fermo Per le foto Oh shit Ciao Azione Madonna C'è una settimana Questa è nuova Sì C'è ancora qualcosa di nuovo Dobbiamo scoprirle Tanto tra un po' Finiamo il giorno È stato non un poco faticoso Non un poco Ok Secondo me è finito Ci godiamo il film ora Beh Ah no Turno 3 Quindi dobbiamo fare il 4 Ok Perché credo che sono 4 turni Sempre Giustamente Bussa alla porta Afferra l'oro E schiva Gli altri oggetti What Significa Bussa alla porta Pronto Chi è Basta Pirulini Devi svegliare lo sceriffo Bussa alla porta E preparati ad afferrare l'oro E a schivare gli altri oggetti Ma lo vedo io Ah mi sa Come buttare la roba dietro Pira borsa Oh no Ah Ah E resto così a fare la pupù Ma io l'ho lasciato indietro Scusi guarda Ah devo afferrare l'oro Mi sono scurtato L'oro Ecco Devi essere più veloce Oh Più di questo Mi salita la pressione Non fa sta roba L'avevo dimenticato L'avevo dimenticato No ragazzi L'avevo dimenticato Hai visto? Sembra una pallina Pappamolla Allora la buttissima Così Tutto il sugo dopo Tutto il sugo Esce Vediamo un pochettino Questo nuovo film Incredibile Voglio provare a vedere E' brutta la brunghina E' brutta la brunghina Allora Sembravano bobbe Un pochettino erano Aspettate E mi arriva il film Un secondo E con una cosina Silenzio in sala Eccoci Sì Solo perché dice la verità Ovviamente Mettete subito a letto I nonni Come? Serrate le porte Quegli imbecilli Sono ritornati Gli svitati Ma? Caos infinito Follia E grande ilarità Più fuori Di un citofono smontato E io dove sono? Non mi calcalano Più pazzi Della vicina di casa Ma io sono inutile Scusate Ma dove sono io? Più svitati Di un bullone Ma Ragazzi Vengo cancellato Stupidi Però quando dici stupidi O ci sono Perché? Richi di ogni senso Talmente stupidi Da essere divertenti Non stare a casa Corri al cinema più vicino Per vederti in prima fila Gli svitati Ma no Ma boicottateli Ma non mi hanno messo Ma non mi hanno messo Silenzio Ma ogni volta che dicono stupidi appai Vuoi rimanere? Questa è la decisione del canale Oh No Non voglio nemmeno salvare Devi rifarlo Perché questo è perfetto No Non lo rifaccio Non mi è piaciuto Vuoi andare? Sì Mi hanno tagliato fuori Ma come si permettono Ma perché mi tagliano fuori? Non mi volevano Non sono un loro amico Ma come mi ha messo Pazza eh Signore e signori Benvenuti Ciao Sasso Nelle scene post credit E adesso il momento Che tutti aspettavamo Le nomination per il migliore attore Sono Ciao Rezia Il mondo dello spettacolo è così Già Pezzo di merda Pezzo di merda Secondo nominato Pezzo di culo Pezzo di culo Terzo nominato Stunzo Stunzo Quarto nominato Buu No lui è bravo È bravo Ah Solamente uno Sarà il vincitore E il premio You're in the movies Per il migliore attore Qua se non vingo io È incredibile Vieni sul palco E accetta questo prestigioso riconoscimento Vuoi dire qualcosa? Non dimenticare di sorridere Voglio solo dire una cosa Che mi avete tagliato Da questo film E io ne farò uno Tutto mio Con il bar dracche E polli di lusso Che No ti ama pure tu Ti prego Ma letteralmente 5 minuti fa Vi ho bestemmiato addosso Non ce la fate proprio Ad avere una Ciao Giorgio Una sorta di comicità propria Impossibile averla Meglio avere una mente Un burbero Ragazzi ci tocca Il burbero detective Villa vampiria Villa vampiria L'isola di Golia Ragazzi basta Voglio essere Golia Voglio essere grande Per una volta Nella mia vita Controlliamo che l'attrezzatura funzioni Le luci sono ok Begnuno di basso No Mary Appena uscino Cambia di messaggio Mano tutto qua Ciao Giorgio Ehm Vai Malrutto qua Assicurati che tutti si trovino Nel contorno Senza sembrare Anvia Vado Magnifico Esci dall'inquadratura Così Digitalizziamo Lo fondo Per favore Attendi Come sono Bellissimo Vai Vado Sempre sono Oh no Ho perso il tirulino Eh ragazzi Questa volta Chi sono? Devo essere il gigante Ciao Che co Devo essere il gigante Ragazzi Per vedere lo sfondo è la tua ombra a sinistra Ma non c'è nessuna ombra Ti verrà così assegnato Il ruolo Almeno che non è la sedia Ma no Ma non fa ombra la sedia Ma se va per forza l'ombra Facciamo il gigante Entra in uno dei quattro contorni Per fare la foto Ti verrà così assegnato Il ruolo da interpretare No ma l'altra volta Funzionando bene Oh sì Che non ce la fa più Vieni subito sul set 5G Gigante Mi sento proprio gigante Sono enorme Sono gigantissimo Vai Vai Mettere una luce Che lumina Sì lo so Eh lo so Vai così Guarda qua Che bel trombone che sono Vado Sinistra a destra Una barca che va a tamburi È il sogno di tutto Il sogno di tutti Avere una barca a tamburi Sì Sì sono piccolissimo Sì sono piccolissimo lì dentro Aspetta esco Ecco E rientro Giocatore uno desiderato sul set Ci sono Sono proprio io Prego Sì E' arrivato E' arrivato E' arrivato il tuo E' arrivato il tuo Perché la fastino è pirulino Segui le mie istruzioni E recita col cuore Ecco qua non c'è più Fingi di essere un mostro spaventoso Azione Stai andando bene Ecco Senti gli applausi Sono veramente un mostro gigante Non vedo l'ora di esserlo Non vedo l'ora di vedermi enorme Almeno una volta nella vita Vita Grazie Andrew Giocatore uno Porta le chiappe sul set Mi dica Mi dica Vito Ehi tu Da dove mi stai Scegli gli abiti Abbinati al cappetto Al cappetto e lavali Vai I costumi sono sporchi Scegli l'abito Sì E' bello E dagli una bella ripulita Azione Vai Sì un bel cappello Mi piace Bello Ciao Albor Ottimo Non dimenticare di pulirli Lavi panni Lavi panni Oh Ecco Ehm Questi Bene Ora Dagli una bella pulita Ecco Che completo Prova il costume Per lo male Ok Cowboy Lo farò male Questa volta Perché voglio vedere Come viene È giusto Eh zitto Lavalo comunque Ma dove vò Dove sono i pantaloni da clown Vieni clown Provina bene Vedi che cosa accade Eh Visto come sono bravo No 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 Così non va Dovevi abbinare l'abito Al cappello Oh ma lo scelgo io Oh ma lo scelgo io Uffi Fendo questo Sicuro che sia giusto Lavalo comunque Ho sbagliato un'altra volta L'ho fatto apposto Questa volta Sono molto deluso Ma per i giganti Non lavano i panni Si si sono Dimmi Chi è Ciao Buonasera Tutto bene E' il momento Di metterci sotto Il riflettore Segui le mie istruzioni E fammi vedere Se hai talento Non si ne va Gompia le guance E soffia Ah Così Bene Credo di aver rigogliato una mosca Il pubblico ti ama Credo di aver rigogliato una mosca Naga Che è tu Ciao Ciao Come stai Come ti permetti Io non sono un fumatore Sono tutte proteine Mh Manda la palla in buca Del boss Vai Ci sono Ciao Finalmente un cristiano Che non gioca al Zelda Eh Ciao bello Ciao noi Buonasera Ok Guardo Parola che fastidia Se ti impegni puoi fare di meglio Dai Dai Concentrati di più Ci sei andato solo vicino Vai Grande lancio Un altro ancora Abbiamo un vincitore Sei il manzo copi Oh Ma dove la chissà 3 su 1000 Sì no Prima poi rompa la finestra Giocatore 1 Ho bisogno di te sul set 2 Oh Però dai Dai però Basta fare tutti Ragazzi È il momento Di metterti sotto Il riflettore Vai Segui le mie istruzioni E fammi vedere E' lo stango Ci sono eh Uno sguardo inquisitorio Azione Ci siamo quasi Ottimo Resta lì Questo è inquisitore Ridi come una iena Non so ridere Come ridono le iene A pecore Non lo so Così Cioè praticamente Te lo appoggio No Così No no C'ho la panza Guarda lì che panza Guarda lì che Veschio E le iene Sono Becoroni No Oddio Giocatore 1 Sul set Oh no Sì Sono un anziano Ciao fra Ora vediamo Quanto sei forte Colpisci il pulsante Tre volte E fai suonare Lo vedo io Più forte colpisci E più punti ottieni Lo vedo io Sono fortissimo Un bugno Hai colpito così forte Dico solo una cosa Non sei un forzuto Che muscolo Non vorrei Ti arrabbiare Sì mi si è sciolto il pivo Ciao Sto diventando sciolto Guarda 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 Mannaccia Abbiamo Abbiamo finito Poi prof E vabbè ma non fa nulla Di luce Sto cesser Come faccio Hai lasciato L'alone Sono un buzzono Dai vediamo Vediamo Tutto sudore Letteralmente il sudore Praticamente Boh 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 Che misteri Misteriosi Ragazzi No non posso Vai vediamo Ciao Michele Un viaggio Meraviglioso Attraverso Acque incontaminate Per giungere Dove tutto È enorme A parte te Ti prego Devi scappare Sono bellissimo Qualcosa di grande Ti dà la caccia Niente gatti Ok Magari uno solo Preparati Ad una grossa Ma veramente grossa Sorpresa gigantesca Oh cazzo Quando ci tratta di amici Le dimensioni Non contano L'isola di Golia Questo era bello Sembrava che faceva Chi sei Chi sti 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 Si questo qua lo salviamo Vado Vado Caruccio Caruccio Peccato che ho spaventato il finale Già non ricordo più qual'era il finale Best of solo su questo gioco Chi lo sa Chi lo sa Mo andiamo avanti Vi ripeto Io sono preso bene Quindi io vorrei finirlo Non ne mancano chissà quanti Mo facciamo un paio di conti E che è una terza live su questo Non lo so Sembrava il gigante dei buffi Ehi Vuoi dire che sono Il capello Eh Però mi piacerebbe avere una luce In più Sto Aspettando Fatemi fare un ragionamento Eh no Il problema sapete che è E che io ho cambiato il wifi Quindi non si connetteranno mai Almeno che Non faccio una cosa Sto ragionando Eh un secondo Fermi E io quando ragiono Sono pericoloso Un secondo Fatemi ragionare Ok Seconda Arriviamo Allora Prendo Questa E questa E Questa Ti ho detto Bianchi Un secondo Ci sono eh Bianchi No Ecco qua Seconda Ci sono E una E due Ci sono Seconda 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 Trovivo eh la giaccio cazzo ecco qua sai come è mai faccio vedere mamma mia che parte ecco qua ecco qua è uno è due casino no stavo facendo una così ecco forse abbiamo già signore e signori benvenuti ai premi you're in the movies oh ho mai disfunato ho distrutto lo sfondo però si momento Ashmore dove vince il gigante secondo nominato terzo nominato ciao Babie ciao Marco come stai tutto a posto spero arrivo grazie mille quello che mi stai dicendo è un enigma non sono bravo a fare allora sono la figura che potresti conoscere a destra troverai un enigma c'è doppio eh sì ma basta vince ma veramente allora voglio fare creature dallo spazio viene incubo al museo it's time io sono tuo figlio guardate qua che luce guardate mamma di te no pure ma non 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 guardate qua così è ottimo che penso ciao Marco sei gentilissimo l'immagine sta prendendo fuoco letteralmente ah è tua figlia ciao ciao ok erano diventati un enigma seleziona avvia se puoi puntare più in alto la faccia non è un problema esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo la faccia non è un problema a me interessa sotto ritaglio concluso adesso torna davanti alla videocamera ma adesso sono super Goku visitare cut out studio vedi è proprio la telecamera che è una merda è proprio la telecamera perché guarda adesso sono Goku il caio pezzo se lo tengo addosso vedi è inutile non è la luce perché più di quella va bene va bene comunque vai ciao hobby sapevo che eri l'unico a non fare certo sono incompatibile 4 contorni per fare la foto ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare c'è un pisello che esce alla te prima o poi lo caccio proprio lo devi prima o poi lo caccio in là ok giocatore 1 sul set per favore eh no era l'ombra invece no era il pisello vero venghino signore metti alla prova la tua forza colpisci la palla tre volte e misura i tuoi muscoli ciao ldm però vedo io vai si ti piccio ti piccio con il pad almeno non lo devo postare ogni due minuti solo un altro tentativo preparati a colpire fortissimo mia nonna colpisce più forte si è vero prende anche lo spavo piccia 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 non ti piccia pure a te sei sei qua ti tolgo le mutande va bene papamolle voi io no eccoci pronte toccate segui solo le mie istruzioni e recita come una star ciao lì ronna io sono questa fai un saluto ciao ciao azione oh bene così io non lo so chi è agita le braccia in preda al panico ciao sbalbus non fermarti aiuto 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 oh oh geniere voglio vedere sto film una notte al museo fantastico sei una vera star lo so lady però devo parlarci comunque se no non può funzionare ciao dovresti mettere le smart band di chi ti tolgo cosa cosa sono serie non me ne intendo desiderato sul set ce ne dimmi sono io l'attore 1 ciao just buonasera come va no nulla hop no ma perché dove essere più andrai veloce e indovina un po' ma perché cosa ho fatto di male per dover utilizzare il nulla hop il braccialetto che mi sono le cose il tipo ma dai lo faccio piano così piano ancora peggio ma è veloce sono un cucchiaio se penso di essere un cucchiaio non mi mettere in balazzo ora hai preso ritmo sì finché è così va bene ecco vedi grazie dopo giochiamo un horror che non mi ricordo come si chiama però ha il 2 vicino al nome dreadout 2 giocatore 1 sul set per favore ok che bel bacino dreadout 2 io ne ho mai citato è il momento di metterti sotto il riflettore già ci sono vedi ah ma sono contento dobbiamo fare questo fin dall'inizio posizioni nel contorno ingi sorpresa buah azione grazie ma non dovevate che gentili per queste bille sabre calate gentili gentili ma che devo fare camminate camminare sono bravo a camminare grazie a camminare sono camminare il pubblico ti ama pure io che stanchità ciao vai fritto dai tutto bene tu tu come stai spero tutto bene anche a te ciao auguro turno 3 di 4 colpisci i bersagli finché non scompaiono sai fingere benissimo l'aria stanca da camminare vissi ora sono un attore io prima o poi non lo faccio è l'attore ma non c'è qualcuno che mi vuole prendere per un film io lo faccio è ora di allenarsi colpisci i bersagli finché non scompaiono se volete vengo eh un film di arti marziali tu non sei un buio voglio vedere più impegno proviamo un caldo manzina un samarone ok usa un attacco sorpresa io vengo subito a farci un film di fango non si può fare impegno impegno di questo fantastico quei sacchi penso proprio che non so sei bravo che in bag mi stavano che già facessi film infatti no nessuno mi vuole va bene sono un po' triste qualcuno ti noterà chi lo sa microsoft non potete rifare il gioco dai dai vengo la morte del capocollo non c'è alcun punteggio segui solo le mie istruzioni e recitare io provo che rock si fa che bag a band hai la telecamera ce l'avrà già uno che mi ha dire la telecamera devo correre corri sul posto più veloce che puoi c'è più di questo non posso microsoft fammi vedere che sai fare vado proviamone un'altra corri sul posto corri ce l'avrà già un regista pure di qua ma quando sto correndo ma è un film un baradoneta è questo finiresti che bravo finisco il film subito arrivo e finito il film subito i titoli di coda io voglio vedere che cazzo è uscito è un film su bolt la vita di bolt ma me lo dovete dire giocatore 1 sul set ma perché non ho fatto i giocatori 2 che non lo chiamano mai giocatore 1 lo chiamano sempre il 2 no l'urco mentre preparo la cena e a me a me niente cocco bello bello questo si che mi piace scendi cocco cocco vedi un po' che cazzo guarda come mi cadono tutte le albero scendi cocco cocco questo è quello che vorrei fare a quelli della team quando dico tutto a posto la madre è tutto a posto capito la madre bravo hai preso un sacco di noci di cocco propongo di fare un film continuo che film faccia allora pare un altro proposto proposto questo allora finito ora ci provo e ora possiamo andare al cinema stai facendo una pipa alla ah finalmente il film ragazzi vediamo un po' che film è secondo me sarà un film bello un bel film pop corn in sala bravi sedetevi io spero sia un grande film prevedo lacrime anche io giudica questo film bello era una serata come tante al museo quasi nessuno in giro poche persone distratte nooo ma dove deve essere lui fino al loro arrivo ciao psycho orribili puzzolenti zombie nooo affamati d'arte e della carne degli amanti dell'arte perché sto ballando non capisco sono affamati e non ne hanno mai abbastanza ma con che ritardo mettiti in salvo sono zombie assetati di sangue apri il postale ed anche esperti d'arte come esperti d'arte non si apre attento perché una semplice mostra potrebbe diventare una e che giornale merda incubo al museo aprite il postione caruccio ma non troppo no non mi è piaciuto perché non sono stato io il bambino se fosse stato io il bambino sarebbe stato bello non lo salvo nemmeno non mi è piaciuto era un altro museo finirà male caruccio però un po' me un po' me poteva essere più carino poteva essere molto più carino let's go mary buccio no poteva essere un piccolo invece no e poi perché gli do così tanto in ritardo i pugni secondo me il gioco è fatto male i pugni erano in ritardizio ma tutto è buono ma non si può schippare questa roba ah ragazzi la schippiamo la presentazione la prima azione che tanto vinciamo noi sempre perché due di te no schippa ok veramente tanto è sempre bello abbiamo capito basta quando il film è bello ce lo vediamo quando il film è un cesso no tanto è scammata ah quando è bello è bello no no ma di nuovo basta ma grazie allora villa vampiria dopo creature nello spazio secondo me è incredibile due rappresentanti di due specie diverse precipitano su un pianeta alieno e devono collaborare per sopravvivere prima questa controlliamo che l'attrezzatura funzioni a dovere questo è bello ve lo dico le luci sono ok qui questo è credibile sono un mariolo assicurati che tutti si trovino nel contorno senza se eccoci nel cut out magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi il problema di rifare questo cop che ormai l'abbiamo fatti tutti è il momento di rivisitare cut out studio è giù che c'è la sua inquadratura come il filmato sullo sfondo aspetta ciao metta magnifico esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio concluso c'era ormai ma perché posso stare sta cosa è il momento di rivisitare cut out studio è giusta la tua inquadratura con il filmato sullo sfondo ma è imbazzito bella bella luce mannaggia sarà migliore lo rifacciamo aspetta eccoci nel cut out studio qui no ma gli spegni luce grazie l'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi ritaglio concluso adesso torna davanti alla fine ma funziona il video momento di rivisitare che è risolto studio ma se ci mettiamo un po' di qua non lo so inquadratura sullo sfondo vediamo lo rimasso l'ultima volta ma è imbazzito cut out studio qui è dove si si dice l'inizio mano esci dall'inquadratura così digitalizziamo lo sfondo per favore attendi tua madre devi digitalizzare ma si quella la puoi due aiutare scassinatore allora ora che facciamo investigatore aiutante o scassinatori noi dobbiamo essere dei ladri ragazzi io direi di fare uno scassinatore no aiutante no all'investigatore o scassinatore scassinatore hai scelto ok allora siamo lui con questa foto terribile vai questa foto terribile ciao che faccio ragazzo che faccio ciao share no niente legge dopo zelda niente legge stand i gang ma non i gang servano le ragazze ok bello penso di essere un duro bene vai dai bassi fondi e stendi quei gangster ma attento sappiamo giocare a questo azione ciao resia inizia a camminare come stai bentornato benino resi a 42 ai piedi morbidi da 7 mazzare ci venuti sei un vero un vero duro oh quello è andato stai fracassando le sagome clandino lo hai steso ma attento a non colpire le signore tu sai come trattare una signora oh clandino clandino mi stai fracassando le sagome colpo da capò un maestro bene lo hai steso ma attento a non colpire le signore da bassi i vagaloni come che ha detto che mi vuole invitare da qualche parte vado eh vado subito mi proietto sono un maestro un maestro nel TGA come basta chiamare me ciao smunto tutto bene spero di si bruslin si si è arrivato il tuo momento segui le mie istruzioni e la città col cuore oh quella è mia moglie ma fissa la rana con sguardo ciao steward azione su vai oh ottimo ok nuovo oh no muoviti come farebbe un ladro azione dino la schiena che cosa dai forza coraggio ma che fai stai mangiando non la stavo mangiando stavo dando i bacini oh io non le mangio le rane di cui sono innamorato solo quelle restanti si mi sono rimanato la live qualcuno ha detto avete fatto una live quando perché sono buone le rane non le mangio giocatore 1 sul set per favore oggi no stiamo giocando a questo vabbè si stiamo rifacendo il gioco dell'altra volta oh no l'editor è furioso sta lanciando oggetti dappertutto afferra le bobine dorate e schiva gli altri oggetti ci provo vai lancia aia e gli oggetti dovresti schivarli lo prendo grande afferra altre bobine per totalizzare più punti sembra un goblin sono un goblin presa oddio guacumi ehi c'è bisogno di una barella qui è vero è vero che spacchismo presa una bobina è bacangulo grazie al cielo ma lascetti di toccarmi questo lascerà il segno che riflessi di poco come ti permetti guarda i suoi grandi riflessi ne hai fatto cadere una è che è tutto grande hai salvato la parte del mondo guarda ti prendi un panco il resto usando filmati d'archivio e controfigure eh ci vorrebbe proprio una bella controfigura giocatore 1 sul set per favore una bella controfigura ci vorrebbe oh eh sì tocca a te non c'è alcun punteggio segui solo le mie istruzioni e recita ma dove che l'unica cosa con dei riflessi qui sono i due occhiali capisci sorridi come un clown ma veramente avvicinati alla camera azione oh bene così ma si ridono i clown no bene successo clamoroso stupendo potremmo non riuscire a finirlo ve lo dico potrei sono un po' come inizio ad essere stanco ma ce la faremo ce la faremo vero giuro ci provo ci provo sono si esperto il clown essendo io stesso non è vero ma tu non sei un clown tu sei bravo ma perché sembra me scusate secondo me cosa ho fatto rimane io negli horror vediamo quanto sei bravo con nulla hop più andrai veloce e indovina un po' più punti avrai forzati per zelda ma non vuoi giocare a zelda sono un cucchiaino tanto ma tu vedi un po' più grinta tu vedi un po' uno che fa nella vita pur di non giocare a zelda pur di non giocare a zelda guarda che sto facendo davvero terribile ma io ho un tuo madre che basta vuoi giocare a zelda cazzo sto facendo ah 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 ho l'ansia убufata alla connessione qua giocatore 1 desiderato sul set sìdio sono io tornato oh no potete giocare a zelda col grancazzo via Vado! Non dillo che può accadere! In quel caso... Vado! Torniamo! Azione! Guadagno terreno! Scappa! Il tornado sta per travolgerti! No! Che corsa! Sei arrivato alla grotta! Mi giuro che se giochi a Zelda ti faccio mettere una testa di cavallo nel letto! Scherzo! Al massimo le bracciole di cavallo! Buone! Buone! Ok! Bel lavoro ragazzi! Abbiamo finito! Vediamo un po' che film è chat! Preparatevi e sedetevi! Sedetevi un pochettino perché ora... Vedremo un po' com'è questo grande film d'azione! Cioè in realtà non è d'azione ma l'avete capito! Pronti eh! Mi raccomando! Silenzio in sala! Che la pornografia abbia inizio! Ho sbagliato! Vabbè avete capito! Ho sbagliato! Questo viene rubato! C'è solo una persona da chiamare! Chi? Chi? Un detective brillante! Sempre pronto all'azione! No! Volevo essere io il detective di me stesso! E con tanto fascino! Al suo fianco un amico fidato! Insieme! Sono fenomenali! Fenomenali! Non c'è proprio niente! Che riuscirà mai a fermarlo! Ma c'è la mia foto lì! Ma è tutto merito di merda! Non cogliere l'attimo! Rubalo! Ruba l'attimo! Mi raccomando! Non lasciartelo sfuggire! Ma no! Deluso anche da quei! Ma perché? No! Era più bello di te! Ti buffa! Sono tutto internetto! Mi sa fare il filmato? No! Eri da con bar! Ma sempre da con bar si sono! Caruccio però eh! Hai fatto bene come attore in questo! No! Questo qua è da caruccio! E questo qua è da caruccio! Cioè qua è proprio un problema che abbiamo sbagliato da parte! Ma perché sono molto generici come giochi questi qua! Dobbiamo trovarne uno dove siamo più il protagonista! Sai zitto! Fai schifo! Dobbiamo essere un po' più... Vediamo se troviamo un modo per essere un film un po' più singolo! Ecco! Ciao Zero! Un Burbaro Detective deve ritrovare una persona scomparsa! Eh tipo il Burbaro Detective siamo noi! Gemelli abbiamo... Pianeta diverso! Ferro e fuoco! Minaccia tossica! Non vedo l'ora! Sguardo indiscreto! Ah ma abbiamo quasi finito! Ok! Ok! Vai! Facciamo... Chat... Villa Vampiria! Dai! Anzi facciamo il Burbaro Detective prima! Burbaro Detective! Dov'è? Dov'è Detective Burbaro? Dov'è? C'è la dura uno spazio! Veneta? Il vuoi essere Burbaro! Minaccia tossica! Ah non c'ha su Detective Dammo! Sguardo indiscreto! Controlliamo che l'attrezzatura funzioni a dovere! Sì! Sono Burbaro! Ora posizioniamo la videocamera! Sì Michele lo sappiamo ma è un casino! Dopo diventa infinito! Cioè diventa... Immagina di quello che facciamo noi per quattro ogni round! No è troppo! Cioè diventa infinita una partita! Capito? Solo per quello non lo facciamo! Magnifico! Esci dall'inquadratura! Così digitalizziamo lo sfondo! Magari lo rifaremo in corpo un giorno! Ritaglio concluso! Un giorno magari lo si rifà in corpo! Più avanti! L'anno prossimo! L'anno prossimo! Vai! Tradito investigatore privato! Ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare! Ovviamente sono l'investigatore Burbero! Ciao Berretto! Quasi! Ma anche qua sono... Sono uno buono! Piango! Bravo Sagi! Magari sarebbe bello! Sarebbe bello! Vado! Vado! Arrivo su se! Tiriri! Evita gli ostacoli! Usa la rampa per saltare! Ma lo vedo io! Brum Brum! Scooter per la città! Schiva gli ostacoli ma colpisci le rampe per ottenere punti! Tra un anno ricordami! Ciao Berretto! Brum 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 Brum! Brum Brum Brum! Brum Brum! Attento alla vernice! Brum 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 tout! Un rude! Un duro! Sono unande protective! ma non è un po' di più vroom vroom ma allora ormai si cambia da solo senza mani la prossima volta magari usiamo una bici giuro che cambia da solo oh come ti permetti che puoi usare la bici ma questo ci mette delle botte vai ancora ancora giocatore 1 ma allora scusatemi ragazzi ma guarda quella quanta confidenza si prende soprattutto quanta confidenza vai ma che male hai porverizzato le tita dal rumore lo faccio spesso mi piace avvicinati e abbassati se necessario come si fa? fissa l'ape oh no l'ape ciao tabu ci siamo quasi non lo so fare è normale dopo tutti sti film di odio di registro come si permettono di armi? ciao tabu alla prossima ci vediamo domani c'è qua finisce che facciamo solo questo oggi lo dico si punta a finire piano piano fai un po' di relax non è vero ma quello relax ragazzi il relax è per i morti vado vado batti sul tamburo e vai si tutti a ballare la conga batti sul tamburo più veloce che puoi per far danzare la scimmia batti batti e' balcino se' è balcino la scimmia è merda cosa sto facendo? ma è il pisello la scimmia? ah no è la coda per fortuna la scimmia si scatena per fortuna è solo la coda pensavo fosse il piru eh vabbè la scimmia ce l'avranno no? era la coda invece per fortuna per grazie di dio Siliron dimmi tutto Desidera Desidera mi dica Ah hai visto Psyche Quante cose che sai Quante cose che sai Mi dica mi dica Guarda lì che faccia di cazzo C'è un investigatore privato Oh No Ciao Ponghi Basta Non ne voglio fare Ponghi Non è possibile Non è possibile Sono un detective Mettici più grinta Più grinta Coraggio Forza Ehi come lo hai fatto andare I detective non ho nulla A dove ne va Mi voglio far degradare Dal mio detective Sono burbero Quando le cose Vengono fatte Ci sono Mi dica Quante gif si possono restare Da questa là Non ho idea Ma mille Giasta Febbre da ballo Porca miseria Ma sono un detective Non voglio Va bene Sono pronto vai Non è possibile Non è possibile Per la posa Cioè vedi È un pezzo di culo Sono eletti Azione Voglio 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 Dai dai Fammi vedere Fai parlare la musica Io spero mi sparino Mentre sono diretti Faccio una mucca Mo Lo sapevo Ricordati di danzare in modo bulberi Così Come si danziano i bulberi La senti Che cazzo Non vai Poi Vai Viva la musica No Charles Quello è il set Non si può Non si può Tu sei super Io ci spero molto In questo Secondo me questo qui Sarà fenomenale Ma come No Secondo me questo sarà bene Ma lo sento No Fammi vedere se hai talento No Già te lo dico Oddio Ce l'ha bloccato Quanto riesci a sforgerti È passato È impossibile Che stavo Più pathos Devi Fantastico Che professionista È terribile Sono diventato monco Finito E ora Possiamo andare al cinema Vai Ho perso tu Oh Si va Si va Si va Il cinema ci aspetta Più pathos Che sono dei tu Come Mangi dei boppocorno Vai Mangi Mangi Vediamo 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 Sarà incredibile Sguardo indiscreto Era un giorno come gli altri Per il crimine Qualcosa Stava per andare storto Puoi segno Tutti vogliono avere più di una relazione Come Ma nessuno vuole essere beccato Giusto L'amore Porta a fare cose Terribili Balli Diabolici Uno scandalo Sensazionale C'è chi si accontenta Di una sola cosa Ma ragazzi Non mi sono inclinato Odenaro C'è chi le vuole entrambe Non mi sono inclinato Non ti puoi basare su dei sospetti Devi avere qualche prova Devi avere Uno sguardo indiscreto Ah ma è finito così Ma questa era proprio una merda Ma what Ma no Ma è finito proprio Così tagliato Devi avere uno sguardo indiscreto Adesso era proprio fango Puoi salvare No Che finale temibile È un trailer Ma è un trailer di un trailer Re dei classici No no Re delle classiche Saltiamo la premazione Questo è proprio un film di merda Vai Hanno finito il budget Anzi Era sfigato Non ci credo Questo qui si era un po' sfigato Ma arriverà secondo me Tra un po' ci sarà la perla Cioè ve lo dico Secondo me tra un po' ci sarà la perla Allora abbiamo Vampiria Creatura dello spazio Pieneta diverso Zombie della notte Ferro e fuoco Minaccia tossica E E basta E basta Vai Secondo me tra un po' ci sarà la perla Cioè è proprio matematica È proprio matematica No facciamo vampiria Poi minaccia tossica Di fatto Tanto li facciamo tutti Non lo stacco Prima che do finiti tutti Ti vuole finire oggi Ci sono ok qui C'è c'è Ora posizioniamo la videocamera Assicurati che tutti si trovino nel contorno Senza sembrare o troppo grandi Oppure troppo piccoli No ma li ho presi a casa Barba A casa Quindi è improbabile Magnifico Esci dall'inquadratura Così digitalizziamo lo sfondo Per favore Attendi Ritaglio Concluso Adesso torna davanti alla videocamera Ok E' il momento di rivisitare Cut out studio Ci sono vai Villa vampira Questo c'era malformed Che lo aspettava tanto Vediamo Vacanziere Vacanziere Vampiro Vampiro Ti verrà così assegnato Il ruolo da interpretare Eh oddio Eh mo E mo chi facciamo Mo io chi faccio Vampiro 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 Allora fate conto Che da come ho capito Sono dei vacanzieri Che vanno Come facciamo Il verde di solito Il verde di solito Il protagonista È vero È vero Effettivamente di solito È il verde Il protagonista Cioè Però boh Facciamo a caso Facciamo il Non lo so Ho dei dubbi Qua veramente Andrebbe fatto 1 e 1 Cioè Qua andrebbe quasi Fatto 1 e 1 Vampiro 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 Vabbè il vampiro Perché è figo Fa il vampiro Secondo me Rosso va bene Ciao Di Ancatron Sono veramente Dubbioso Non so chi fare I vampiri Sono fighi Eh però Se facciamo Solo gli scherzi Facciamo entrambi Aspetto Aspetto È che Questo è un casino Dipende se Twilight o no Anche Fatemi vedere Una roba Scusate Trovate una mia foto Così Così Metto dentro Sì L'ho trovata Metto questa Oddio Ma non si Dipende Troppo lungo Eh Si diventa Troppo lungo Vabbè dai Facciamo il vacanziere Però facciamo Vacanziere 1 Facciamo Vacanziere 1 Entra in uno Dei quattro contorni Per fare la foto Ti verrà così Assegnato Il ruolo Da interpretare Io farei Vacanziere 1 Il vampiro Farà gli scherzi Il vacanziere Invece deve Deve Come dire Reagire A quello che Fanno i vampiri Vabbè Vai Noi siamo I vacanzieri Non conta Vai Il vampiro Succhio Appunto Non voglio Giocatore 1 Ho bisogno Di te Sul set Brava È vero È vero Il vacanziere Mi sa che Corro Panecchio Oh no Bugni E risate Vedi Salve Salve Questa è una rapina Schiva gli oggetti E colpisci I balordi Ma ti prego Non colpire Le signore Quante cose Devo fare Azione Chi è il balordo Eccone uno No signore Ma no Che dolore Mi dispiace Signore Ma che ti ha fatto Quella poverina Scusa Non lo vi Non colpire Le poppe Fai attenzione Le poppe No Le mancano Le mancano La poverina Colpito Oh no La luce L'ho ritoccata L'ho raccato Oh bella Signore No di nuovo Ma non C'è la visione Strangere di donno No Hai riportato La legge Ma lo ve lo io È un dono Come andava Un casino Giocatore uno Porta le chiappe Sul set È successo Avendo un casino Scusate Non volevo Non volevo Eh purtroppo È andata così Tocca a te Segui solo Le mie istruzioni E recita Come una star Vai Immagina di guardare Giù in un pozzo Azione Ehi Stai andando forte Bene Eccone un'altra Maestro di regia Posizione del condorno Vinci sorpresa Ti guardi il pipo Azione Grazie Fammi vedere Che sai fare L'ho trovato Un'altra Vado Muoviti come Farebbe Un ladro Azione Un ladro Anziano Così Bene Un ladro Veramente Anziano Fantastico Che professionista Ma la sinistra È terribile È terribile Ah devo premere Giocatore uno Sul set Di nuovo Il lato Lo fa troppo bene Eh Adrei Qui ci vuole fare Sono un maire Toc toc Devi svegliare Lo sceriffo Busa alla porta E preparati Ad afferrare L'oro E a schivare Gli altri oggetti Forza Sono bravissimo In questo Mi sono colpito Azione Ti è morto Mi sono fermato Di nuovo L'oro Bello Aia No l'oro Dammi la panta No No L'oro L'oro No Vabbè Aia Vabbè Li arrendo No Che li abbia Aia Beh Devi essere più veloce Fenomeno Fenomeno Quanti immazzati Compre Ah Giocatore 1 Il gioco del monograbber Punto di esclamativo prime Ne mancano Poche per gli 8 e 80 70 Vero Sì Sai così bene Che il gioco pensa Ti sta mal funzionando E recita Come una star Oh Sfregati le mani In segno di gioia Ehi Questo è un bravo E farlo Ah il denaro Il denaro Bene Tirma così Il denaro Un'altra Svegliati e urla Oh Azione Su vai Rimani sul set Corri sul posto In preda al terrore Azione Fammi vedere Che sai fare Come bene Ho paura C'è la power Il pubblico ti ama Guarda che paura E di là Sembra che mi sto cagando addosso Chi lo sa Ma che è pure succede Turno 2 Ancora Ma quando ruro il suo film Ma il film più lungo del mondo Giocatore 1 Vieni subito sul set Ma ho registrato almeno 90 scene Siamo ancora alla 2 Ah ecco Dai Prova il tesoro Allora Fingi di essere Un cacciatore di tesori È un film Tiro la fune Prima che scada il tempo Per recuperare il tesoro Ah così Oh no Azione Ci sono un sacco di mucche Mamma mia Mamma mia Che muscolo Che mi sto facendo Ottimo Ottimo Giocatore 1 Giocatore 1 Desiderato sul set Ho davvero un sonno È perché mi sto stagando Domani ti troviamo Che sembri Broccoli Hai momento di metterti sotto il riflettore Non c'è alcun punteggio Sicuro Segui le mie istruzioni Tiro sembra altro Diciamo Ma me lo dici Ma mi quasi sembra Un fattone Anche Giocatore 1 Vieni subito Sul set Oh no Hai gumma Si corre la maratona Finisci il percorso Nel minor tempo possibile Vano Se ti surriscaldi Rallenta l'andatura E afferra le bottiglie Per rinfrescarti C'è va C'è Azione Credo Non è un caldo Vano contro Basta Perché sto andando così veloce Potrei andare più piano Ho sedere No Non ho sedere No Si Ho sedere Non mi va bene Lavorrai con del limone Sto andando Signore e signori Che gara Hai mai pensato Al professionismo Mi è piaciuto Swag Legge Tom Zelda Bello Finito Mi è piaciuto Mi è piaciuto tanto Abbiamo Finito Grazie a Dio Vediamo Ci spero In questo Silenzio Insano Mi spruzzerò L'acqua Spero Siacro T'augurò Finalmente I bambiri Doveva essere una vacanza Indimenticabile Ma si è trasformata In un viaggio All'inferno Ok Bella Quando la notte cala Sulla creatura Della notte Una vacanza Da sogno Che diventa Onincubo Ma chi stavo Dal quale Non potrai Svegliarti Nessuno Può sentirti Urlare Un viaggio Terrificante Signore A non perdere La testa Hai degli amici Per cena Letteralmente Ciao Ale Se quello che cerchi Mi fa male Un po' Di riposo Questa vacanza Te lo darà Eterno Vedi Ho fatto bene Ad essere un vacanziere Bello Bello Stavolta L'abbiamo Anzzeccato Abbiamo fatto Il verde Chat Bello 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 Questo qua Sarò bello Lo salviamo Il mostro Pispistrello Ciao Manicone Ok Pipi Pipi Ecco qua Questo lo consiglio A miei amici Solo che ora Ci vorrà un pochettino Di tempo Perché si deve salvare Controllo Una cosa Controlliamo Sapete che Sto controllando Chat Ma vi spiego Sto cercando Di vedere Se ci sono stati Altri errori Così vedo Magari Dormano Il pipo No Aspetta No 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 Forse era Veramente Un avvio Loro Sto cercando Oscar Sto vedendo Se c'erano Altri errori CRC Che ha detto Dilla Che prima Ho parlato Ma di te Così impari Oddio È morto Antonio Sono stanco Un poco Se devo essere sincero Però continuiamo Sat Sit Tu Che prima mi sono andata la connessione Sto zitte Sto zitte Però dai Per ora Sto andando bene Non puoi farci vedere Un altro film del genere Lato dentro E ne avremo altri Ti sei allenato per tre ore Wow Stasera Mi scoffono Pure le porca Perché un maiale E fa Me lo mangio Vivo Giuro Per chi solo chiedesse Legge il nuovo zelta L'abbiamo finito Bello Bello Ci è piaciuto un sacco L'arte non ammetta stanchezza Già Buonasera ancora a tutti quanti Ok Proseguiamo Oggi lo si finisce Se verso tardi Siamo troppo stanchi Ci vediamo direttamente domani Se no si fa altro Ma potrebbe essere Che ci pronunchiamo Fino a Cioè Che letteralmente Ci finiamo La live Con sta roba Uè Tosca Buonasera Ma più che leggenziato Vi vorrei capire La morale della favola Non si può Siamo diventati Iroi La leggenda Bravo Bravo Ci vuole un pochettino Amici Perdonatemi Però caruccio Questo qui Vedi Vedi Potrebbe esserci anche Altro molto divertente Solo che palla Ogni volta che deve Salvare Bisogna essere pazienti Amici Ma domani è sabato E sapete che facciamo Il sabato Ci vediamo pure i video Mangiamo E ci vediamo dei video Insieme La coppa Non ancora La coppa Potrebbe essere Rimandata Però vediamo Un secondino Vediamo un secondo Come va la scebo Fa il pork sub Mangio Sì Ok Video salvato Si va avanti Saltiamo la premazione Ok Esce la premazione Sì effettivamente Non ha l'SSD Purtroppo Eh no Vai Si va Io direi che voglio andare Un pochettino Nello spazio Cosa ne pensate Cosa ne pensate Si va nello spazio Creature dallo spazio Io direi proprio di sì Ridicoli alieni Parlano di me Ciao Faux Periodo di Disomino not Ferro e fuoco Minacciato Sì abbiamo finito Vai andiamo Creature Dallo spazio Sei tu Già Si a fuoco Fuoco Le luci sono ok Ora posizioniamo La piscina Assicurati che tutti si trovino Nel contorno È una cosa incredibile Oppure troppo piccoli Eccoci nel cut out studio Qui è dove si separano le immagini dallo sfondo Magnifico Esci dall'inquadratura Vince sempre in modo che ha comprato il gioco Eh sì praticamente Per favore Attendi Praticamente sì Ritaglio Concluso Adesso torna davanti alla videocamera A posto È il momento di rivizionare Un giocatore purtroppo Sono solo io Leader mondiale Contorni per fare la foto Ti verrà così assegnato Il ruolo da interpretare Ragazzi ma che faccio Che faccio Lì non ha la switch Chi facciamo Il leader Ma voglio fare l'alieno Scusi che devo fare su leader Però tu dici che l'alieno Rompe solo roba È pino la lavatrice Chi facciamo Ciao Odi Leader mondiale Deve essere bello L'hai addirittura messo in gara Eh vabbè Perché se arriva Lo giochiamo Fai l'alieno È più naturale Leader Quello che ti senti ormai Sei un video No Non lo so Chi voglio essere Non lo so Io farei effettivamente l'alieno È che il leader mondiale Che può mai fare? Dice Il leader dice Uccidiamoli Ma no Faccio l'alieno No ragazzi Voglio fare l'alieno Sarò grande Facciamo l'alieno Facciamo Ma no Però li odio Hanno troppe Troppe cose Che puoi fare Chi facciamo Ambra paci Ciccocco Tre civette Su comò Che facevano L'amore Con la figlia Del dottore Il dottore Si ammarò Ambra paci Ciccocco No Il civile no Sono l'alieno Con quell'aura Verde Ma veramente No Voglio fare l'alieno Tu sei un leader Ma che palla Essere un leader Ragazzi Ma chi vuole Io sono l'alieno Dentro Sono dentro L'alieno Suona i tamburi Alla carga Vieni È una tempesta tropicale Suona i tamburi Più veloce che puoi Per far muovere La barca più rapidamente E sfuggire al tifone Scusa Gioca sullo spazio Io non faccio l'alieno Io sono pazzo Vai maestro Vai gallino Sinistra a destra Sinistra a destra Vai così Eh no no Che ponghi che ho Che ponghi Hai dato il massimo Grazie Lo sa Meno male che lo sa Che ho dato il massimo Quello è il mio massimo Per davvero Ah ecco perché vinco sempre Perché prendo anche i bonus Capì? Generali Eh no ragazzi Sono troppo forte Si dimmi Si dimmi Sono troppo forte Scusate mi stavo suonando il bongo Vai oh no ho fame ragazzi Oh no Così come se fossi nel mezzo Così come se fossi nel mezzo di un terremoto Però fate come Dekka Junior Però fate come Dekka Junior Bentornati per i 19 Grazie di cuore Scusate di cuore Deca Junior Ai piedi morbidi Da 19 Mazz Ciao Lino Tu non sai fare Che vuoi? Senti gli applausi Oh che momento Ecco Imparate la vostra Così io Che faccia di cazzo Ma che faccia è? Che fa Devi camminare di profilo Tu sei un profilo Va davanti Beh oh Beh oh Beh oh Beh oh Giocatore uno Sul set per favore Indica la tazza dove si nasconde il pisello Dove sta? Eh? Non so Forse questo gioco ti sarà familiare Osserva attentamente le tazze Quindi indica quella che contiene il pisello Vai Quale? Su proprio Sotto Mezzo Sopra Sotto 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 L'ho perso È quello Ho sbagliato a indicare Grazie a Dio Nessuno ti fa fesso eh No Allora dove c'è il pisello Sotto 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 Sopra In mezzo Sotto Sopra In mezzo Sopra Sotto Sotto Mezzo Sopra Sotto Mezzo No Era in mezzo Poi bene le braccia Tipo così Sono proprio un alieno Se cerchi il pisello basta spegnere la seconda luce Quanta verità È arrivato il tuo momento No finalmente Segui le mie istruzioni E recita col cuore Vai Fammi una risata Malefica Questa è malefica proprio Vedi Diventi tutta Oh vai È malefica Senti gli applausi Oh che momento Guardali che gobita No Non è nel contorno Mai però Mai Di contorno Perché è per vissuto sempre Le prime e secondi Contorno mi appesantisce Ciao grazie Pignola per 50 Pronto chi è Quella è esattamente La faccia di un filosofo medievale Avendo la verità Rivelata dalla grazia divina Certo Madonna Sei da banda Tu Forzuto No Questo qui è un gioco Per Xbox 360 Banda Colpisci il pulsante Tre volte E fai suonare la campana È un gioco Vedrai tra pochissimo Cosa fai Cattocolli Devo imparare La morsa Eccezionale Ben mangiati I tuoi spinaci Che muscoli No Non per Kinecta Per Xbox Cam Viene ancora prima Col panzino pieno Il mio pure Sembra pieno Ma è vuoto Infatti ho fame Che muschio Grazie a vedere È tutta una merda Ma è vuoto È vuoto Non c'è niente Ho tanta fame Ho tanta fame Guarda come sono secco Lì a destra Ah no Sono di nuovo Combatti Oh no Vai Sono pronto Di essere in un dojo E di prepararti A un combattimento Scansa le braccia Del manichino D'allenamento E colpisci I bersagli Vai Azione Un colpo Devastante Ma è impossibile Schivarli Prendi Testa di legno Tu c'è una testa di legno Pratichi il kung fu Per caso Sì Dai giocando Massacrando Ossa pulminante Dai Questa non mi salta Prendi questo Ah ah Sono un mago Ma con le cindere Eh sì Solo botte E pugno No è che Il problema è che Sono troppo vicino Panda Quindi prendo tutto Praticamente Scansati Ah ah Mi arrendo Non so che è più duro Tu Il manichino Oddio Se non ce la posso Ma chiù Ciao Leon Madonna mia Finito E adesso Panda Scoprirai Che cos'è questo gioco In realtà Tieni di pronto Zitti tutti Al cinema Ma vediamo Che cosa Non c'è Tony Roberts Cos'è che leggi Tu alle F*** Dio Oh oh Attenzione 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 Pronti Pronti Vediamo un po' Di cosa c'è qui Credevano venissero in pace Credevano fossero innocui Ma si sbagliavano Orribili alieni Astronavi E non se ne andranno facilmente Abilità misteriose Mettiti in salvo Gli alieni sono arrivati E ci rimpiccioliranno Tutti Ma come Bellissimo La battaglia È appena cominciata Sopravviverai Allie Creature Dallo spazio No Sono diventato Piccolo Puglio Sono diventato Piccolo pure io Che storie Questo qui pure È un po' La mierda Carino Ma non Non eccezionale Lo salvo Carino Ma non Non eccezionale Lo salviamo Ma sì 5 su 10 Cortissimo È vero È vero Che è stato corto Alieno Vabbè Saldiamoli Perché comunque Magari Il fatto che Sono un alieno Brutto Potrebbe far ridere Alieno Niente come Mr. Guns No Quello Impossibile Si erano rotti Le palle Probato Ma non so Scrivere Ok Prossimo Mi sa che Facciamo Vediamo Non mi ricordo Chi c'era È l'inizio Incredibile Purtroppo L'attore Scarso Ma se sono Meglio Dice Jean Van Damme Io domani Se vado a fare Il provino Per fare L'attore Mi prendono Capito Come di per me Io guarda Io sono Ho studiato Arte mistica Alla scuola Degli attori Pornografi Ne ho solo studiato Ma non mi hai fatto Entrare Ti prendono Sotto Esatto Mi picchiano Poi Ti prendono Una spelle Ti prendono A pugnetti Allora Con gli attori Che stanno in Italia Ci credo Zitto Che devo tornare In banca Se no E vai vai Candidato Premio Orza Il premio D'orzo Sì Ragazzi Però mi voglio sedere Un po' Mi fa male Il culo Sono in piedi Da cinque ore Non ce la faccio più Dalle quattro Sono in piedi Quattro ore E tredici Eh Il premio Ordo Il premio Diversa Il prossimo Il prossimo Intendi Il film O il gioco Islanda Chi Dobbiamo andare In Islanda 3 ore e 50 No 3 ore e 50 Perché abbiamo Avviato la live Sherlock Abbiamo Avviato Drago Culo Pesante Tu Nessone A te 4 ore In piedi Eh Disse A persone Che magari Lavorano In fabbrica Stanno 8 ore In piedi Ciao Dallo Buonasera Da po' E si fece Menare Dalla sua Community Il culo Di soldo Fa male Quando uno Sta troppo Seduto A me Vanno male I piedini Molti Noi Lo fanno E appunto Ecco I piedini Guardate Che Pesano I piedi Ciao Dallo Ciao Alex Welcome Come va A me non serve Stare in fabbrica Per stare in piedi Ah Sfigate Noi facciamo lavori seri Ma se tu sai più Grazie di me Ok Vai Fa un culo La presentazione Prossimo film Molto Molto Bene Sono stato 10 ore In piedi Vai Aspetta A sedere Subito Dettagli Cioè Tu fai A vero Video Tu metri a me Grazie di Proprio Spiegato tu Vero Pianeta Diverso Due rappresentanti Di due specie Diverse Partecipano Precipitano su un pianeta alieno E devono collaborare Per sopravvivere Let's go Let's go Sì Sono io Le luci sono ok Ora posizioniamo La video Ciao Gioni Tutto bene Tu Assicurati che tutti Si trovino nel contorno Senza sembrare O troppo grandi Oppure Sì Lo devo fare Magnifico All'inquadratura Così Digitalizziamo lo sfondo Per favore Attenti Ritaglio Concluso Adesso torna davanti Alla videocamera Prego Gioni Quanti sono Gli attori Pilota Navigatore alieno Torni per fare la foto Ti verrà così Assegnato Il ruolo Da interpretare E oddio E chi faccio Mo Di nuovo L'alieno No Il pilota Andiamo di pilota Chat Entra in uno Dei quattro contorni Per fare la foto Ti verrà così Assegnato Il ruolo Da interpretare Vai Ah come sto comodo Qui per te Chat Ma muore sto qui Muore sto qui Uno vieni subito sul set No sono stanco Lasciami stare Non voglio venire Dai per favore Come immo Boxer No come colpisci Venghino signori Ciao Metti alla prova La tua foto Colpisci la palla Tre volte E misura I tuoi muscoli Vai Azione Mi scelgo Ma fortissimo Solo un altro tentativo Preparati a colpire Wow ci sei andato giù pesante Ma affatto così come ci sono andato giù pesante No 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 Tego voglio finirlo oggi Voglio finirlo Voglio fare questo Poi vediamo se fare altro Però voglio fare questo Yeah Oggi si fa questo Avete capito Pronto a tutto È arrivato il tuo momento Non c'è alcun punteggio Segui le mie istruzioni E fammi vedere se hai talento Vai Come lo giusto a me Incrocia le braccia E fa una faccia arrabbiata Azione Stai andando bene Rimani sul set Punta il dito Con rabbia Corri No Pazzo lì Anzi qua Cremino Ah ecco Stronzo Azione Sambani col prime Ma pure senza Fallo Ecco Ah ho capito adesso che ha detto Valle Corri sul posto Corri Oh no Piano Per favore Vabbè Vabbè Va bene così Bene Ecco Questa è la massima velocità Fantastico Sei una vera star Grazie Vedi Me lo dice lui Anche Io ti vedo più magro Ma dove? Su un pianeta alieno Beh 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 Hai pure i capelli verdi Giocatore 1 Desiderato Vai ci sono Turno dos Io non ho i capelli Oh no È quello difficile C'è Bene è ora di far lavorare le meningi Ma è il simbolo sulla tavoletta di pietra Ci provo Quello giusto Sulla pergamena Ci provo Azione Ok Memorizza ciò che hai visto Indovinato Bravo Ok Ok Manaccio Cazzo Sti braccio Ci cambi Devo stare così Usa le tue facoltà mentali Ah No Non era esatto Povero Ora Concentrati Eh eh Vatti mic Più piccoli di questi Non ti inganna Ok Lo scimmia A posto Esatto Ti sei concentrato Lui Sì È giusto Scolpisci Telo nella mente Lui Perfetto Sei Grande Ma è stato così Oh no Non l'ho visto Questo Ok Non l'avevo visto Ciao Va bene Sì a posto Non l'avevo visto Meno distratto Scusate Scusatemi Ero distratto Oh Quindi mi raccomando Mettete video sul discord Per domani Mi raccomando Che ci vediamo un bel po' di video Domani Domani facciamo una sciallità Domani il sabato Nella sciallezza Poi Forse ci sarà anche la coppa Con 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 Vedremo Vai Metto un video non illegale Bravo Fingi di guidare È la prima volta che lo facciamo Anzioni Ciao Ledi Siamo quasi Bravo Di nuovo È la prima volta che facciamo sta roba Immagina di guardare giù in un pozzo Questo Questo è lo che ci sarebbe fatto Un successo clamoroso Stupendo Cosa Eh Turno 2 di 4 completato Come 2 di 4 Ma ragazzi ma è un messo di riprese Questo è il film di due Nella storia Che bravo E quel gattino Ci sono È Infinity Wars Probabile Tronchi Pelle nuovo Che spasso Immagina di essere ai giochi delle Highland E di partecipare al lancio del tronco Lancialo Più lontano che puoi Ok Ci provo Vai È bellissimo E qualcuno ha mangiato troppo Come? Sono con i mutande Ma che gioco è che l'iglia? E qualcuno ha mangiato troppo Il lancio dei peeps Qualcuno ha mangiato troppo? Il lancio 9999 I am Jesus Come che scarso? Ho fatto 9999 Che scarso? Ma non mi ha buffo Il troppo Ragazzi Bungle 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 Ho bisogno di te sul set Mannaccia La miseria Va bene Ci vengo sul set C'è proprio Devo C'è proprio Stiamo al farm Non c'è alcun punteggio Segui le mie istruzioni E fammi vedere Se hai talento Fingi Molta preoccupazione Avvicinati E abbassati se necessario Come sono Troppo Azione Tu vai Fammi vedere Che sai fare Non so Che cos'è la preoccupazione Quindi le ho fatte tutte Sei una vera star Ciao L'ho fatta tutte L'ho fatta Sono preoccupato Per la mia salute Ma perché Voi vi siete Mai visti allo specchio Quando sei preoccupato Anzi no Giocatore 1 Porta le chiappe sul set Ancora Va bene Sto arrivando Se proprio devo Vai Oh no Oh no L'editore furioso Sta lanciando Oggetti dappertutto Afferra le bobine dorate E schiva gli altri oggetti Ma non c'è un batterino Vai Sono pronto Azione Aia I soldi Dovresti schivarli Ehi C'è bisogno Di una barella qui E' vero Wow Grande Vesce Vabbile Forza Wow Aia Che male Presa una Sto diventando fortissimo Come rifersi un brato Boh Sono bravo Aia Hai visto Juni E' Christian Bale Proprio così Ma ora Parte il film Mi sa Io mi siedo Armovarsi film Bel lavoro ragazzi Abbiamo finito Chissà come sarà Questo film Ma ragazzi Che male viedo Questo sarà bellissimo Cos Il film di King Arthur Incentrato Sulle lotte di potere Scoppiati in Gran Bretagna Dopo la caduta Di un impero Quale? Bravo Lo sapevo Poggi Poggi Zigg Poggi Poggi Vai Incredibile che facciamo film Sempre per tutti Nella regione più oscura Dello spazio Dov'è Veramente buio Due razze Sono in crisi Lottano Per il cibo Per il cibo Contro il freddo E mostri Orribili Su questo strano Inquietante Misterioso pianeta Anche gli alieni Cercano amici Le regioni più inesplorate Dello spazio Presto In ogni cinema Pianeta diverso Dove anche gli sconosciuti Diventano amici Questo è carino Pianeta diverso Pianeta Wait Il pupazzo troppo attore Infatti ha vinto due Ciao Nell Come stai? Sì molto brevi Però carine Devo essere sincero Spero di sì Spero di sì Ah metteremo questo acceso Un secondino Un secondino amici Allora Piripi Piripi Mo che cosa c'era? Se non sbaglio La roba radioattiva Se non sbaglio Mo tocca La roba radioattiva Sono pronto Sono pronto Ad essere radioattivo Appena rientrata All'uni Così tardi? Ma no Mi spiagge Spero tutto a posto Comunque per il resto Noi stiamo giocando Un pochettino A questo Ziochio Vediamo Lo stiamo per finire Ecco Mancherà poco Poi dopo Scopriremo Se continueremo O andiamo avanti O ci fermiamo Lo scegliamo Quando ho finito il gioco Eh Quindi Fate conto Che è una live normale Ok Non vi Non vi date Al panico Generale L'incredibile Hulk Quello mi sa Non c'è Sarebbe carino Però giocare L'incredibile Hulk Fare il film D'incredibile Hulk Vediamo che cos'altro c'è Ci vuole un pochettino Però come sempre E bene mi vorrei Se deve Mi sono qui per terra Amici Come state? Eh Battetemi un colpo Ma voglio impanicare No Vediamo Vediamo un pochettino Dreadout 2 Chi lo conosce Come gioco L'ho comprato ieri sera Sembra proprio fico Sembra proprio un gioco fico Che anche se Do per andiamo a shot Può essere caruccio Tra l'altro Ho trovato anche La traduzione in italiano Poi avrei anche Boom Simulator Perché è uscito Diciamo un pochettino Ho rivisitato E Lo vorrei giocare Non ricordo il gioco qual è Ho anche il primo In realtà Però penso che partiamo dal 2 Di Dreadout Perché tanto Vabbè La trama è Una signora Che vedi fantastico Il 2 Sembra più carino Dell'1 Sinceramente Non credo sia Proprio stretta Strettamente Con l'altro Non è che Chissà che trama Ci hanno Capito È un po' come dire Eh no Non puoi giocare a Zelda Te li devi giocare Tutti quanti Star della fantascienzia Non ci vediamo A pronunzione Andiamo avanti Yes Carino questo Dreadout È uno dei dieci giochi Che ho scaricato al momento È visto Sai Come ti leggo nel cuore Non ci sta niente La fa Mi sono perso Dopo un'ora È il primo Il primo secondo me È un po' più Duro Ah ma ragazzi Ne mancano 3 3 film Chatta Gli zombie Ferro e fuoco E minaccia tossica Un orribile Scenario Trasfumano Un ignaro Bastante Del cattivone Di turno Eh questo Secondo me È incredibile Ferro e fuoco No ragazzi Questo qua È l'ultimo Minaccia tossica È l'ultimo Minaccia tossica È l'ultimo Per forza Gli zombie Della notte Vai Ma aspetta Ma non abbiamo già giocato Ah no Vado Uè Lele Stun Bentornato Per i 10 Come stai Bello mio Ti ringrazio di cuore Dai che ci arriviamo Allando E sono 10 Altri 2 Ed è un anno Minore di 3 C'erano i zombie Ah ok Grazie ancora Lele è bello Magnifico Esci dall'inquadratura Così L'ultimo Quello lì Secondo me è bello Per favore Attendi Secondo me Quello sarà Mister figo 2 Adesso torna davanti Alla videocamera E sono convinto Quanti sono gli attori Eroe 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 Giocatore 1 Sul set Per favore Niente sarà come mister figo Anche questo è vero Anche questo è vero Dottatore Vai Ormai sappiamo memoria Colpisci i bersagli Finché non scompaiono Ormai sappiamo memoria Giore sarà il tuo punteggio Vai Se non colpisci il bersaglio Ebbè Non otterrai punti Dimmi Dimmi Azione Oh micidiale L'hai conciato per bene Col diretto Stendilo Vai così E alle corde Che pugni Starley Colpisci Welcome back Una sottolineatura Voli 123 Ai piedi morbidi Da 10 marzo Il nuovo campione mondiale Spero tutto bene Amici Meno dos tipo Ai 6 6,70 Giocatore 1 Vieni subito Let's go Ci sono Sono qui Ti fa piacere Prego Bilim bilim È arrivato il tuo momento Segui le mie istruzioni E recita col cuore Ci sono Devo guidare Vingi di guidare Grazie Olley Per aver regalato Un abbramento a Divan Claressa No Olley Galamblich E Claressa Divan Grazie Sottolineatura Voli 123 Tra i gifti dati A Gunsup Fingi di insultare qualcuno Fingi di insultare qualcuno Fingi di insultare qualcuno Fingi di insultare qualcuno Feliz Claressa Gifti dati A Gunsup Tu Ivan Drogè Un'altra Punta il dito Con rabbia Come se qualcuno Ti avesse rubato C'è il tre, c'è il tre, c'è il tre, c'è il tre livello due, c'è il tre livello di Marrani, vai, fanno ora, e guarda di best off, chi ne è vivo, chi ne è vivo. Un successo clamoroso, stupendo. Ecco, fortissimo. Ciao Nel. No, siete Marrani. Tu sei un'azione. Hai capito? Giocatore 1, sul set per favore. Sì, mi dica, mi dica, mi dica tutto, qua, sono su 6, sono su 6. In buca. Oh no. Un classico dei Luna Park, lancia la palla nel cerchio tre volte per vincere un bel premio. Vado. Azione. Dai, dai. Non c'è la miseria. Non c'è la miseria. Se ti impegni puoi fare di meglio. Goal. Goal. Ciao Crews, mentre il numero 19. Come va? Goal. Grazie mille. La pulgogra ha i piedi morbidi da 19 mazze. Se ti impegni puoi fare di meglio. Dai, dai. Concentrati di più. Oh, ci sei andato. Abbiamo un vincitore, signore e signori. Pavoloso. Uno ogni tre. Meglio di niente. Meglio di niente. Come stai, Grullos? Spero tutto bene. Sì, 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 Paperino. Ciao, Blecca. Giocatore 1 desiderato sul set. Campione nazionale in Honduras. Sto facendo riposare le gambe. È arrivato il tuo momento. Tutto bene, mi fa piacere. Segui le istruzioni e recita col cuore. Vai. Sì, amore, dimmi. Fammi la faccia più scioccata che puoi. Azione. Ehi, stai andando forte. Sono scioccato. Fantastico. Che professionista. Ero scioccato. No? Oh, ma ma che avete da dire? Siete registi? Eh, come vi permettete? Io sì. E io dico che era quella. Guardate la mia foto. La mia brossù. Guardate la mia brossù. Voi non se la vedete la brossù che vi fa... Tu sei... Elastico. Guarda, sto reggendo. Quindi sono un regista. Devi interpretare un clown con la fune elastica. Ma che ne sai? Corri più lontano che puoi Prima che la fune ti fascini indietro. Che ho sbagliato. Guarda, piano, corro, però. Corro piano. Sono un clown. Muovi le braccia per andare più veloce. Come hai fiato quella fune? Che l'hai fatta? Una mia amica ha chiesto che faccio E io le ho detto. Vedo un ragazzo che gioca a fare la torre Utilizzando la videocamera della Xbox Mentre gioca a far andare delle palle In un cerchio davanti Un green screen e niente. E stanno andando a fanguno. Bravo, nerdona. Che clip. Bravo, brava. Potresti vincere addirittura Il... 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 Vip, poi. Chi lo sa. Shrek. Ah no, shaker. Apri le bottiglie. È tempo di festeggiare. Agita le bottiglie E fai saltare il tappo. Va. Va. Ok, dammi a, dammi a posta. Andiamo, andiamo. Shambang. Andiamo per fangere. Shambang. Bravo. Ehi, voglio vedere le vallicine. Ma il pancio è riappato nel suo gioco. Ma che sta? Bravo, shambang. Sbang. Shambang. Ehi, bravo. Bravo, bravo. Wow, dì no, no. È una colpa mia. Agirò la bottiglia. Vai. Ehi, voglio vedere le bollicine. Shambang. Forza, agitala. Così. Ehi, quanto bottiglie. Non ci può fare. Ti sei sgasato, per caso? Pronto, che è? Finito. A due armi di notte sul sito giallo e nero xd. Scopriamolo. Da quanto è ora stai girando, spot? Dalle 16 e qualcosa. Sono preso bene, quindi. Lo siamo per finire. Mancano due film dopo questo. Due. Literally due. Vai, come sarà avvenuto questo film? Scopriamolo. Se la tua città ti sembra morta durante il weekend, immaginati un posto dove la morte cammina per strada. Visita Zombieville se ne hai il coraggio. Ma attento. La morte è in agguato. Ma che cazzo sta succedendo? Zombie assetate di carne. Zombie assetate di carne. Sono merci. E puzzano veramente tanto. Sono stupidi. Gli zombie non sono molto veloci. e non fanno nemmeno tanta paura. Ma quando arriva il weekend si scatenano come mai hanno fatto da vivi. Bello! Gli zombie della notte. Bello, questo qua è raga russo. Un film di merda. Bello, gli zombie della notte. Normale, sì sì, normale. Vuoi rivederlo? No, vuoi rivederlo no? Vuoi salvarlo? Lo vogliamo salvare? Dai, cariccio, caruccio. Sono all'illusione ai drogati per caso. Potrebbe essere. Ottima una parte dello champagne. Salviamo, dai salviamo. Ci metterà un pochettino, ma salviamo. Slot vuoto. BORBAR ZOM PN PH Vai Ci sono praticamente dei trailer di Marcio Capatonda Rover. Ciao, buonasera. Sono letteralmente dei trailer di Marcio Capatonda. Altri due film, chatta. PEM, 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 PEM. Grado della città, certo. Ciao, Rododendro. Buona serata. Altri, quanto io ho detto, due film e abbiamo fatto. quindi tenetevi duri. Ciao, pignò. Non è che poi li carichi tutti su YouTube? No, no. Ci prometti che poi li carichi tutti su YouTube? No, non credo. Che trovi il modo di farlo. Più che altro li devo registrare e li devo mandare a sesto. A mille sub produciamo uno di questi film? Sarebbe incredibile. Produciamo dei trailer di Mr. Fico. Poi vanno rifatti tutti dai tre punti di vista. No, non credo. Accadrà mai una roba del genere. Ci mette un pochettino, eh. Ci mette un pochettino ma sta salvando. E mentre sono in posizione tipo come una gallina e sono seduto. Vanno platinati, no? Penso che un giorno non si sa quando, eh. Molto, molto in là. Li rigiocheremo in coppa. Sai che promettente carriera cinematografica. Ah, tantissimo. Mi accontenterai anche di un cortometraggio. Un giorno faremo un film. Bello, facciamo un megacall. A 2000 sub giro un film. Però con il telefono. Dove ci sono solo io come attore. E vado alla ricerca delle prugne. Così, cerco cerco le prugne da qualche parte. Vado da Frutti Vento. La trovo e l'è finito. Un film di due minuti. Salve, mi dovrebbe dare un chilo di prugne? Certo, prego. Giovi, ci sono 20 euro. Ah, grazie. Prugne. Un film amaro. Ecco, l'è finito. Sarebbe incredibile però. Film finiti. Un bel film, cioè, normale. Film La spesa di martedì. Vai a fare la spesa, vai. Finito, finito. Ok, ma. Un film pregno. Secondo me può venire una cagata. E quello è il numero due. Il film dopo, capito? Perché si è mangiato le prugne. Allora. La spesa di martedì. Ferro e fuoco. Minaccia tossica e poi abbiamo finito. Ferro e fuoco? Madonna mia. Bello, bello. I tre protagonisti rapinano una proprietà super protetta in uno spettacolare film d'azione. Spettacolare film d'azione. Let's fucking go. Vai. Controlliamo che l'attrezzatura funziona. Le luci sono ok qui. Per sicurezza verifichiamo. Ora posizioniamo la videocamera. Assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare o troppo grandi. Ma che stavo facendo, ragazzi? Mi ero messo in post. Ahahah. Qui. Magnifico. Esci dall'inquadratura. Così digitalizziamo lo sfondo. Mi ero messo in post. Ma perché? Sono stupido certe cose. Vai, vai. Sono intelligente. Ciao New. Benvenuti. Come stai? Benvenuti. Benvenuti. Stiamo facendo una cosa un po' strana. Ma veramente? Vai. Ciao Scheletro. Ciao New. Dai, tutto bene. Tutto bene. Non c'è male. Voi che l'avete fatto, Ribello? Ditemi un po'. Siamo tutto muscoli noi. Vai. Sono tutto muscoli. L'intelligente? No. Pensava di trovare il Zed? Eh no. Piper, il problema sai qual è? È che hai presente quello che facciamo noi uno per uno. Immaginatolo per quattro. Diventa una palla che è infinita. È quella una cosa, capì? Diventa proprio un pistolone pesante. Giocatore 1, guarda le chiappe sul set. Che due palle dopo, ci annoiamo, capì? Solo per quello. Sono tutto muschio. Lottato o no. È ora di allenarsi. Colpisci i bersagli finché non scompaiono. Più ne colpirai. Vai, perché sono tutto muscoli. Se non colpisci il bersaglio, eh beh... Io spero che mi metta dei muscoli finti, chat. Me lo auguro proprio. Sono ragano. Me lo auguro proprio. Sarebbe incredibile. Eh, non finisci più. Vediamo che succede quando sarà pronto. Ma veramente, nada? Bisogna chiedere un po' troppo. Come? No, mi stai dicendo che non mi metti dei muscoli. Sono triste, Romeri. Dopo il grande finale. Il grande finale. Il grande finale. Sono super curioso di questo. Vai! Pronti, carichi! E dopo diventiamo dei super cattivi. Ecco perché non l'ho fatto il cattivo qua. Non ho fatto qua il malvagio perché il finale è il malvagio. Setti i muscoli come un culturista. Come fanno i culturisti così? Come è? Oh, viene così. Ah! Ah! E un'altra! Ma lei ha lento marchi! Di camminare rasente ad un muro. Oh, no! Azione! Non fermarti! Sono rasente al suolo! Ah! Sacrata! Oh, no! Camminare! Ti prego, no! Tutto ma non camminare! Che faccia di culo! Che faccia di culo! Continuate! Sì, clicca! Batti sul tamburo! Bunga, 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 bunga! Ciao, Gigi! Oh, ma roga, male di schiena! Scimmia funky! Vai! Tutti a ballare la conga! Batti sul tamburo più veloce che puoi! Per far danzare la scimmia! Ma pronto? Eh dai, dammi la scimmia! La scimmia, la scimmia! Azione! Perchè mi fa ridere sta cazzata? Mi farà sempre ridere sta minchiata delle scimmie! C'è il bra! Ma è mio, eh! Tutto con questo gioco, tutto bene! Bello! Bello, bello! Alla fine hai comprato una Secret Lab? Speriamo che mi ci troverò bene! No, ma che ci troverai bene sicuro! Dai, barba! Fesci un sedere! Ma se vuoi, Luca, che ti devo dire? Ti posso mai dire di no? Ti posso mai dire un po'? Segui solo le mie istruzioni e recita come una star! Vai! Dopo ultimo film! E guardati intorno! E guardati intorno! Azione! Stai andando bene! Sono bravo! Senti gli applausi! Oh! Che momento! Un giorno diventerò un grande attore! Un totore diventerò! Un grande muratore! Sono in hype per l'ultimo film! Secondo me sarà bello! Se questo qua non è in... Oh, star! Sta scritto star! Oh! Sono una star! Giocatore 1 sul set! Una bella star! Pronti! Spacchi blo... Oh no! Oh no! Sfiarisciti le idee e concentrati sulle tue energie! Saro come il dado! Ovvio! Fino a spaccarli! Ovvio come il dado! Indio! Azione! Pronto! Dai! Nacciaio d'acciaio! Boom! Si è sbaccata! Bunga bunga! Spacca la pietra! Bano d'acciaio! Nacciaio d'acciaio! Addio roccia! Questo è il più difficile comunque! Si è sbaccata! È veramente difficile questo! Nostra roccia fatta a pezzi! Qui finisce la pietra! Finisce la panza! Rantumata! È veramente un ottimo modo per allenarsi come questo gioco! Braccello! Mano d'acciaio! Nacciaio! Nacciaio d'acciaio 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 d'acciaio! Formidabile! Senti, hai mai pensato di diventare uno scultore? Sarebbe così sapere le calorie consumate! Troppe! Più rabbia! Quindi, ma dopo tutte queste ore la mia rabbia non esiste più! Dopo tutte queste ore riesci solo a subire! Capito? In realtà è identica a quella con i sacchi! Non è vero! La pietra è più dura di un sacco! Hai capito? È vero! La fisica! Quantistica! Giocatore 1! Dobbiamo agitare le maracas! Sì! Che bello! Il mio preferito! Non lo vediamo da un po'! A posto! Eh! Ma mettiamo i sacchi con le pietre! Ma ti lancio una pietra e poi mi dici! Vai! Sono pronto! Agita le maracas per far danzare la scimmia! Più le agiti più punti avrai! Voglio fare la maracas! E poi mi dici la maracas! Vai! Dammi la maracas! Azione! Dov'è? Maracas! Più veloce! Maracas! Si sta solo scaldando! Faccio casino, sì! Non funziona! Ma come va? Ecco! Non vado soppar! Ahahahahah! È un ballerino! È vero! Non vado soppar di cazzo! Non si è! Vai! Spade che sto bussando alle vostre porte! Dov'è io la sab? Eh! Dov'è? Dov'è? E vi bussò! Bene invisibilo ovunque! All'agitamento! Gran ponteggio! Gran pe... Però uno! Hai 8,70! Mi posso sedere? Non puoi frenare! In frenulare! L'immaginazione! Abbiamo finito! Mi siedo! Il film! Eccolo! Io mi siedo! E' del meglio! Ah! 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 Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! E dopo! Legge la presenta uno! Oh! Oh! Antone! Aspetti! Scusi! Mi mi ha detto! Eh! Mi ha detto l'aranzo qua! Sui credini! Ma fa brutti piccoli! Scusi! Scusi! Tu non è il cuore! Eh! Se n'è andato! No! Scusatemi! Era mio fratello che ha fatto il rutto! Scusate! Ciao Gino! Era mio fratello! Sì! I gattivi si nascondono in impenetrabili fortezze Ma nulla è impenetrabile quando si ha Sì! Cervello! Ah! Forza! È tanta fortuna! Ti servirà audacia! Arguzia! È coraggio! Per combattere l'ingiustizia Ma come corre quel signore lì dietro? Ehi! Scemo! Scemo! Garino! Unisciti a noi! Unisciti alla squadra! Ferro è fuoco! Bello! Bello! Questo vagarino! Guarda la p***a! Che ragazzo di foto del rito! Vuoi vedere? Questo qua? Questo qua è ragacuccio? Sì! No! Vuoi salvare? Questo qui lo salviamo! Dino buonasera! Ma non guarda che ci sei tu che non giochi a Zelda! Ciao bello mio! Come stai muflone? Ma è ovvio! Ma secondo te? Allora a Zelda lo giocheremo! Però non al day one! Ragazzi! Quando mi arrivo! Perché non volevo buttare 70 euro! Forte! Ragazzi siete pronti all'ultimo film? Vi rendete conto che è l'ultimo? Siete ai pati? Voglio un po' di festa nazionale! Ovviamente non potevi fare quel genere! Ma vedi un po'? È qui Mr. Fago! Mr. Figo! Ciao! Lazza! Più che altro siamo Mr. Fango! Sono Mr. Fango! Mr. Fango! È proprio un uomo di fango! Che bel fango! Che c'è da frango! Ok! Credo che starà a 70 per i prossimi 10 anni! No! Intendo che me lo mandano! Capito? Non volevo proprio cacciarli! I sogni! È proprio più questa una cosa! Perché purtroppo in live lo giocherò una sola volta! E basta! Quindi vediamo! Tutto bene? In necessitazione per l'arrivo del nuovo servizio? Ah! Figo! Figo! Comunque amici domani vi ricordo una cosa! La live potrebbe startare alle 16 proprio subito! Ok! C'è inteso che potremmo iniziare se c'è la cop domani! Ok! Arrivate puntuali alle 16 perché potremmo subito iniziare a giocare! Ok! Poi dopo invece stiamo noi e facciamo Beyond Two Souls e altra roba! Ok! Non scenderà mai! Ma guarda! Figo! Io infatti ho visto quanto costa l'altro Legend of Zelda e sta ancora a 70€! Ma com'è possibile? Sì! Domani giochiamo se c'è la cop e early stream alle 16 proprio! Proprio alle 16! Se c'è! Lo scoprirete romani! Quindi voi appresentatevi presto alle 16! Se volete vedermi giocare in cop e buona! Non scendono mai! Mamma mia se è vero! Però minchia un gioco di 30 anni fa! No 30 anni fa! Però un bel po' di anni fa me lo fa pagare ancora 60€! Ma di nato che lo caro caro! Bello! Vapò! E' capito! Neon! C'è! Cazzo! Minchia! Vi dovete appresentare! Esatto! Allora amici! Ultimo film! Sì! Ultimo film! Ultimo! Ultimo! Ultimo film! Poi vediamo un pochettino che fare! Ok? Preparatevi! Vi voglio carichi per la minaccia tossica! E poi abbiamo... Ragazzi! Abbiamo platinato in live un gioco! Ciao Marla Ibella! Buonasera! Abbiamo platinato in live un gioco! Non è mai successo! Non è mai successo! L'attrezzatura funzioni a dovere! E' la prima volta che platiniamo un gioco! Ora posizioniamo la videocamera! La prima volta! Assicurati che tutti si trovino nel contorno senza sembrare... Ma dopo questa live io voglio essere invitato agli Oscar! Qui è dove si separano le immagini dallo sfondo! Avete capito? Avvia cut out studio! Voglio! Magnifico! Esci dall'inquadratura! Così digitalizziamo lo sfondo! Scusa! Per favore! Attendi! Ritaglio! Voglio essere invitato all'ospite! Torna davanti alla videocamera! A Bollifood! Da Marley! Eroe! Entra in uno dei quadri! Oddio però! Pericolo tossico! Ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare! Eh no ragazzi! Però pericolo tossico! Cazzo! No! Voglio fare l'eroe! Voglio essere l'eroe! Voglio essere invitato! Vabbè avete capito! Avevi detto che facevi villan! No ma secondo me è brutto il villan qua! Non voglio essere il pericolo tossico! Voglio essere io! Sono qui! Ciao amici! Sono seduto! Che faccio? Facciamo il pericolo tossico! Dai ci accendete! Entra in uno dei quattro quadri! Pericolo tossico! Ti verrà così assegnato il ruolo da interpretare! Se la foto ti piace... Vai! Sono un pericolo tossico! Ciao Vito! Bentornato per i... 18! Grazie mille! L'ultimo film! Vito papà i piedi morbidi dei team mozz! Sono un pericolo tossico! Ma questi sono meglio degli Oscar BB Love BB Love BB Love BB Love BB Love BB Love! Come devo sfuggire alle scimbie? No! Le scimbie stanno arrivando! Devi uscire dalla giungla! Scappa più velocemente che puoi! No le scimbie no! Mi prendono! Mi prendono i mandaloni! Mi rimangono colpito da fuori! No! Azione! Ciao amici red! Bendurlo! Un marone scimbie! Ti stanno avvicinando! Corri! Non direi di sottolineatura ai piedi morbidi da 5 mazz! Aiuto alle scimmie! Dai via! Dai via! Dai via! Ma quando... Sei sfuggito alle scimmie! Oddio! Eh patatone! Un figo! Morto! Morto! Corri per salvarti la vita! Sul set per favore! Già! Però ehi! Mai pentito! Bravo! Quello è l'importante! L'importante è non pentirsi! Perché... Se ti penti poi... Non c'è alcun punteggio! Segui le mie istruzioni! E fammi vedere se hai talento! Vai! Fingi di essere un mostro spaventoso! Un mostro spaventoso! E' un mostro! E' un mostro! Un mostro! Rimani sul set! Ciao! Sono un goblin! Fai un saluto! Ah! Basta! Ma chi è saluto è? Azione! Tu vai! Sarò pulendo qualcosa sicuro! Oh madoo! Senti gli applausi! Ma che cazzo! Oh che momento! Ciao Robby! Come stai? Da quanto tempo? Eh ti sei perso un sacco di roba! Ciao! Buonasera! L'era tutto a posto! Sono letteralmente il mostro pisello! Finalmente! Stiamo facendo un film! Stiamo registrando le scene del film e poi le mettiamo insieme! Vedrai! Suono le campane in bas... Vai! Din don! Non lo vedo io! E poi riproducila! Vado! No vada! I'm sorry! Ah non ci siamo! Tutto sbagliato! Nice! Che orecchio! È una melodia perfetta! Qualcuno ha detto... Just it! Ding dong! Esatto! Grazie! Clang! Frequenza sbagliata amico! La faguro! Non sono musicista! Eh non ho sentito... Tutte le suono! Sbagliato! Ma stavi ascoltando? No! Usa! Quale? Sbagliato! Ma non è vero! Attenzione! Incredibile! Vabbè vai! Vabbè vai! Vabbè vai! Hai mai pensato di diventare una pop star? Non mi permette di mettere mai più eh! Giocatore 1 vieni subito! Sei in indicazione del regista! Vado! Sto guardo lo dazzo! Ma come si non è? Come si è permesso! Non vi fidate di quello che dice il regista! Lo fa apposta! Non c'è alcun punteggio! Che dissi? Segui le mie istruzioni e fammi vedere se hai talento! Ah! Pingi di reggere un grosso peso sopra la testa! Ah! No! Il peso della mia vita! Azione! Ah! Dio mio il peso! Oh! Un'altra! Colpisce il sacco! Oh no! Ce la faccio eh! Azione! Ah! Così! Bene! Uh! Un successo clamoroso! Stupendo! Ci siamo certo! Questo sei il capolavoro! Ciao scarsone! Bentornando per i due! Questo è il capolavoro! Bibilo! 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 Ve lo dico io! È il capolavoro! Grazie mille per il gamberone! Belo mio! Bentornato! Bentornato! Sei gentilissimo! Ti ringrazio! Vai! Ricopri il maiale di fango per tenerlo a bada! Devi essere veloce! Il maialino è scamanato e si reimmergerà! Va! Butto il fango al maiale! Vado! Vuoi vedere un po' che cazzo devo fare? Azione! Eh! Ti farà sempre ridere questo! Gioca con l'argilla! Vado! Gioco eh! Te l'hai fatta! Ora è un maialino felice! Maialino! Proprio lui! Va che bello! Un beccio! 9999 punti! Il dio proprio! Di questo gioco! Questo è il mio gioco migliore! Lo stai sotterrando? Eh sì! Deve imparare questo maialino! Ben turno! Ben turno! Vai! Giocatore 1! Ho bisogno di testo set! Mi dica! Ciao Metal Meccanicone! Bentornato per i 10! Ti ringrazio di cuore! E' bello mio! Ben turneto! Grazie! Grazie mille! Combattente! Oh no! Ma questo faccio schifo a questo! E colpisci i bersagli! Vai perciò perciò una cosa! Aia! 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 E' bello che non ci riproverai! No! Smash! Dritto al centro! Aha! Che pugno! Sei un vero maestro! Aia! Centro! E' quasi perfetto però! Fantastico! Quasi! Fali dire questi brusli di legno! Brusli di legno! No povero! Uh! Ci siamo! È lavoro ragazzi! Abbiamo finito! Mi siedo ora! E ci godiamo il film! Perché questo era l'ultimo! Ma no! Ma no! Ah! Ma sedersi è incredibile! Chat! Ma che bella la vita da seduto! E chi sa il skew! Madonna! Uh! E che palestre che abbiamo fatto! Seduti! E ora attenti! Incredibile la vita qua! Vediamo! Vediamo! Sfite! Ecco! No! Magari un'altra volta! Federico non è bello! Una consegna fatale! Un orribile incidente! Ciao! Una trasformazione orrenda! Minaccia tossica! Ma sono bellissima! Caos! Distruzione! Ancora più caos! Un criminale contaminato! Senza esclusione di colpi! Aiuto! Ma che fortissimo! Spettacolari! Spettacolari! Diabolicamente spaventoso! Una bestia in libertà! Terrore tossico! Preparati a subire la furia! Della minaccia tossica! Ve l'avevo detto che questo era un cazzo di capolavoro! Questo qua! L'avevo detto che l'avremmo chiuso nel migliore dei modi! Ve l'avevo detto! Questo è bellissimo! Questo è bellissimo! Oscar! Sì, questo qui può vincere gli Oscars! Veramente! Questo è stato molto molto bello! No, la scorregge è stata incredibile! Per una volta potevamo fidarci di te! Ma sai perché è bello? Liron! Perché ha un protagonista questo! Capito? È questa! Gli altri sono tanto di gruppo! Quindi ti diverti con tutti! Qua giocando da solo! Ti diverti con quello singolo! Se questo qui lo rigiochiamo! Con veramente quattro persone! È incredibile! È una roba assurda! Ma che ho fatto? Ho rimesso che lo voglio rivedere? Ma ho sbagliato! Ma non lo vodevo rivedere! Lo vodevo salvare! Una consegna fatale! Ho sbagliato! Un orribile incidente! E vabbè, rivedetevelo! Una trasformazione! Orrenda! Minaccia tossica! Caos! Distruzione! È bellissimo! Ancora più caos! Che cazzo! Un criminale contaminato! Senza esclusione di colpi! Combattimenti! Spettacolari! È bravo Gigi! C'è fa l'aura praticamente! È bellissimo! Diabolicamente spaventoso! Una bestia in libertà! Terrore tossico! Bello, bello! Preparati a subire la furia! Drilla! Minaccia tossica! Ha mai visto Bulk? Penso di no! Questa scena è incredibile! È tutto incredibile! Adesso no! Non voglio rivedere! Vuoi salvare il film? Sia! E nel mentre salvo il film ragazzi io vado a fare la pipì e ci vediamo tra... Ah aspetta! Devo prima salvarlo! Scrivo Tossic! Questo è stato bello! Lo salvo un secondo eh! Sì! Vi metto le clip e arrivo subito! Ok! Aspettate! Sto salvando! Ok! Arrivo! Subito ragazzi! Vi lascio alle clip! Faccio la pipì e arrivo! A tra poco! Tutti i tempi! Tutti i tempi! Tutti i tempi! A radia, la maschera, tieni. Tutti i tempi! Tutti i tempi! Benissimo! A maschera sì! E vedrai la traduzione. Che figura è be... C'è di parere Se sembra che vuole scopare splash e imparare Vai Uno, due Ah, così scende lui Ok, ok Dobbiamo assolutamente catturare il limone Eh, il linone, ha voglia Sì Di merda Se Moro non sta usando Sassari No, no, ha fatto una roba O me ne è andato O me ne è andato Non ho capito se ve ne volete andare o no Ah, che paura Eh, maledetti Signorita, se stia ferma Ma che cazzo Mannaggia la bottana Portateli tutti dentro Oh no, prendi, prendi tutti Prendete, prendete Mario Uno prende la signorina e le portiamo dentro Ma che cazzo ha combinato queste Mario, Mario, ma non sono messi cani Sono spaventato se lo andai a nascondere Eh, pure io, adesso hai cagato un po' sotto Perché? Eh, sono i messicani Ah, vedi, hanno rubato tutto qua Eccomi qua Eccomi qua Eccoci qua Siamo Ubex Eccoci qua La sparatoria da Benny o no Cosa era uscito Tutto RP I'm sorry Vai oggi sfondo spendo che è un casino ormai Per attaccare dietro Va bene comunque Allora amichetti io stavo pensando di farci un pochettino Di itch Così decomprimente Quanto è figo sedersi dopo tutto questo È incredibile Ti giuro che è incredibile Ciao Anomalia buonasera Sì io mi rilasserei un poco Con un po' di itch Allora Allora come si fa Come si gioca Itch sgrassante Sì un pochettino di itch sgrassante Proprio bello tranquillo Datemi giusto due minuti Ok voglio ricontrollare una roba Wow fa un caldo bestia qui dentro ora eh Madonna mia Madonnina Comunque dai vi siete divertiti Abbiamo finito il gioco Sono triste ma anche felice Dai così ci siamo tolti i pensieri Abbiamo L'abbiamo Spolpato veramente a dovere Eh ne sono contento Ne sono contento Allora Falliamo abbassare un po' la luce Eccoci qua Molto bello Eh sì Sarò fico È stato fico Accendiamo la luce dietro Dai che volete la luce dietro Vero L'accendiamo E poi andiamo su itch E vi dico anche su cosa andremo Su itch Senza luce dietro Pare brutto Vero L'accendiamo O almeno un poco Allora Si va Subito Con il gioco da ben 4 euro Che ho comprato Aspettate però Come si chiama Mannaggia miseria Che non mi ricordo mai The Greek Hotel Oddio qual era O Stephen Swind Un secondino Un secondino Shrek Shrek Qual era Ah Greek Hotel Si chiama Ok Perché ha dovuto cambiare il nome Penso per una questione di copyright Accendo No ma accendo Almeno un pochettino dai Non tutto posso accendere Però qualcosa lo accendo Pronto chi è Sono divertissimi Queste due live di movie Forse rivaleggiano Con i fecals Per la live più bella Del 2023 Fino a questo momento E No i fecals No non si può rivaleggiare Però siamo vicini Agli 8 e 80 Io nel mentre Accendo le luci Nel mentre accendo eh Arrivo Ecco qua Dai 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 Switch regano Still alive Che gioco è Non ce l'ho presente O forse l'ho anche giocato Non ricordo Che un sacco di giochi Di Stitch Li ho comprati Eppure persi Allora Questo qui Sapete da chi ha sviluppato Ragazzi Questo gioco Sapete Se hai visto il Q Come se hai visto il Q Veramente se hai visto il Q Ma tutto Vabbè Sapete Comunque Chi l'ha fatto Quello lì Del Chad In palestra Sì Salvatanaio Mai abbastanza Ah mamma mia Bello Bel Bel È diventato il mio Gioco preferito Già Non sapeva Aversi una Farfalla Tatuata lì Hai visto Lugola Per alcune ragioni Hai lasciato la casa E ti sei trasferito In una nuova città Lì hai trovato Un lavoro Però non hai abbastanza soldi Per prenderti ancora Una nuova casa Quindi hai deciso Di andare All'hotel Cinque notti Al Greek Cioè Di andare Cinque notti Al Greek hotel Così Forse Vabbè Perché te lo potevi permettere Ecco qua Ti abbiamo fatto Un elettroquilogramma Uè Julie Bell Buonasera Five nights At promette fecalità Bravo Buonasera Signor Shrek Questo è il suo Pen Qualcos'è Ma è Shrek Sì Ehm Shrek Salve Oh Bubba Rota L'hotel Come ti posso aiutare Ehm Vorrei una stanza Per cinque notti Per favore Abbiamo le stanza Libre Secondo piano Ah Bello Grazie Ma già vado Ma Ma non l'avevamo già fatto Sì Sette volte L'abbiamo fatto Questo Che Bello No No Comunque Non l'abbiamo giocato Questo qua Di giochi di Shrek Ne abbiamo giocati Un pochettino Però questo no L'ho dovuto anche comprare Questo bellissimo gioco Posso? Chi è lo sviluppatore? È quello lì Della palestra Del giga chad Sì Sì L'ho pagato Ben Quattro euro Povero Chukin Eh ma Questa è la mia stanza Ah sì Ciao Iole Eh ma magari l'hai visto da qualcun altro su YouTube Questo pure è andato un sacco eh Che bella stanza Sì sì Ok Devo andare In bagno Prima di dormire E dove dormo? Cioè Il bagno è tutto l'albergo? Qua? No Lino Uè iole Tutto a posto? Spero di sì Eh ma il bagno? Che gioco è? Un gioco di Shrek Sono gli stessi Sono sempre gli stessi modelli Quindi sembrano giochi già fatti Sì 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 Eh il bagno mi servirebbe Where is the bathroom? Il bagno è la prima tua porta sulla sinistra Grazie gentile Questo qui è l'asciugamano Che cosa sarà? Che cos'è? Ah questo il bagno Ma Ma il bagno è più grande di tutto l'albergo Non è normale Vabbè non fa niente Non ci vado eh Grazie Guarda come c'è lui Ma che mi spia Ciao Red Grazie Eh vado Ottimo acquisto Già Già Pasqua del 93 è probabile Eccoci qua No Già l'hai visto Shellor Punto esclamativo Già visto Non ce l'ho Ok Vado a dormire Notte 2 Sono pronto Buona se No Scusa Dormito fuori? Sì Burser Come va oggi? Se non le dispiace che le chiedo Mi sa che tutto a posto Allora Sto lavorando molto per il nuovo lavoro che ho Ehm Non c'è molto per comprare la mia nuova casa Ah Bene Noi Sandy I have to do some cleaning stuff to do Ah ok Allora dovrei fare dei lavori Ok dovrei dire delle cose Ma non ho tempo Ti va di farlo tu così di pago? Nois Sembra ottimo No Ma scusami Nois Can you Prendi Puoi prendere le box E le porti sopra la prima stanza? Certo Sì ma Scusami Ma non ti voglio dire niente Ma che cazzo Cioè non tieni niente da fare A parte stare in piedi Perché non lo fai tu? Chiedo eh Ciao ciuchi Cioè non capisco Non c'ha niente da fare Ah qui le metto Oddio santo Dove hai film da fare Ti immagini veramente E' occupato Eh perché sta a fare film Scusami Ciao ciuchi Allora Prendo un'altra box Ciao Mamma mia Se questo è veramente L'etamone Panda Prendi il coltello Lini Ci taglio il pane Ok Però avverso Si può prendere qualcosa? No Non si può prendere Oddio ma veramente si può fare Ma allora me lo esponeranno E' chita straviva Veramente si possono prendere Anche tu hai fatto dei film Già Come si buttano Sta roba E' chita straviva Veramente Salve Salve Mannaggia Lo rifacciamo Mi sa Si però Se una cosa l'avete già vista Ho capito E magari per un video Cazzo Perché l'avete già vista Ma non me lo dovete dire Cioè Veni andate E ritornate Ma magari pure mai Che fosse pure una buona idea Rifacciamolo Asassino Asassino Andate Ritornate Quando volete Se pulite No Non vi preoccupate Dimenticate Di pure la strada Comunque Riapriamo Mamma mia Ragazzi Ma deve stare La voglia di vivere Vi giuro Vi giuro Veramente Dio mio Se vi meritate Zelda 24 ore su 24 Su Twitch Ovunque Veramente Cioè quello Proprio 24 ore su 24 Solo Zelda Mamma mia Mamma mia Quello Dalla mattina Alla sera No Invece si Invece quello Ma base Apri All'infinito Tu sei Invece Solo di vedere Zelda Ma No No la parte è bella Solo il cazzo Di trailer Di intro L'intro Ti devi vedere Per sempre Dio Cristo Comunque Si Da Andiamo Ma stanno Già Sporrendo pure Quello Beh Te lo devi vedere 77 volte Tutti i giorni Ma tra l'altro Appena ho dato una cosa Perché non fai Zelda Pure tu Che sono attivo Che cazzo Guarda Meglio non giocarlo Ah dobbiamo andare In bagno Ecco Andiamo in bagno Dio santo Dio santo All'uva Dobbiamo riandare A chiedere A quel povero Shrek Dov'è il bagno Non è il Zelda No in realtà Sì C'è pure Shrek Questo è Ganon Dopo andiamo A salvare Anche la principessa Peach Un po' Adesso ci sto pensando Ma che cazzo I problemi Tiene Nintendo Con i principessi Sì Pandemo Il gioco Sui film Era troppo Bello Lino Five night Non ricordo cosa Bello Che su fratello Fra Che problemi hanno Con i principessi Allora Andiamo a dormire C'è frango Eh sì Buono Redan Andiamo a sistemare Le scatole Sì Ti voglio proprio Dare una mano Con le scatole Andiamo Allora Refresh Portiamo la scatola sopra A rivederci Ecco Piano Piano Ci sentono Proprio Le mele Che vibrano Ma Sai che sì Sarebbe carino Psyco Cioè Voglio essere Il principe Che viene salvato Ma tu ovviamente Non giochi L'eroe Tu giochi Il tizio Che viene salvato E quindi Per tutto il tempo Stai fermo Va bene No più a dopo Per tutto il tempo Stai fermo In una In una Torre Eh oh Quella è un emote Panda Quella è un emote La città franco Ok La voglio pure io Di molto franco Esatto Pensate come mi piacerebbe Vederti giocare Passive Barb Penso che l'abbiamo giocato Passive Probabilmente Mo' a breve Rifaremo un altro gioco Pensi con Katia E fra Vediamo un po' Pronto chi è Sicuramente uno dei problemi principali Della nintendo Con le principesse È il problema della sicurezza Come caso si fa Fatti che una principessa Venga rapita pure 20 volte È vero Questo è un grande problema Tipo settimana prossima Penso che sicuro Dovremmo giocare Un gioco di caccia Di mostri Con Karim e Fra Ok Abbiamo fatto questo Andiamoci a parlare Magari lo ritrovo su youtube Potrebbe essere Barba Io ho un canale archivio Dove Praticamente ho ricaricato Tutte le live Da novembre 2020 A mo' Eh ma perché non sono mie L'emote franco Cioè non so di chi è L'emote franco Pande Ok vai a dormire Ti pagherò domani Cioè Per avere quell'emote Ti dovresti abbonare Al canale di chi ha L'emote franco Vabbè Non è mia Ok Cacchiamo Ciao Mars Ancio down Bianca tone Mi fa proprio cacare Quel gioco Non ci posso fare Ma proprio mi fa dormire L'ho giocato più volte In live ma No 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 Eh Karim Ciao Deda Le prime volte che lo giochi È incredibile Però Diciamo che ha tutto quello Che non mi piace in uno shooter Letteramente tutto Ok Dormo Oh puoi anche dirlo Neon in caso Se gli piace Bigfoot Già giocato Ma che cos'era Buonasera Mi puoi pagare? Come hai dormito L'ultima notte? Non bene Ho avuto un incubo Chissà quale incubo Ah mi dispiace Vabbè Un nuovo giorno Lavoro per te Ah quale Ah Dobbiamo pulire Che bello Sì Mi piace Mi piace questo Sì sì Dobbiamo pulire con la scopa Ok Andiamo Finché bisogna pulire Io sono contento Finché bisogna pulire Sono contento Allora Prendiamo la scopa E andiamo in giro E come si scopa? E qui dobbiamo scopare Sì però non so come Non lo so In tutti i giochi Mi sto a cagare addosso Praticamente Non so per quale motivo Ma è così In tutti i giochi In tutti ciò Sa fare la pupù Nel videogioco Va bene Sì E come pulisco però? Take the brew E l'ho preso E come si pulisce? Ah ok Pulisco pulisco Guarda come pulisco Bello 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 Questo è chiuso E qua posso pulire Tipo Ciao Peppe Da po' Fatto Oddio sei andato Dai stai Beppone Aha Che cazzo Che stai Non ho scritto Forse vuol dire Che deve stare Via da qualche parte Eh penso Lo square house Dovrebbe essere Dialetto Bolognese Credo Non me ne intendo Molto eh Conosco Due persone Che parlano Bolognese Di c'è di Bologna Ciao Elena Ciao Pila Pola Guarda e questa volta Mi sono impegnato a leggerlo bene Ciao Benvenuta Come state? Come state? Grazie mille per il ride Noi siamo In un In un hotel di Shrek Che stiamo cercando Di pulire per terra Ciao comunque Ciao Ciao Comunque Non ricordo se stavo salutato E ciao Paola Benvenuti Benvenuti Che avete fatto di bello? Cosa avete fatto? Sì ma sta scopa No? Mannaggia la miseria Ma che me ne devo fare? Come ne vado a dormire Con la scopa in mano? Ah devo posare la La cosa Ok P.P. Avete giocato Legend of Zers Per caso? Chiedo Ci stanno giocando tutti A me non è arrivato Enigmi di Leighton Mamma mia Che coraggio Che coraggio Bello però Ci ho giocato solo Tanto tempo fa Leighton Fallito miseramente Penso di non aver mai risolto Un enigma Ok Penso di poter andare a dormire Buonanotte Ok Eh beh Ciclid È tosta eh Leighton Run and don't look behind you Come? E dove ranno? No E perché non devo guardare Se guardo dietro invece Se guardo dietro Che succede? Ragazzi Adesso voglio vedere dietro Adesso sono curioso Ho avuto un incubo Già Ciao pala Grazie mille Grazie mille Ancora E buona pappa Di che gioco si tratta? Un gioco in merda Un bel gioco in merda Con Shrek però Se ti interessa La cardio aspirina serve Buonasera chi dà muerto Ma che cazzo Ma che cazzo Ero altrabbato Come ti permetti curo? No Pilla pa Ho detto paola Perché si chiama Pilla pola Ma si chiama paola In realtà Capito? È notte Perché sei ancora sveglio? Ma fatti fatti due Signor orco E ma perché tu sei ancora sveglio? Ho avuto un incubo Where were you? Dove eravate? Ok Te ne sei andato Dopo che ho putito Ma che vuoi? Fatti fatti due Mi scusi Stavo a fare delle ricerche Si goda delle sue ricerche Mamma mia Meno male che non avevo le cuffie I'm sorry Avevo da fare Ah ok Però ho controllato il bagno E' molto putito Ora vai a dormire Si ma è diventato mio padre Che cos'è questa Questa relazione Padre figlio Che si sta creando Tra me e Shrek Che cos'è? Allora amica Scioltami bene Non voglio essere spoderato il gioco Ok? Prima ne ho finito di parlare Non ci vado Se sai che cosa Se c'è roba Non ci vado Ma che mi hai detto In quella stanza non ci vado più Non ci vado Pur se il gioco Se il gioco mi dice Non l'hai mai visto? T'hai sicuro? Tornato fratello Allora ci vado Guarda guarda Perché ti giuro Se no Se mi dici il gioco Entri in quella stanza Io non ci entro più eh Lo chiudo Ti giuro Ho mai visto Tornato giusto la mia vita Mi voglio fidare Michele Guarda spero non si apra Ecco A posto Ci siamo tolti il dubbio Ci siamo tolti il dubbio Non si apre nemmeno Stava scritto Shrek E verde Magari ha solo intuito Come ti permetti? Immagina di entrare In un albergo E trovare questo Che tra l'altro Cioè È fatto così Col buco del culo E che sotto Gli vedi gli occhi Cioè sono attaccati Sul quadro Gli occhiali Non è che ha preso una foto Ma io faccio capire questa cosa Non è che ha preso una foto A cui ha messo degli occhiali Ed è tutta insieme No no Cioè è un oggetto 3D Gli occhiali Sono un oggetto 3D Vi rendete conto Di che cazzo Stiamo giocando Questo È un basso rilievo È letteralmente Un basso rilievo Ha avuto la voglia Di fare una roba del genere Vi ricordo amici Domani puntuali alle 16 Così non vi perdete Se ci sarà la coppa Con Sam Ok Tu lo stai giocando Già Non ci vedo nulla animale No no Mi sa che sei un accorto Che abbiamo giocato Gli occhiali finti Ciao Eldef Stai un cazzito Ma si è messo gli occhiali Da anzieno Cioè Così solo gli anzieni Hanno gli occhiali Con gli occhiali piccoli Da farmacia Che ti compri Se giro un altro po' Gli rompo la faccia Tra l'altro Guarda Si sta imballando Oh no Mi sto bombando pure io Un'importante scelta statistica Va tutto bene? Si si Tutto ok C'è solo un piccolo problema Di luci Che deve essere sistemato Cosa devo fare per te? Hai paura del sangue? No perché me lo chiedi? Vai a prendere la scopa Che c'è un casino in bagno Devo mettere un attimo Il filtro rosso Stai dicendo Che somiglio a Shrek? Eh? Vuoi dire questo? Vediamo Vediamo un po' Se somiglia a Shrek No non ci somiglio Gli occhiali non ce li posso mettere così Non ce li ho gli occhiali No lui somiglia a te Ah E allora va bene E allora va bene No tu hai i capelli Senza barba uguale Cioè è proprio ma sicuro Marius Allora Ah it's too late Ok Ma non mi spingas Perché piangi? Non piangi Ciao Samerio Buoseva Chi è? Mi arrivano le email Che è dietro Andate in live Ma perché? Barber Perché ho cambiato Indirizzo email Che poi mi arrivano tutte le cose 1,27 volte più bello Grazie Mi arrivano tutte le email Tutte le persone Che vanno live ogni volta Come si disattivano Ma arrivano pure Oh no Una persona morta What the fucking is going here? Dove andarmene Ciao Enigma Ciao Sticcia Domani devo andare al lavoro Come sta andando il lavoro? Spero bene Oh no Oh no Le backroom No Fammi passare Verde Oh no Una cia Prendi 40 onion Si è andato Ti pancio Hai un minuto Oh no Mi fa molto piacere Guarda per te Davvero Buona fortuna Noi quando vuoi Siamo qui Eh Stiz Il posto Te lo teniamo Mi piace Ragazzi ce la faremo A prendere tutte le onion Non Non voglio morire Eh cazzo Impossibile Dubito fortemente Eh pure Spurio Cazzo Cazzo Sono troppe Ma è fatta a posta Benzi Benzi è fatta a po' Oh no lo sento Ma è fatta a posta Ma è fatta a posta Che è fatta a posta Non mi prenderà Non mi prenderà Non vincerò Non è vero ragazzi Non vincerò Ragazzi sono freddo del cipau Sono freddo del cipau Ragazzi Non ci sono il cipau E mo Ragazzi ma hai le cipolle Oh no sono un vicolo ciechio Ma dove sono finito il cipau Ora tagli e fai soffritto Ma non le trovo Ma ragazzi secondo me non è possibile finirlo Sto gioco Credo che non sia possibile finire Questa merda di gioco Non mi faccio prendere Secondo me è fatto apposta Che te l'ha lasciato il cipau E io ci provo Però boh Mi pare non ci siano Lascia che sia una cipolla costante Attenzione Cipolle Cipolle Non prendermi tu cipolla Mi manca una cipolla Mi manca una cipolla ragazzi Mi manca una cipolla Ma non è una cipolla La festa di mamma, ti hai capito? Sì, ho messato una cipolla Non lo so Mannaggia, miseria L'ho doggiata per sbaglio Kurosaki Non si bestemmi in questo lanale Ci vediamo tra otto ore I'm sorry E' un potere che è concesso solo a me Mi dispiace Ci danno tra otto ore Il canale mio Se voglio ci cago anche sopra Ecco Mi assumo io le responsabilità delle cose che faccio Ecco Per favore, niente cacca cu Come? C'è scritto nelle regole che non si presegna Cazzo Asasino di cacca Niente asasino di cacca Ritendo e scherzando Abbiamo vinto Oh no Mi ha preso Però l'ultimo try Io lo faccio In questo Voglio vedere qual è il finale Che è gufata Ma veramente Guarda Chi è che mi ha gufato? Sì, ma è una merda Proprio Ecco qua Cioè E' proprio una merda Mannaggia La miseria Ma che significa che devo prendere le cipolle? Metti Doom No Io Scusate C'è la data Kurosaki mi ha gufato Dai Non si fa E' un virus Ma veramente è un virus L'ho pagato 4 euro Ecco perché lo voglio finire Ho scoperto No Scusa No No Piccolino Mi spiace 4 è Hai capito? Quindi voglio Ma hai pagato 4 euro per questa roba Sì ragazzi Purtroppo è capitato Sette Dai Sette Cristo Mancano 3 Ok 3 2 1 1 1 1 Come sempre dimentico che ho la roba aperta Bello Come ci ha messo 270 euro per farlo? E cani mostire Ok Perfetto Cambia lavoro Come 200 Ma è sbagliato Eeeh Scusi Quando Come è 240 Eeeh Sbagliato Mestire Scusi Io Io lo faccio Signora Maria Io La tento Io la tento Con un qualcosa che non giocherei mai Content Mac OS No ho sbagliato Lo scaricato per Mac Volete vedere Che cosa che stavamo per aprire Ma lo faccio vedere La signora Maria è questa signora E' la mostra signora Picella Anni di streaming Ancora fatti errori Capita Questo è Edoardo E ci ringorre la signora Maria Che ha signora No Eeeh Non dobbiamo giocare Eh però è quasi un giga Prossima volta Giocheremo la signora Maria Prossima volta Oggi invece ragazzi Purtroppo Niente signora Maria Ma water will Oddio E' un virus Vai Che cos'è Water will Tra l'altro Perché è già spacchettato Che cazzo Di gioco è Cosa è Questa roba Aspettate Aspettate Fatemi una roba Qui dove vivo io Ah voi non vedete Sono qui da sempre Credo Ma non mi sembra familiare No no Poi passa Mio computer Ah C'è un forum Dove tutti i residenti Possono chartare Tra di loro Ho incontrato Così tante persone Questo sembra Il mio letto Sono così stanco Ultimamente E' così affamato Sono due giorni Da quando la macchina Del cibo E' stata chiusa Cioè Se sarà spento Credo E' tempo Per me Per alzarmi Vedi Sembra interessante Sembra interessante Ok Qui c'è il computer Con il forum Qui ci possiamo muovere What The fuck What the fuck Ciao Maverick Bentornato Per i due Caro mio Come stai? Che è tu Ma sta musica Ma non è Ma è del gioco? Ma mi risulta Tutti i coglioni Ma perché sta Veramente Perché c'è la conga? Un po' sballottolato Io Bene Oggi è stata Una giornata Quasi bella Il quasi Solo dovuto Al fatto Che abbiamo avuto Problemi di internet Ok Cioè Forse abbiamo avuto Problemi Ok Che cosa devo fare? Current unavailable Cioè io quindi Devo Stai cercando di andartene Sì Metti il tuo Profile number Quindi con tab Tu interagisci Con la roba Capito? Cioè premi tab E provi ad interagire Se no non puoi Che non si può fare nulla Ok Quindi abbiamo capito Una nuova cosa Grazie gioco Per non avermelo spiegato What The fuck Ma che cazzo Oh no E che cos'è Sarò Oh no Che significa? Oh no È un enigma Please don't Però veramente Questa musica Non rompe il tutto Secondo voi Cioè intendo proprio Il mood Perché? Ok Posso parlare Con uno di loro? Ah Ho ancora fame Profilo 802 Devi andare a bestemmiare Sul fondo Ok È da due giorni Giorni che non mangiano Ok 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 c'è un bot Che dice Norte 1 2 7 5 8 Sud 5 Che cazzo Significa? Penso che c'è qualcosa Che non vuol dire Con il mio computer Ah però è tipo A escape room Mi sa Sì ma quanta roba Ha scritto Allora Aspetta Proviamo prima 802 Vediamo che Che significa 802 Letteramente Scrive una roba a caso 802 Allora 802 E l'ho fatta Eh però è proprio Escape room C'è tanto 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 Solo escape room Mi sa che sono tentato Di appenderlo E di provare un altro Perché È too much escape Cioè Minchia Con sta musica Poi sotto In sottofondo Che mi sta triggerando Allora C'era quel tizio Che dava Una sorta di password Penso Aspetta Penso che Cioè che significa Nord È 1 2 2 7 5 8 Sud E 5 Che cazzo Significa Che significa The red Corset is like Come si chiama Questo gioco Scrivetoglielo pure Che si chiama Waterwheel Sono Adonate Eh oddio Posso mandare Messaggi a qualcuno Sono coordinate Ok Sono coordinate E a me viene quasi da pensare Che siano Queste Type di Coordinati C'è una Sud Non so Credo che sia Anche le volte Che bisogna Girare Una manopola Non lo so Roba dei venti Credo che sia la rosa dei venti Cosa Mastro Michela rosa dei venti Perdonami Domanda seria Non lo so Forse primo Secondo E terzo Ma Ma che cazzo Significa Cioè che può mai Significare Questa Merda Nord Nord è 1 South è 5 Aspetta Ho capito Credo che sia Ciao André Allora Nord a sinistra Lo giri 2 volte Nord a destra Lo giri 7 volte Il sud Lo giri 5 volte E Quella a destra 8 volte Credo Credo sia questo E' l'unica roba Che mi viene in mente Sincero L'unica roba Che mi viene in mente Eh però Aspetta Dobbiamo resettare Ok Mettiamo tutto normale Così come sta Ok proviamo E Eh Sono tentatissimo Di chiuderlo Non mi intriga Perché è troppo Un escape room E sinceramente Non ho proprio Deve sbattere Farmi un escape room Di merda Credo che indica La posizione Delle manopole Eh ma Cioè in che modo L'andrebbe ad indicare Cioè capisci Non mi sta Poverendo In me De come Siamo in un bunker I do No Eh tu no Eh ho capito Però effettivamente No Potremmo provare Ma Proviamo questo Guarda Ecco Bello Mi è piaciuto proprio tanto Andiamo avanti No ragazzi Non ho nessun Intese di farmi Una bellissima Escape room E sarà molto bello Mi è piaciuto proprio un sacco Eh Bello 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 L'abbiamo provato L'abbiamo provato L'abbiamo provato Daffanculo L'escape room Di sto gran cazzo Ciao stizio Buonanotte Vai Girami le palle Vedi un po' se mi apri Ecco qua Stop in the void Ecco Eh crash Che peccato Eh si Girami un po' lo scroll No Non li vuoi installare Franco Ah beh Eh vabbè Questo qui No aspetta Però forse Perché lo dobbiamo aprire da qui No Minchia E che cazzo è quella roba Che mi vuole installare Quei sei pazzo Questo gioco Io l'ho pure L'ho pure pagato Io questo l'ho pure pagato Mi sa che c'ha Devo installare qualcosa Che è roba di windows Però non tanto mi fido Se devo essere sincero Quindi No Sia come un orologio Nel senso che se nord è uno Ehm Cinque Sud è tre Sì mi mancano nelle librerie C++ Lo farò Più avanti Ora non mi fido Skin ed alive Let's go Cioè farlo in live Non lo faccio No no lo so che non sono virus Però farlo in live Non lo faccio Anche perché immagino Che vuole il ravvio del computer Quindi no Da proviamo un altro paio Poi andiamo Probabile Ma vi ripeto Non avevo proprio sbatti Di farmi un escape room A quest'ora Preferisco farmi la pupu Se non giocavamo Il restante della roba Skin si Ma penso sia Una merda Questo qua Quindi perfetto Oh veramente ragazzi L'escape room O so bei giochi O vaffanculo Cioè tipo L'escape room Che è stata Ehm Come si chiama Amanda O Rewind Sì Ma l'escape room Dei giochi di fango Non No No L'escape room Tagli una mano E sarà il suo più grande errore Ciao capitan Sarà temibile Ecco appunto Le cose che posso ricordare Prima di svegliarmi Sarà terribile Sarà temibile Questo ciò C'è una bella Carellata di pupu Io vorrei vedere La signora Maria Anche io Escape room 2 Vabbè ma Sfingate Escape room Della minchia Ok Se prendi la chiave A posto Ma Dove sono Ti immagini pure Questo qua Devo trovare Un modo per uscire Vai Control crash Stand up No 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 Ma nemmeno Anzi A me stanno pure Sui coglioni Quelli da Super complicati Ehm F per zoomare Che minchia è sta roba Carino però Carino Carino Basta che Sì ok Dipende da come me la fai Escape room E' chiusa Ok Cioè Se mi fai Escape room Dove Ehm Devo pensare Chissà che cazzo Di trauma Ho avuto da bambino E quindi Pensarla come te No Capito Quella è una roba Se è roba Veloce Che veramente Devi ragionare 5 secondi Ok Ferma le palle Impossibile Fermare No non si può Non si può Non si può Impossibile Fermare Lo scroto Entriamo qui dentro Ok Sono occhi E comunque il gioco più bello Però è stato quello di Shrek Io ve lo dico Io ve lo dico È stato quello però 100 100 ci sarà un dizio Che ci corre dietro Non vedo l'ora di vederlo Non vedo Ma comunque Sono proprio stanco Ma ha distrutto Il gioco dei trailer Ne facciamo un paio Poi ci fermiamo Sento una voce No Sentono dei passini La danone C'è qualcuno In questo Enigma Di fan Di franco Vorrei tanto andare a vederlo Però mi butto qui Che forse è meglio In caso non hai bisogno I cosa Shift per sprintare Ah in caso non hai bisogno Sì sì abbiamo progredito Nel senso che un cambiato gioco Mastro Non c'avevo voglia Di farmi l'escape Ti giuro Magari se ti interessa Si chiama Già non ti ricordo più il nome Però Siamo progrediti In quel senso Che È comunque un progresso Per me Nel senso che sono molto più Purtroppo Escape room Tendono a crashare Dalle otta e mezza Di sera in poi Dando questo Grave problema Non ci si può fare niente Oh no Non riesce a prendere la luce Eh Credo di aver preso qualcosa Un telefono Come ho preso Uno smartphone No Per la vista no Quello non è mai un progresso Per questi giochi di mer Buonasera Vabbè Quando è che mi corro dietro Il mostro Si legge Ma qua tutti Oh marron Com'è molto male questo Mi dispiace Leggo Il nome Bel libro È chiuso E qua è aperto Purtroppo Ecco Stavo per dire Se è un bel gioco Ha solo una porta aperta Niente L'ho pensato E non l'ho detto Ma avrei dovuto di Ah no ok Poi un gioco di merda Allora Un loop Perfetto Perfetto E infatti Poi una merda Ok A posto Almeno lo so Almeno lo sappiamo Però dai Per ora E comunque è superiore Alla media Chi è Madonna mia Se arriverà il mostro All'improvviso E ci cacca Che è un topolino Che sta guidando Una carrozzina Chi è Che ci sta qua sotto Un C'è Ok Vabbè Chiuso Wow Eh ragazzi È magica Però dopo vi faccio Cagare addosso Questo è quello che c'è Sotto il vostro letto E dei piedi Solo E basta Chi è Il mostro che entra Mi va troppo Adore Non ho più riso Ho solo un po' di pasta Ora Ma chi è Chi è che ha acceso Il fondo Questa sega elettrica Chiur Sta Come fare il bordello È l'entro di Federico Ciao Mimi Chiur Che fa casino Qua siamo Anziani Dobbiamo fare Il nonno Trovate una chiave C'è Ok E mo Di sapesse Che porta Apre questa chiave Mo tutte Me le devo rifare Di nuovo Perché non so Quale chiave Apre Cioè quale porta Apre questa chiave Michi ci hanno messo Iscritta Hai trovato la chiave Della fissa di solida No Oddio mi sta venendo in mente Un gioco che dobbiamo fare Eh Andiamo qua Dopo questa è la casa Di un macellaio Ma quando si sa Che è la casa di un macellaio Non si va Nemmeno sei invitati Ok Chi di voi Aveva la macelleria Cannats Se non sbaglio Perché tu in casa Hai le chiave Delle scritte Noi c'ho Una chiave C'ho a casa mia Ma perché mi si è Spendata la luce Pronto Guarda Torni indietro C'è un signore Che mi insegue Tra tre Due Uno Sono spawnate Altre scale Mi è spawnata la fame Però Come è possibile Buona sangria Come è fatta la lurcona Sono molto deluso Mimi Banna assoluto Non è vero Fatto bene Disgustoso Eh Che vuoi Ma da me Gioco Che problemi Tieni Perché Ma non sarà Più niente Oddio Sono chiuso Dentro Pronto Qualcun altro Potrebbe stemmiare Perché per caso Sono a F Eh A F K E si Ti dà fastidio Che faccio casino Chiedo eh Chiedo informazione Però mi aspettavo Già il mostro Dietro Si puoi fare piano Scusatemi Sto lavorando Un po' di silenzio Sto giocando Ragazzi Per caso Qualcuno ha fatto Pio pio Qui L'ho visto eh L'ho vista eh Ho finito Ho finito la war legacy Bravo Bravo Anzi Sapete che vi dico pure Ecco Ecco Sei molto simpatico Sei molto simpatico Eh no Dovevo farlo Chi è Lino Per l'amor Mi stavo svegliando Un po' Bud rovinato Non ha più senso giocare Ma sono tutti Scusatemi Io domani alle 5 Alle 10 ci sta stare nel lettino Non è per chi lavora Per chi lavora Alle 10 sta stare nel lettino È normale Chi è? No poi si sveglia e chiudono Aspetta Ma chi è? Non ho proprio mods Ma che c***o Ma che c***o Ragazzi Ma chi è? Ciao ma go Salve Tutto No Non lo so Perfatti sono È chiusa Ragazzi Sì scusatemi Spengo sempre la luce per sbaglio Vabbè Non lo disturbo Scusate Ma io ho trovato una chiave Che mi serve questa chiave? Buonasera Ma posso andare? Ah ma si è aperto No Ma posso passare Boh E io la chiave qui l'ho preso Perché non si è aperto la porta? Ma ti vede? No pensi a un po' ringoglionito Buonasera Salve Ah era così Scusami No era questo Creato da Vizky Lì è un mano Burdu Ecco qua Chissà se troveremo qualcuno Che non deve togliere mano Cinque gio- Mai vorrei andare Da Steve No facciamo un gioco Che potrebbe essere Carino Ok Forse Forse Bello No animazione No Mo ne esageriamo Neon Cioè mo ci mettiamo a fare pure le animazioni E mo sa Eh ma quanti costi vuoi? Cioè In verità non vuoi? No ma è finito nel senso Che sono suo amico Capito? Fallito a caricare Eh ma pure altre cose Ho fallito Vabbè quarantena Gente non esce più di caso Quindi i droni ti consegnano le cose In breve Easy E noi siamo un drone Se questo è bello È l'ultimo gioco Usa WASD per muoverti Però Wait 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 Che bello è L'effetto Cioè Ciao vetta Che bello è Che grafichina veramente Bello 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 L'effetto è strafico Proprio bello Distopico Cioè se voleva dare Questo effetto Complimenti Complimenti Se c'è l'uscito Alla grande F per prendere il pacco Ok E ora dovremmo capire Dove andare Se voleva dare Questo effetto Complimenti Cazzo Madonna Fa venire quasi Brividi Fa venire quasi Brividi Eh Eh si Il futuro Neon Questa Neon Il futuro E letteralmente Questo Ok Qui la musica Giuse Bravo Sì sì Ma Mi ha fatto venire Un po' di Di brividino Eh Mi ha fatto venire Un pochettino Di brividino C'è proprio il mood Che ha Così Grigio Però così Reale È Veramente Bello Da come ho capito Cioè praticamente L'aria adesso è una merda Quindi la gente Non esce più di casa Quindi è anche Plausibilissimo Lì credo ci sia uno Zeppelin Molto 1984 Sì è distopico Cioè non è un futuro Futuro Ma è un futuro Misto Perché lì c'è uno Zeppelin Tipo Che cadrà Sicuramente Lo vedremo esplodere Ok Blade run Nathan Sai che non ho mai visto Blade run Mai visto Blade run È una mia grande mancanza Se c'è ancora Ale Domenica L'agosto stringo E ci guardiamo Blade run Che lei l'avrà visto Di sicuro Quindi me lo vedo Me lo rivedo io Cioè lo vedo Per la prima volta io Prendo il punk Cosa stiamo prendendo qua Della minnezza Della minnezza E beh I Zeppelin Sono nati per essere esplosi Letteralmente Bello 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 Mai visto Andrew C'ha Muflo Si gio Ah Ti va a divertire Bravo Muflo Bello Bello Ma in vergogna È nata Non ho mai avuto Occasione Ah ok Vabbè Allora lui È un fico Lo sviluppatore Ok È un fico Però adesso ho paura Per il finale Adesso ho tanta paura Per il finale Tu sei un figuro Tu tu E anche nel gioco delle falene Altro gioco incredibile Però da un gameplay di merda Cioè sono tutti giochi incredibili Ma con del gameplay del cazzo Non ci sta niente da fare Diciamo Allora Quello lì del campo di grano Aveva il problema del finale Quello delle falene Era bellissimo Ma il gameplay era una merda Cioè era bellissimo Esteticamente Quello delle falene Era veramente Incredibile Belli giochi da tavoli L'ultima cosa che ho giocato da tavoli È stato The Witcher Praticamente Sì questo qui per ora Beh cioè Stiamo facendo la stessa cosa Da un paio di minuti Però È bello Cioè tipo sarebbe pure bello Se magari ad una certa Iniziasse ad accendersi le luci Tipo quel nightclub Diventasse rozzo Tipo eh A butto lì Al di qua Giusto per darti Un refresh visivo Però vediamo Non so nemmeno quanto dure Quindi magari Pian piano si andrà a cursare Se vuoi oltre che succede Non lo so Sto cercando di giocarlo Come vuole lui Perché non voglio romperlo E magari Essere costretto a A rigiocarlo Sono le 5 del pomeriggio È anche presto Sì no Dubito ovviamente Non sarà così Perché ci sta È grigio Vuole che sia grigio Oh Ok Eh probabilmente Pachi più creepy Ok Anche se da come ho visto Lui non è che fa Roba proprio creepy Quindi Non mi aspetto L'asfolta Horrorona Nel classico senso E comunque mi sa che stasera Mi mangio la pizza fatta in casa Quindi sono contento Bello però Chissà qua che Che cos'è sta roba È tipo una sorta Ah Qua si buttano i pacchi Molto angosciante Sto gioco qua Si buttano i pacchi qua È tipo Un grosso Una raccolta di fiuti Sì Go home Ah 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 Perfetto Andiamo a casa Io ho mangiato Sul gelata Eh alcune sono molto buone Sul gelata Alcune sono molto buone Questa è un aldeare Ah ma gomma Il drone va a casa Non chi Guida il drone Ah E viviamo in una sorta Di alveare noi Quindi Devo andare Devo andare Devo andare qui dentro Sì Ah Bellissima sta roba Cioè noi viviamo in una sorta Di alveare La popolazione Si è ridotta Per colpa della malattia Ok Alcuni droni Sono stati Distrutti Come Risultato Di alcuni problemi Tecnici Per una ragione Sconosciuta C'è stato un periodo Di pioggia Ah no Il periodo di pioggia acida Is expected Expected Cioè Ah no E' atteso un periodo Di pioggia Di acida Ok Quindi potrebbe esserci Un'altra riduzione Della popolazione E' consigliato In questo periodo Di spostarsi Nei piani Più bassi Ok Va bene Iniziamo a lavorare Perfetto Molto carino Eeeh No Bellissimo Che è cambiato pure Pure il colore Eh ragazzi Bell 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 Mi sta andando a prendere Proprio sul pirulino Eh questo sviluppatore In questo momento Bell 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 Andiamo a prendere I pacchetti Cambiata pure la musica O sbaglio E cambiala anche la musica Molto 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 carina Sta roba qua Però la malattia Oddio quale Ecco rispetto a Blade Runner Dove invece c'è la sovra popolazione A proposito di Blade Runner Raga Ma ce la giochiamo La L'avventura grafica Dei Blade Runner No Lo famo Ma quindi non è Zelda No Frase Più usata In questo canale Oggi Ok Eh la cosa figa Ciao Fumet Fumatia Pixel La cosa figa Dell'avventura grafica È che Tutta in italiano Tutta in italiano Ciao Lemon Come stai Da po' Spero di sì Spero di sì Oggi le battute No Oggi Molto Deluso Dalla comicità Eh No ma ce l'ho Ma Mastro Ce l'ho già Anche perché in realtà Non è un abbandoned War Blade Runner Ok Ma l'hai compratta E beh sì Su Steam Oddio ma Ma sto dicendo giusto Aspetta Non è che non è Blade Runner Fermi Magari mi drogo Ah Blade Runner Eh sì ragazzi È male Ma come è male Sta a comprare Come è male Sì che l'ho comprato Ok Ok Questo Eccoci qua Preso Oddio che minchia Però Che cos'era Un animale O sbaglio È un'oca Ma cazzo Che non l'ho vista bene No è che c'è la Remastered Mastro È quella roba Perché sei bella Ah Ma stiamo portando Una tizia No La pap Oddio ma sono collegati Secondo me I giochi Ragazzi sono collegati Credo In qualche modo Vi ricordate? Ve lo ricordate? In pratica Nel gioco Quello lì Time Paradox Tipo si chiamava C'era un tizio Con una papera Ma non so Se si sta citando Da solo O Se effettivamente Sono tipo una sorta C'è una sorta Di collegamento Ma questo Non lo so dire Può essere Pure che Semplicemente Una citazionina Sua Che si è fatta Però c'è anche Nell'altro gioco Dove c'è Il fatto del tempo Che il tempo Va al contrario Ok Prendiamo l'altro pacco Un altro be' gioco E anche L'unico problema È che Il finale Era una merda Ma risolvevano Il problema Del tempo Al contrario Con una sorta Di arma Che avevano creato Una cosa del genere Quindi potrebbe essere Anche che questo È il mondo Dopo Quello che è successo Cioè che loro Hanno ripristinato Il tempo Ed è finito così La pioggia Cida cazzo Ciao Lemon Bentornato Cazzo Andiamo un po' più veloce Grazie Lemonone Bentornato Oppure questo è prima Certo Lo scopriamo Grazie 29 39 49 Suono Anime Suss Che cazzo Roba di Anime Suss Madonna Madonna Grazie ancora Via via Mi sta prendendo Proprio tanto C'è proprio Una bella Atmosfera È riuscito Benissimo A crearla È riuscito Proprio bene Bene Mi fa venire C'è O caldo Avevo caldo Ma ha fatto venire Il freddo Ma ha fatto venire Il freddo La papera Si esceva Probabile Che se Favate Una brutta Vina Ok Ma ha fatto Venire proprio freddo Andiamo a dormire Ora Ok Eh Non ti preoccupare Dai amor Vai tranquillo 2050 2050 2050 Sono passato un po' d'anni Ok I droni Sono significamente Ridotti Perché ci sono C'è una Paura Sconosciuta Sulla tecnologia Quindi la consegna Medici Ed altri Live Saving È lenta Per alcune ragioni Il numero è caduto Vertiginosamente Anche Ok Ci sono solo 698 droni 520.000 persone E sono le 20 Di sera Del 2050 2050 2050 Overcast Che significa Chat Ok Però è di nuovo Come prima Overcast Che significa Nuvoloso Ok Ok Micro Micro Lowens Caffè Banca Ma no Oh Fammi un bacco Ok Alla fine Dici Ah Sì quello lì Che è venuto a chiedere Perché Nihon Il banner Sicuramente Esagerato Ma uno che entra Ti chiede Puoi dirmi Anime Suss Ma Ti tiene solo La minnezza In chat Capì Cioè Minnezza Però Non vuole Far parte Della chat Ma la gente Come ci va Se qua Se escono C'è solo Morte e distruzione Probabilmente Sarà tutto collegato Ciao Francesca Cioè Io mi immagino Che sia Proprio tutto collegato Che ci arrivi Chissà in che maniera Lì Ma che in realtà Sia tutto Un mega condominio Capì Foghi Ciao Francesca Ma in realtà Non stai Uscendo Ok Cambiando di nuovo Pure qua Ma che significa Ma che cazzo Penso Che ha qualche Verso temibile Sì Letteramente Un gioco distopico Tra l'altro Molto Molto Bello Per ora Ma penso Sarà sempre Bello Cioè Dobbiamo solo Vedere come finisce Se volete cercarlo Su google Mettete le cuffie Ecco No 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 C'è Dlucad Però ci sono Pochissime persone 520.000 persone Ah questo non lo so Penso nella città In realtà O nel mondo Non lo so Penso nel mondo In realtà Sai Di quel che è rimasto Nel mondo Che questa Era quel che è rimasto Del mondo Che ci sono state malattie Copia Oggi Acida No Mai visto Zero Mastro Scusa Ma io penso Nella città Non lo so Non la specifica Non la specifica Ok Ciao Ciambe Ah vanno ancora Cosa Gli alert Oggi funzionano No Funzionano ancora Gli alert Ah Assurdo Chissà come mai Chissà come mai Andiamo a vedere Ok Ok qui ritorniamo di nuovo A dormire Andiamo di qui Oddio Noi tanto Dimentico ancora I comandi Infilo Eccoci qua Andiamo a dormire Vediamo che succede Molto 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 Interessante Vi ricordo romani ragazzi Precisi alle 16 Perché poi Se c'è la coppa Andremo belli veloci Subito giochiamo Il numero delle popolazioni Nella città è zero Tutti Ah ok Nella città Tutti i droni Sono distrutti Dopo un fallimento Critico Il tuo obiettivo Has been updated Tutto Oh no Ci dobbiamo liquidare Dei corpi Cioè dobbiamo Ci dobbiamo Barassarsi dei corpi Numero di droni Uno Povolazione Povolazione zero Water Water Bloody Sunset Don't Starve Si con Sam Se forse domani Ve lo facciamo sapere Letteramente domani Ci dobbiamo Ci dobbiamo accordare Ancora un secondino Per delle cose Tutto rosso Si però non mi dà fastidio Questo qua Perché questo qua Non è rosso Questo qui è È prugnesco Capi? Cioè questo non dà fastidio E sono passati due anni Siamo l'ultimo drone Che cazzo è questo drone? Sono i corpi? Bestia Bestia Sono i corpi Madonna mia Ti dà fastidio Questo tipo di colore A te Mastro? A me questo no Il rosso acceso È terribile invece per me Se era rosso acceso Avrei chiuso Il problema Fosse stato Il rosso acceso Avrei chiuso Questo qua invece Non è un problema Sono contento Che abbiamo Dopo una live Comunque è stata Molto dedicata Alla Alla stronzità Che abbiamo fatto Un sacco di cazzate Abbiamo concluso Con un bel gioco Vero Che sembra super figo Sono contento Sono contento Ok Buttiamo una roba Andiamo a prendere questa Sì sì Molto molto carino Poveria Magari finisce con un clown Che mi fa la cacca addosso E quindi non posso dire Che è molto carino Però Sapete che cosa vi posso dire Prima di chiudere Che ne manca uno Agli 8,75 Quella è una cosa vera Ragazzi È proprio vero Giuro No No Sta roba che stiamo prendendo i corpi Ma no Che poi Quanto ci siamo andati vicino Ad un finale Così Cioè Se ci pensa Fa un po' strano Ma quanto ci siamo andati vicini Ad un futuro Del genere Dove non puoi uscire di casa Mai più E i droni Ti devono consegnare la roba Quanto Ma no Mai dire mai Vabbè Per ora è scongiurato Diciamo Poi in futuro Però Distopico Distopico Ma fino a una certa Fino a una certa Uh No Pensavo di Andavamo dall'altizia Con la papera Ma direi Che ad un certo punto Su volare le città Ci sarebbe stato Un rallenamento naturale No Vabbè Ma sicuramente Cioè Alla fin fine È andato come è andato Però per dirti Ci siamo andati Un pochettino vicino Cioè Almeno per Un mese qualcosa Non era per Per l'amor di Dio Così Però Eeeh Non c'era un cristiano In mezzo alla strada Io quando andavo a lavorare Durante il covid Bestia Le città erano Veramente Fantasme Non c'era Nessuno Nessuno Per strada Sì In qualche mese Stavo terrificando Ma veramente Allora Però che bello Che nessuno in giro Eh sì Però Infatti poi Quando è ritornata la gente È stato quasi un trauma È stato quasi un trauma E qui si sale Signor Signor Wee Solboom Buonasera Tappò Ah stai ad Amsterdam Io ero disoccupato Nel periodo covid Sì Grazie di ti Quindi Share E abbiamo Alex A molti Manca un pochettino Cioè Dipende molto Da che tipo sei Ad alcuni Può anche mancare Quel periodo Altri invece Lo hanno vissuto Proprio in una maniera Traumatica Ok Go home Lì sopra È mo' Al prossimo Che abbiamo Buttato Tutti i cristiani Che dobbiamo fare? Vabbè Alex Bens Io mi sono fatto Praticamente Due mesi Da lavoro Di vacanza Destinazione È stata Appletata Ok Oh no Mi devo andare A self Distrugge Perché? Oddio Il rosso Quello lì Di merda Però Il rosso Di merda Eh capito Eh capito Dipende molto Da che periodo Vivevi Sì però Non dirmi Che il finale Che mi distrugge E basta Dai Guarda un po' Vabbè Di per sé Può essere pure Praticamente Ci siamo Autopuliti E distrutti E non c'è più Niente nella città Sei libero Vedi tutto zero E tutto Ah Bestia l'ha fatto Su ogni 72 ore Bestia Bestia però Allora Diciamo che Come sempre Il Questo sviluppatore Pecca gravemente Nei finali Ragazzi Cioè lui Proprio Minchia Tutti i finali Che fa Sono tutti Una merda Però dai Finito tutto Eh praticamente Si era sviluppato Dalla città Dai Amici belli Meglio Delle 240 ore Di prima Ma non È vero È vero Che chiari Dai amici Ride Ride Essa Io me ne vado A mangià Sono un pochettino Stanco Sono un pochettino Stanco Noi ci vediamo Domani Vi aggiorniamo Con cosa Io ho uno spazio Abbastanza grande Intorno a casa Abitando in campagna Ah bello Io però ne ho dormito Un sacco In quarantena Ho veramente Dormito tanto Sì domani ci guardiamo I video Romani giochiamo Facciamo un sacco di cose Ma amici Soprattutto Fate bravi Vi voglio bene Abbiamo passato Troppo bella serata Ci siamo divertiti Eravamo anche più Del previsto Per me Per quando Anche se oggi C'erano 12 ore 24 ore Tutti quanti Guardano le Zelda Quindi sono molto Quindi sono molto 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 contento Fate i bravi Ci vediamo domani E andiamo a riposare Vi aspetto alle 4 però Ciao M Grazie a tutti Grazie a tutti.